Grazie di essere venuti qui a questo primo evento della Primavera dell'Europa, il futuro comincia da te. Benvenuti, questa iniziativa che si svolgerà nell'arco dell'intera giornata di oggi, dalle 9.30 appunto, anche se abbiamo iniziato un po' a ritardo, fino al pomeriggio in oltre 17.30, è un'iniziativa che si colloca nel contesto appunto della Primavera dell'Europa della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Questa iniziativa specifica è organizzata dai CTE, dai Centri di Documentazione Europea di Roma e del Lazio, da ben 10 CTE, di cui il CTE di Scipo Roma 3 fa parte da quest'anno e noi siamo molto contenti di ospitare nel nostro primo anno già questo evento così importante, di ospitare il primo evento della Primavera dell'Europa. Abbiamo cercato di fare un evento non valutato, quindi saranno 10 piccoli seminari da 30 minuti ciascuno tenuti da vari colleghi accadefici, non accadefici, esperti del processo di integrazione europea. Fuori sul piano avete visto ci sono ben 5-6 desk organizzati sempre dai CTE di Roma e del Lazio con un obiettivo specifico che è l'obiettivo di questa giornata, l'obiettivo è conoscere l'Europa. In vista delle prossime elezioni europee dobbiamo essere consapevoli del perché andare a votare e di come andare a votare avendo conosciuto evidentemente tutte le politiche, approfondite i punti di debolezza e di forza del processo di integrazione europea e dell'Europa. La nostra giornata vuole essere una giornata di informazione, una giornata che non orienta il voto ma che vuole un voto più consapevole. Si tratta di essere consapevoli. Questa giornata poi si inserisce nell'ambito di una serie di attività di Roma 3 che sono lezioni aperte sull'Europa dove ancora una volta abbiamo cercato di diffondere una maggiore di conoscenza d'Europa di altre iniziative di cui porteranno anche il nostro magnifico lettore e il nostro direttore del ripartimento. Ringrazio tutti, la giornata sarà lunga, abbiamo un piccolo light lunch alle 13, per chi vuole rimanere con noi ci fa piacere e quindi do specialmente la prima giornata passando subito la parola al nostro magnifico lettore Luca Pietrovanchi. Grazie, il mio più caloroso benvenuto a tutti voi a Roma 3 nel dipartimento. di scienze politiche diretto dal professor Fiorentino. È per noi veramente un grandissimo piacere accogliere tanti studenti che vengono dalle scuole romane. Questo rientra perfettamente in quello che intendiamo come terza missione, ovvero la proiezione dei nostri insegnamenti, delle nostre attività universitarie all'esterno delle mure dell'università. È una cosa importantissima e questa occasione che ci riunisce qui è cruciale. Come l'ha detto benissimo il professor Torino, noi ci accingiamo al voto, noi sentiamo come nostra responsabilità di formatori quella di accompagnare gli studenti ad un voto responsabile e consapevole. Già accompagnarli al voto, ci sembra rientri perfettamente in quelle che sono le nostre funzioni, quella che è la nostra missione. Proprio in obbedienza è quello che è il dettato dell'articolo 48 della Costituzione che prevede l'obbligo di esercizio del voto. Dunque noi prepariamo gli studenti a questo obbligo, molto semplicemente. Il nostro obbligo è quello costituzionale. Si coniugano per queste manifestazioni di formazione, che questo sono. L'ha benissimo detto il professor Torino, non si tratta di orientare al voto, si tratta di dare consapevolezza relativamente alla posta in gioco. E questo si collega appunto alle elezioni europee che abbiamo svolto qui a Roma 3 in collaborazione con le altre due grandi università pubbliche romane, Sapienza e Tor Vergata. E la settimana scorsa questo bellissimo dipartimento ha accolto una interessantissima conferenza, forse molti di voi c'erano, del professor Sabino Cassese, il quale a un certo punto ha raccontato una piccola parabola che mi sembra raccogliere perfettamente, sintetizzare perfettamente il senso di queste nostre lezioni, di queste nostre manifestazioni, ovvero rendere gli studenti perfettamente consapevoli di che cosa è l'Europa, nella quale sono immersi talvolta senza rendersene pienamente conto, dunque senza capire bene qual è la posta in gioco alle prossime lezioni. La parabola è molto semplice, piccola, è una storiella tratta da un, inventata da un grande scrittore americano Forster Wallace, forse qualcuno di voi ha letto Infinite Jest, sono un bel maloppone ma non privo di sorprese. Ebbene, la storiella parabola, perché veramente è una favola come quella di La Fontaine, un piccolo apologo, racconta di un vecchio pesce che una mattina si sveglia, esce dalla sua tana e proprio lì fuori, subito fuori dalla sua tana incontra due giovani pesci e gli dice salve ragazzi, buongiorno, com'è l'acqua oggi? E uno dei due pesci giovani chiede all'altro pesce giovane, che cos'è l'acqua? Bene, che cos'è l'Europa? Che cos'è questo ambiente nel quale siamo immersi a tal punto da neanche forgercene? Quanta Europa c'è nell'aria che respiriamo, in ciò che mangiamo, in ciò che beviamo, in ciò che leggiamo? Ecco, si tratta di prendere consapevolezza di questo, dell'acqua nella quale siamo immersi e poi decidere che cosa fare di quest'acqua. Grazie dunque a tutti voi della vostra presenza, grazie a professor Torino per l'organizzazione, grazie a Simona Battisti per tutta l'opera che ha fatto, grazie a Claudia De Stefani per la sua presenza, Claudia De Stefani della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La parola dunque a professor Fioriti. Buongiorno, grazie Rettore e grazie a tutti voi di essere qui e di aver contribuito a creare questo evento che è il primo di una serie, di una serie che attraversa tutto marzo come le nostre elezioni sull'Europa per l'appunto, ce ne saranno altri in tutta Italia ma i CDE cominciano da qui il loro lavoro di informazione. Per noi è un grande onore, è un grande piacere poter aprire i lavori, diciamo così, anche perché lo abbiamo voluto fortemente. Quando il professor Torino mi propose, io all'epoca ero il presidente del consiglio scientifico della biblioteca, mi propose questa apertura di un CDE nel nostro dipartimento, mi buttai nella mischia combattendo per riuscire a ottenere tra l'altro in tempi strettissimi l'assenso anche del nostro Rettore che ha firmato tutta la documentazione. Quindi, e come hai già detto appunto alla coordinatrice della biblioteca, alla dottoressa Battisti e a tutte le persone che stanno lavorando qui nel nostro dipartimento, la nostra è una vocazione, il Dipartimento di Scienze Politiche di questo si deve occupare, ovviamente. È una missione di informazione, di formazione che è rivolta soprattutto agli studenti, ma non solo, è rivolta alla cittadinanza, è rivolta agli studenti delle scuole, come hai detto tu, soprattutto quelle di secondo grado. Abbiamo avuto tra l'altro giorni fa giusto una giornata di orientamento dove abbiamo riempito di nuovo l'aula magna, ormai riempiamo aule cercando appunto di stabilire questo contatto tra l'università e la cittadinanza. Tra l'altro stiamo anche stipulando, abbiamo anzi stipulato, dobbiamo fare l'ultimo incontro per le firme, un accordo con il municipio 8 per l'informazione, la terza missione, come viene chiamata. Voglio ringraziare altre due persone che stanno lavorando a fianco a noi per l'Europa e sull'Europa, una è Sara Mataloni che è una specie di nostra press agent, ormai fa un lavoro di comunicazione continuo e mantiene i rapporti anche con molti dei nostri partner e la professoressa Laura Fasanaro che ha organizzato un altro grande evento sull'Europa di cui ti avevo accennato che invece si svolgerà in aprile per lo più con una chiusura all'inizio di maggio che porterà qui tra le altre cose perché di attività ce ne sono molte che abbiamo chiamato domande sull'Europa. Quindi proprio avvicinandoci alla chiusura della campagna, diciamo, e poi prima del silenzio elettorale, informeremo ulteriormente, aperto a tutti di nuovo, in collaborazione con diversi enti e che si chiude con una lezione magistrale del professore Etienne Balibar. Quindi noi abbiamo fatto tutto quello che era ragionevolmente possibile per riuscire a informare sull'acqua appunto e grazie tra l'altro al riferimento alla letteratura americana visto che sei venuto a casa di un direttore che si occupa di cose americane e quindi per me è un piacere che tu abbia ricordato quel romanzo incredibile che è un romanzo della vita, Infinite Jest, di David Foster Wallace. Grazie a tutti voi che siete venuti qui oggi e che partecipate a questa apertura dei lavori e avete visto appunto, non lo ripeto, i banchetti per l'informazione. Informiamo tutto il giorno. È una specie di maratona quella che abbiamo messo su. Oggi è una maratona giornaliera ma abbiamo messo su una maratona stagionale che è cominciata appunto con la visita di Sabino Cassese e si chiuderà per noi di Scienze Politiche con la conferenza di Etienne Balibar. Non male direi. Quindi grazie ancora, grazie ovviamente soprattutto a Claudia De Stefanis alla Commissione Europea. Se non ci fosse l'Europa non staremmo qui a parlare e ce la dobbiamo tenere stretta. Quindi è bene che continuare appunto a fare informazione e a promuovere iniziative di questo genere. Buona giornata a tutti. Passo la parola all'interessante Stefano. Buongiorno a tutti. Grazie rettore, grazie professori per avermi invitato a parlare d'Europa. L'Europa che è in un momento cruciale nella sua storia. Tra breve ci saranno spartiacque e un pochino sono le elezioni europee di maggio, il 26 maggio in Italia. In queste elezioni si riscriverà probabilmente anche l'equilibrio tra le forze politiche che sono insieme al Parlamento europeo e quindi si determinarà un nuovo orientamento anche delle istituzioni, il futuro della Commissione, della nuova Commissione europea e le altre istituzioni chiave dell'Unione europea. Quindi ci sarà una nuova leadership europea, una nuova Commissione, un nuovo Presidente della Commissione, un nuovo Presidente del Consiglio europeo, un nuovo Presidente della Banca centrale europea. Quindi si riscriveranno gli equilibri dell'Unione europea. E dopo 40 anni dalle elezioni del Parlamento europeo, queste sono anche le prime elezioni nelle quali succede qualcosa di diverso. La partita in gioco finalmente è sui temi europei, a differenza del passato dove tutto sommato si giocava di più sui temi nazionali. Quindi la partita in gioco è una partita che è anche decisiva per il futuro dell'Unione europea. L'abbiamo visto, siamo confrontati ad una serie di sfide epocali. Primissima Brexit. Proprio questa settimana è decisiva, ci sarà il vertice dei campi di Stato e di Governo, il 21 e 22 marzo, per decidere sulla richiesta delle autorità britanniche di estendere la permanenza dell'Unione europea per qualche mese, per consentire di buttare a termine l'uscita ordinata dei primi uniti dall'Unione europea. Ma oltre a Brexit, che comunque ci mette di fronte a un fatto abbastanza importante, cioè per la prima volta ci rendiamo conto che il processo di integrazione europea non è irrevocabile, non è irreversibile, quindi ci mette di fronte a una situazione nuova. Ci sono tante altre sfide, c'è la sfida della globalizzazione economica, quindi la questione della povertà, del fatto che si sta divaricando sempre di più la formice tra i ricchi e i poveri del mondo, le migrazioni di massa, i cambiamenti climatici, cioè tutte questioni che richiedono, che sono problemi che vanno al di là delle frontiere nazionali, che richiedono delle risposte unitarie e invece assistiamo alla tentazione di segno opposto, quella di richiudersi dentro i confini nazionali, come se quella potesse essere la risposta, come se tornare indietro potesse veramente essere la risposta. Allora da un lato l'Unione europea sicuramente non è nel suo momento più florido, nel suo momento migliore, ha vissuto, sta vivendo una stagione difficile, c'è stata la crisi economica, la crisi finanziaria è anche una crisi di fiducia, che sicuramente ha creato uno scollamento tra i cittadini e le istituzioni, però è venuto meno proprio quell'idea dell'acqua, cioè del fatto che è l'ambiente in cui siamo immersi, che è il contesto politico, istituzionale, giuridico, in cui agire e non l'antagonista, cioè non il partito da distruggere, non l'antagonista, non una parte in causa, ma il contesto. Questo vogliamo rimettere al centro dell'attenzione, cioè far comprendere che l'Unione europea è il normale svolgimento delle nostre attività e per ricordare questo, per ricordare che si tratta dell'area in cui la qualità della vita è la migliore al mondo per la tutela dei diritti, per il rispetto delle diversità, perché c'è la sicurezza sociale, perché c'è la tutela dell'ambiente, siamo l'area in cui siamo più all'avanguardia nella tutela dell'ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici. Per tutto questo la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno deciso di rivolgersi soprattutto ai giovani con la campagna Stavolta Voto, una campagna verso i giovani, per i giovani, per sollecitarli a coinvolgere altri giovani rispetto all'esigenza di rendersi parte attiva e quindi di essere consapevoli del perché si va a votare e che votare significa scegliere il tipo di Europa che avremo domani. A questa campagna in Italia noi abbiamo deciso di affiancare la primavera dell'Europa, cioè abbiamo deciso di affiancare una serie di iniziative rivolte sia ai giovani, quindi con dibattiti nelle scuole secondarie, con incontri nell'università, ma anche con la cittadinanza, per l'idea di risvegliare un po' di orgoglio europeo, proprio di orgoglio di sentirsi cittadini europei, di avere la consapevolezza di essere in uno spazio che ci permette così tante cose e anche la consapevolezza dell'importanza della nostra partecipazione attiva alla vita democratica. In questa maniera siamo riusciti ad avere dal 18 al 29 marzo più di 200 iniziative, ci saranno più di 200 iniziative in tutta Italia che coinvolgeranno tutti i tipi di cittadinanza, appunto dai dibattiti nelle scuole alla distribuzione delle bandiere europee, con iniziative anche sociali, quindi con fotografie alle bandiere europee, con l'invito ad appendere le bandiere europee ai balconi, soprattutto nella giornata di primavera del 21 marzo. Qui a Roma in particolare la rappresentanza ha preso in carico due iniziative, un tram con i colori dell'Unione Europea che distribuirà le bandiere europee ai passeggeri in una giornata del 21 marzo e un appuntamento musicale a sorpresa, sempre nella giornata del 21 marzo, a Piazza di Spagna, quindi i passanti saranno coinvolti in una nostra iniziativa. Ma a parte questo, un grande lavoro è svolto dalle reti gestite dalla Commissione Europea sul territorio, quindi i centri di informazione Europe Direct, che sono quelli a più diretta con la cittadinanza, e i centri di documentazione europea, che sono normalmente presso le università o presso le biblioteche, proprio con l'intento di promuovere gli studi sull'integrazione europea. Un grandissimo lavoro dei centri di documentazione europea, in particolare di Roma e del Lazio, e come dicevate, proprio da qui oggi, questo è il primo degli eventi della primavera dell'Europa, quindi simbolicamente diamo il via alla primavera dell'Europa da qui, e io credo anche che sia un'occasione per valorizzare il lavoro di questi centri di documentazione europea nelle università rispetto ad un'esigenza concreta che abbiamo verificato di recente. Mi permetto, proprio perché c'è il Rettore, di portare questa esigenza. A fine febbraio, inizio marzo, con un camion siamo andati in giro per l'Italia, con i colori dell'Unione Europea, a parlare con la popolazione di Europa. E siamo stati in varie cittadine, quindi Casetta, Versa, Campobasso, ma anche nelle periferie romane. A Ostia, sul camion, sono sediti due ragazzi laureati, brillanti, con un curriculum che ci hanno mostrato, quindi già con pubblicazioni al loro attivo, laureati in biologia, che candidamente ci hanno detto che noi non sappiamo dove cercare informazioni, quindi non sappiamo cogliere le opportunità. Io credo che noi abbiamo un grandissimo potenziale, un arsenale in questi centri di documentazione europea e quindi mi faccio portatrice di questa idea di fornire un'introduzione all'Europa per gli studenti di facoltà non tradizionalmente evocate come possano essere scienze politiche, proprio per permettere a tutti di sentire che l'acqua c'è intorno a loro, in quale acqua navigare, in quale acqua stanno navigando. Con questo ringrazio ancora una volta Roma 3 per questa opportunità e spero che questa giornata sia utile per tutti quanti e anche per sviluppare un po' di orgoglio di essere cittadini europei. Grazie. Grazie, grazie Valle del Serenis, grazie Magnifico Rettore, grazie Daniele, a questo punto dobbiamo entrare nella parte più operativa della giornata, quindi adesso inizieranno proprio i seminari. Due cose volevo semplicemente ricordare. La prima è che siamo in diretta radio, su Radio Roma 3, la quale farà delle interviste al Magnifico Rettore, ai relatori e ovviamente ai ragazzi che volessero portare la loro voce sull'Europa. Siamo anche in diretta live streaming e quindi potrete anche rivedere le vostre relazioni, i vostri interventi, grazie a Claudio Di Maio che sempre ci aiuta in queste occasioni. Mi rendo conto che adesso l'aula comincia ad essere un po' piccola, però i rappresentanti di CDI dovranno andare a fare il loro lavoro presso i deschi informativi e quindi avremo più spazio per i ragazzi. Chiedo al Rettore a questo punto di lasciare cortesemente il tavolo, ci rivediamo più tardi, ti aspetto un'intervista e inviterei il nostro... Grazie. Grazie. ...che vedo arrivare, in quale appunto... Allora qui adesso sul tavolo dei relatori ci alterneremo un po' io e altri rappresentanti dei CDI e i relatori stessi. Siamo un leggerissimo ritardo però recupereremo, oltretutto sappiamo anche che purtroppo un nostro collega che è Fabio Masini che sarebbe dovuto intervenire dopo il professor Bui per un malanno improvviso non è potuto e non può essere con noi quindi il tempo lo recuperiamo in ogni modo. Allora, rimaniamo come eravamo d'accordo, Adelaide volevi dire qualcosa? Perfetto, niente. Rimaniamo come eravamo d'accordo, ossia che queste sono veramente pillole seminariali, quindi direi al professor Bui di concentrare il suo intervento che ripeto dal titolo Gli Stati Uniti d'Europa nella cultura europea è un tema impegnativo evidentemente che solo lui può affrontare in questo contesto, di rimanere in 25 minuti così da consentire se possibile 5 minuti di domande ai numerosi studenti presenti in sé. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Il futuro comincia da te, anche da me in un certo senso, però forse comincia anche da prima, è un futuro che ha un passato piuttosto di lungo periodo, di cui magari bisogna anche essere consapevoli. Per essere esplicito vi faccio vedere questo libro che abbiamo appena pubblicato che si chiama Gli Stati Uniti d'Europa, però è la traduzione di un libro un po' precedente che risale al 1872 che si chiamava Les Etats Uniti d'Europa e venne pubblicato a Parigi. Allora per dire che il futuro comincia abbastanza prima e la proiezione è piuttosto lunga, però ciò non toglie che siano cose di attualità. Non a caso siamo andati, con l'occasione faccio anche degli appelli a delle iniziative. Siamo andati a novembre del 17 al Parlamento Europeo, ci siamo fatti invitare con un po' di colleghi di vari paesi per commemorare, vedete questa immagine qui, sono Garibaldi e Bakunin. Allora questo signore che nel 72 scrisse questo libro lo faceva perché nel 67 aveva fondato la Lega Internazionale per la Pace e la Libertà che aveva come obiettivo gli Stati Uniti d'Europa e aveva fatto anche un comitato centrale, come una cosa politica insomma, e aveva invitato come presidente onorario Giuseppe Garibaldi e lì c'erano Bakunin, Dostoievski, Vittorico Scriveva, insomma era il meglio della cultura europea che riteneva che fosse razionale creare gli Stati Uniti d'Europa piuttosto che andare all'ennesima guerra. Sapete che poco dopo ci sarebbe stata la guerra franco-brussiana, Garibaldi uscì subito per andare a Mentana e venne bacchettato, però poco dopo con l'occasione si liberò Roma, però la guerra franco-brussiana ha iniziato quel processo di progressiva nazionalismo che ha avuto esiti come sappiamo. Perché faccio tutto questo discorso all'indietro? Perché la consapevolezza dei processi storici che sono di lungo periodo ma nello stesso tempo che contengono molta preveggenza è importante perché se voi leggete quello che diceva Vittorico negli anni Sessanta dell'Ottocento in cui diceva la nostra società sarà il mercato aperto, la circolazione libera, la tecnologia ci consentirà di circolare ovunque, non era ancora stato inventato l'aereo, forse c'erano i palloni così, il cielo sarebbe stato pieno di oggetti volanti eccetera eccetera e tutta una serie di altre considerazioni che adesso magari farò un po' più nell'esteso e secondo me sono molto attuali anche adesso, tra l'altro questa immagine della società che sarebbe stata secondo lui quella del futuro dopo due guerre mondiali è riemersa perché poi più o meno se leggete nei particolari vedete che gli stati repubblicani, il suffragio universale eccetera eccetera, magari lo vedremo un po' per stessi. Perché dico questo? Perché penso che anche nell'attualità sia necessario essere consapevoli che non bastano soltanto delle misure tecniche oppure allora sposto un po' la spesa da una cosa all'altra e cambia qualcosa, ci vuole una motivazione molto più profonda, ci vuole una partecipazione, una consapevolezza e una capacità assolutamente superiore e per questo che gli ambienti universitari sono importanti perché soltanto con maggiori capacità si riesce a affrontare i problemi in positivo. Tra l'altro abbiamo creato anche una rete un po' informale che si chiama l'Università per l'Europa verso l'unione politica e con la quale abbiamo appunto promosso iniziative di questo tipo, sempre per restare nel passato che è futuro, abbiamo anche commemorato recentemente un personaggio abbastanza sconosciuto che però anche quello ha lasciato un segno nella storia a questo punto non solo europea ma un po' l'Europa atlantica. Abbiamo commemorato un tale William Penn, non so se ve lo conoscevi, però è uno che ha fondato la Pennsylvania, cioè a tempo perso così, è stato il primo a scrivere un saggio per il Parlamento europeo elettivo. Bisogna essere anche consapevoli che c'è una matrice profonda in questa storia e c'è un apporto di culture europee molto valido e molto ricco, è un po' un paradosso però gli inglesi, perché lui era inglese, era un po' un po' sessantottino come inglese, insomma il papà era ammiraglio eccetera, però lui era quacchero e quindi contestava la guerra e cose di questo genere. Gli inglesi hanno dato un grande contributo alla cultura del federalismo, sia appunto con questa personalità di William Penn che in Pennsylvania c'è Philadelphia che è il luogo dove sono nati gli Stati Uniti d'America in base federale e lui già aveva tratteggiato un po' questa cosa qui, ma anche per esempio questo signore che si chiamava Charles Monnier invece citava un altro Robert Sealy che un anno prima aveva scritto un saggio molto importante sull'assetto federale dell'Europa e se anche leggete successivamente negli anni 30 del 1900 ci furono grandi apporti del pensiero inglese a questa cultura, così come, ve lo vedremo anche meglio, anche dall'America ovviamente proviene qualcosa di questo genere e secondo me è importante essere consapevole che l'ambito culturale più ampio che non, fatemi fare una lieve critica al Presidente Macron, dell'Europe Puissance, un'Europa che diventa una nuova potenza che così si confronta un po' con gli Stati Uniti, un po' con la Cina eccetera. A me sembra che proprio queste consapevolezze culturali dovrebbero farci pensare che è bene essere coscienti di queste affinità e che sia possibile appunto superare un po' l'idea, io sono la potenza, se no torniamo la pace di Vesfalia, invece è meglio intrecciare rapporti, sottoscrivere accordi che consentano di risolvere le questioni in maniera giuridica, in maniera concordata piuttosto che in maniera conflittuale. Quindi io penso che questo sapere che non è nato tutto dai parti dell'Europa del secondo dopoguerra, io penso che bisognerebbe mettere qualche parte dell'Europa prima per far capire che la cosa... e se poi è anche uno che ha fondato gli Stati Uniti d'America o comunque è stato un fondatore, tra l'altro William Penn e sua moglie sono gli unici otto cittadini americani, benché inglese, onorari riconosciuti in tutta la loro storia, quindi questo personale. E va anche ricordato appunto magari anche al Presidente Trump di queste cose, insomma che non c'è soltanto questa idea della puissanza, pure quell'altra, perché viceversa non è su queste basi che si è costituito il meglio della nostra civiltà, è quello ottenuto che ha prodotto più risultati. Allora, se mi permettete vorrei seguire un attimo il filo di questo testo che noi abbiamo tradotto in italiano, tra l'altro questo Lemonnier era filosofo, era giurista, per esempio aveva scritto un saggio molto importante sul diritto navale proprio per promuovere la comunicazione, sapete questa era l'epoca in cui si pensava di fare Panama, Suez e quindi di aprire i mari, eccetera, eccetera, e poi però si era impegnato soprattutto per l'Europa e appunto aveva anche, non è che non è nato nulla da questo, perché da questi movimenti, per esempio non so, il Problemio Nobel della Pace, la Crote Rossa, il Tribunale dell'Ai, sono nati tutti sulla spinta di questa cultura che non è stata maggioritaria ma che comunque ha prodotto i risultati. Anche i padri dell'Europa c'erano un Luigi Einaudi, non è che è partito da nulla, aveva il background del federalismo inglese che a sua volta era molto in contatto con queste tradizioni culturali. Per esempio qui c'è un saggio di uno studioso francese, sia pure un po' sansimoniano, che dice che secondo lui anche il Presidente Macron ha nella sua tradizione culturale proprio Saint-Simon e queste concezioni, perché come sapete effettivamente è uscita, sia pure con qualche imperfezione o comunque qualche contraddizione, in questo periodo una tradizione di federalismo francese che non c'era molto nota, però ha portato addirittura un Presidente della Repubblica a fare con tutte le reticenze che volete eccetera, però un appello ai cittadini europei per le prossime elezioni e quindi per andare avanti nel processo di integrazione. Anche da questo punto di vista appunto a suo avviso di questo studioso che mi sembra molto attendibile, sia pure che abbia voglia di valorizzare Saint-Simon, che però appunto si tratta di filoni culturali importanti e anche carichi di motivazione. Per cui merita, tra l'altro possiamo anche aggiungere, visto che c'è anche un pubblico femminile, che questi personaggi erano molto legati anche all'idea della promozione della formazione professionale ed educativa delle donne. Per esempio la moglie di questo Lemonnier era forse la prima a promuovere dei collegi di formazione professionale per le donne e poi volevano tutti il suffragio universale per ambedue i generi. Anche un altro personaggio tedesco, perché bisogna anche tenere conto di questo, che era presente nella circostanza, si chiamava Amman Goegh, anche lì sua moglie era stata una delle prime che era attiva per l'emancipazione femminile. Quindi vedete che è un corpus di consapevolezze che dovremmo ottenere, dare per scontato in un certo senso, anche perché appunto ci aiuta a renderci conto che la nostra cultura dell'europeismo è fatta di apporti di vari paesi. Permettetemi dire sempre una cosa che essendo anche spinelliano e federalista non dovrei dire, ma quando il nostro Renzi è andato a Ventotene, assieme se vi ricordate la Hollande e la Merkel, ha detto che qui è nato il tutto. No, non è vero. Tra l'altro da italiani non ci conviene nemmeno dire ci siamo inventati tutti noi, no? È meglio dire guardate, le avete inventate voi queste cose e adesso non le volete applicare. E questo, in inglesi riguarda molto questo discorso. Tra l'altro stavamo leggendo proprio in questi giorni un articolo scritto in inglese da una persona un po' colta che citava questi inglesi che quando parlano, per esempio Farage mi pare che dicesse, ma nell'atto di supremazia era previsto che l'Inghilterra dovesse stare fuori dall'Europa. Cioè questo anche qui, questi background culturali in alcuni paesi emergono quasi tutti i giorni come fossero e hanno avuto tutto un dibattito appunto se era giusto questo, adesso non cito altre cose, ma insomma anche qualcosa che risaliva al 300 per cui non andava bene. E allora quell'altro gli diceva, ma no guarda che invece nell'800 anche noi abbiamo riconosciuto ai papi di ritornare in Inghilterra eccetera, insomma va bene non la faccio lunga, però questo spessore culturale è importante e secondo me è decisivo e mi permetto, appunto dicevo di fare qualche appello, così come abbiamo faticosamente iniziato a convincere il Parlamento europeo che si faccia ogni tanto un evento di comunanza culturale e nel caso è stato l'Omevole Sassoli che sia pure un po' sospinto alla fine ci ha aiutato a farlo, io penso che le università europee dovrebbero promuovere almeno una volta all'anno un evento al Parlamento europeo di cultura comune per essere consapevoli di queste affinità e io penso che sarebbe molto importante proprio per percepire quello che è un dato di fatto che paradossalmente non viene abbastanza riconosciuto. A titolo di esempio noi continuiamo a dare le notizie, i commenti eccetera su cose che interessano tutta l'Europa facendo parlare solo non so i giornalisti oppure i politici italiani, ma cominciamo a far parlare anche qualche europeo quando si tratta di cose che ci riguardano tutti così almeno sappiamo cosa pensano, però ancora siamo troppo ancorati a questa, quindi noi italiani gli spieghiamo che il federalismo sarà inventato a Tiro Spinelli e bisogna farlo, il francese dice no, è tutta una cosa francese eccetera eccetera, quando la realtà appunto è piuttosto diversa e quindi però bisogna passare un po' alla pratica, rendere normale che un commento su un provvedimento adottato a livello europeo abbia anche una presenza di un tedesco o di un danese, se posso dire una cosa non tanto bella sto facendo un corso magistrale in questi giorni con studenti di editoria e scrittura ma vi assicuro che l'Ucraina e la Turchia era una parte dell'Unione Europea per la loro acculturazione all'Europa e quindi è assolutamente necessario che si muova qualcosa. Fortuna che finalmente una volta queste elezioni spingono a interessarsi di Europa perché fino adesso era stata, tra l'altro con questa rete Università per l'Europa era mandata anche al Presidente Mattarella a dire ma volete mettere un po' di corsi o due crediti in tutte le università per sapere l'ABC e di che cosa si parla, fino a qualche anno fa alcuni miei colleghi della Commissione dicevano una Commissione parlamentare, magari non proprio ieri, però comunque la solita domanda che differenza c'è tra Consiglio d'Europa, Consiglio europeo, Consiglio dei ministri? Il vuoto, il genere è sempre così, magari si potrebbe fare un'istanza a livello di Unione Europea per dire cambiate questi nomi se nessuno ci capisce niente, non deve essere solo una cosa passiva siamo ignoranti, obiettivamente non è facile per una persona distinguere... Anche al Consiglio d'Europa a questo punto di cambiare il loro nome? Qualcosa del genere, ma anche i giornali, la foto di Strasburgo, la foto di Lussemburgo spesso non corrispondono poi a quello che ci sta dietro, ecco quindi come si fa a mandare 500 milioni di persone a votare e non sanno quello che votano, insomma effettivamente c'è bisogno di sentire questa percezione e questo dovere, anche perché appunto l'Unione Europea decide parecchie cose che che se ne dica, fatemi dire anche una cosa brutta, la corte di giustizia, la corte dei conti, ma noi sappiamo chi sono questi personaggi, no, eppure vengono prese decisioni estremamente importanti, insomma credo che sia necessario spostare l'attenzione più che sul chiacchiericcio quotidiano, anche sulle cose interne e anche su quelle cose che non funzionano istituzionalmente, è per quello che mi richiamo sempre qua, perché non è che l'Unione Europea sia, si dice, i burocrati, colpa loro eccetera, ma guardate che le istituzioni sono ancora un compromesso molto, molto, un po' deludente fra l'aspirazione federale e le resistenze confederali, no, che sappiamo, anche il presidente Juncker ha detto che bisogna votare un po' più a maggioranza se no non si riesce a decidere, mi ricordo anche il commissario lituano che in fondo essendo lituano potrebbe avere pure interesse a mantenere l'unanimità che diceva ma qui in commissione non riusciamo spesso a decidere perché siamo troppi, si sovrappongono anche le responsabilità e cose di questo genere, è solo un esempio ma ce ne sono tante, allora per esempio questo signore qui già allora aveva l'idea chiara di come funzionava il sistema federale americano e appunto diceva anche guardate che anche gli svizzeri hanno adottato quel sistema sia pure con alcune modifiche, però vedete che c'è una consapevolezza istituzionale delle motivazioni come fare per tenere assieme soggetti diversi e che non può essere ignorata e non a caso essendo giurista aveva già colto molto bene quali fossero le caratteristiche, qualcuno lo accusa che non fosse vero, però a mio avviso se uno legge si rende conto che è così e la cosa altrettanto interessante era di essere consapevoli appunto che c'è un modello americano e c'è anche un modello svizzero, noi non facciamo nessun dibattito sui modelli federali benché si parli di Stati Uniti d'Europa eccetera eccetera, quelli che siano più consoni a quelle che siano le nostre aspirazioni, se vogliamo fare l'Europe qui sans faremo un altro presidente che metterà il dito sulla bomba atomica e provocherà le guerre mondiali, se vogliamo avere una concezione dell'Europa meno puissance, più fondata sul fatto che 500 milioni di persone con forte cultura, con uno stato sociale eccetera abbiano un impatto trascinante sul resto degli altri allora magari puntiamo più a una cosa più condivisa, l'università dovrebbe servire anche a questo, io però ancora non vedo un grande, l'idea è o usciamo dall'Europa o facciamo la federazione europea, ma come sarebbe il caso di ragionarci un po' di più e anche da questo punto di vista qui troviamo una persona appunto che non so l'aveva compreso ma insomma queste cose erano state progressivamente enunciate, non so quanti minuti mi restino 5? 5? Ecco allora scorrendo, va bene insomma il testo si trova sia la consapevolezza che il processo è un po' di lungo periodo, tra l'altro non è solo una cosa storica perché Churchill quando al Laia nel 48 rilanciò l'idea dell'integrazione parlò del grande sound di Enrico IV che risaliva ai primi anni del 600 eccetera per dire guardate a voi francesi appunto che questa idea è di lungo periodo e qui tra l'altro viene citato, viene citato la Bé de Saint-Pierre perché poi gli europei questo impulso europeista c'erano sempre alla fine di una guerra, dopo essersi ammazzati vabbè allora rilanciamo, però in questo caso per esempio lui aveva paura di una guerra però non era proprio subito dopo una guerra e quindi anche qui si mostra che aveva, era un impegno più di lungo periodo che non diciamo nell'immediato, si cita per esempio lui è francese come punto di riferimento importante Immanuel Kant che per lui era il riferimento più importante ancora più appunto dello stesso Saint-Simon che pure era un francese e questo anche allora per dare l'idea della continuità di un processo, anch'io una borsa Immanuel Kant perché è tedesca e molto solida, sono andato a un congresso dei kantiani e come scorre questa descrizione? Ecco Kant, ecco lui, anche qui emeggono delle cose importanti che su me sono di molta attualità, cioè appunto noi non possiamo pensare di impostare la nostra società soltanto sullo spostamento di una spesa da una parte all'altra, ci vuole, qui si parla già della persona, cioè della responsabilità individuale nella democrazia e se ci pensate in una situazione come la nostra o c'è qualcuno di molto forte diciamo che impone una linea insomma a tutti, per esempio gli inglesi obiettivamente hanno una maggiore continuità di istituzioni per cui non c'è questo populismo così magari di reazioni immediate eccetera, ma proprio lì dove queste sicurezze sono minori è molto importante che ci sia diffondere questa idea che è il senso anche etico individuale che conta per poter avere una democrazia che sia efficiente, qui è già presente questo richiamo e anche alla giustizia ovviamente, cioè in queste consapevolezze c'è proprio l'idea, è già presente lo Stato sociale in qualche modo perché lo Stato deve essere organizzato per assicurare la giustizia sociale, faccio un piccolo passo indietro, in quella circostanza non andarono a Ginevra Mazzini perché diceva prima bisogna liberare tutte le nazionalità anche con la lotta e poi faremo la federazione europea, ma invece Marx scrisse ma no noi abbiamo bisogno della rivoluzione socialista insomma quindi voi siete un po' dei borghesi, beh obiettivamente forse però la soluzione più concreta veniva proprio da questo, cioè da lo Stato sociale per cui non escludere l'iniziativa privata eccetera eccetera però rivolgerla soprattutto all'interesse generale, con questo e con la scienza e questo secondo me per l'università è importante anche oggi, appunto i problemi sociali li possiamo risolvere al meglio soltanto se siamo più capaci e io penso che l'Unione europea dovrebbe spendere molte più risorse per la ricerca scientifica in funzione dell'interesse generale, mi sembra che appunto questa tradizione contenga delle cose di grande attualità e che condividiamo appunto con altri e che varebbe la pena di promuovere, tra l'altro dicevano inutile continuiamo a tenere milioni di persone in armi e non possiamo spendere per l'istruzione mandate a casa queste persone, non fate più cannoni e daremo a tutti l'istruzione gratuita e universale perché questo avvicina ovviamente le persone. Ecco, mi fermo direi perché le cose da dire sarebbero troppe però questa lega per la pace e della libertà insomma io credo che oggi ci sia bisogno un po' di avere di nuovo un'ideologia tra virgolette della federazione europea, cioè qualcosa che ha le sue consapevolezze di lungo periodo, le sue motivazioni e la sua volontà di innovare positivamente sulla base del fatto che appunto in Europa in fondo si contengono tante capacità, potenzialità e occasioni per far del bene al resto del mondo oltre che a noi stessi che vale la pena di valorizzare. Grazie. Grazie. Ringraziamo il professor Gui, non so se c'è qualche domanda da parte del pubblico su quello che lui ha detto, io una domanda però ce l'ho e quindi approfittando del mio ruolo qui di coordinatore, più o meno per il momento, glielo chiedo. Ha fatto riferimento all'appello di Macron sul nuovo rinascimento europeo, un appello che molti hanno applaudito, a cui hanno applaudito come un'iniziativa sicuramente opportuna, ma che altri hanno letto come però un appello fortemente intergovernativo, con un chiaro accento intergovernativo. Allora una riflessione su questo, primo se anche lei vede in questo rinascimento però proprio un appello intergovernativo quindi una nuova rivincita dello spirito nazionalistico. Secondo, se questo è l'inevitabile futuro dell'Unione Europea per andare avanti, perché poi gli strumenti invece realmente cooperativi non se ne vedono molti. Diciamo, i primi quando fece il discorso la Sorbona era più federalista di quanto ha parlato adesso, ma diciamo che direi che ha lasciato aperte un po' le strade a seconda di com'è la situazione, perché poi ognuno degli uomini politici attuali ha molta paura di come va a finire il voto e anche in Germania gli hanno risposto molto sì forse però bisogna non spendere più i soldi per andare a Strasburgo o al Parlamento Europeo perché dobbiamo risparmiare eccetera, per la paura che magari vincano di più quegli altri. A me sembra che nel fondo la sua motivazione sia quella di andare avanti. Quest'idea dell'Europa e poi Sanso un po' ovviamente mi dà, ma capisco anche che mi hanno dato il conto che non siamo tutti uguali come i paesi europei, ce ne sono due che sono potenze nucleari e che stanno nel Consiglio di Sicurezza dell'Onno a titolo permanente. Gli altri sono paesi un po' più vinti e ragione di più che dovrebbero metterci ancora più energia e capacità per cercare di superare anche queste cose. Qualcuno giustamente ha detto, insomma lui lascia aperte le potenzialità e bisogna però che poi dietro ci sia la spinta per poter, vedrà quello che riesce a fare mi sembra insomma. Ecco qualcuno per esempio ha detto, effettivamente questo è importante, sulla questione della difesa se noi gli diciamo subito mettiamo in comune la forza del FAP, chiamiamola così per non chiamarla bomba, chiaramente ti diranno no. Se però introduciamo qualche aspetto di gestione federale di alcuni aspetti della difesa allora cominciamo a fare dei passettini avanti che poi sapete che i meccanismi istituzionali un pochino diciamo si rafforzano da soli andando avanti ecco, però bisogna studiarsene queste cose. A livello universitario bisogna essere un po' meno semplicistici, bisogna entrare più nel concreto e fare delle strategie, per esempio elaboriamo anche qualche parola d'ordine europopulista, tipo siamo sicuri che nessuno condiziona tutto il sistema delle nostre carte di credito, dei nostri computer eccetera per cui un bel giorno o si perderanno le memorie oppure si spegneranno la luce e resteremo così. Abbiamo mai chiesto a un parlamentare europeo se si è incaricato di dire alla commissione siamo sicuri che abbiamo la memoria di tutto, abbiamo gli strumenti per tutelarci, eppure guardate che questo è peggio della bomba atomica. Io non ho mai sentito uno che abbia chiesto una cosa di questo e sappiamo bene che non è proprio roba nostra questa tecnologia, però se uno aspira, non dico alla puissance, ma almeno a essere un soggetto dotato di quei poteri necessari a autotuderarsi queste cose sono fondamentali. Così come ci sono delle assurdità, appunto mandiamo tutte queste persone a Bruxelles, a Strasburgo e li tutela la polizia belga, oppure le istituzioni, sarà il caso di creare qualcosa di più rassicurante per noi, perché rendetevi conto di che cosa vuol dire se queste persone che decidono le cose così importanti non sono abbastanza tutelate. Non so chi magari parte e torna nell'isola di Malta e siamo sicuri che nessuno gli dà fastidio, eppure ripeto gestisce il nostro futuro, perché oltretutto si vota sempre one man one bow, cioè in questo caso si vota molto spesso all'unanimità, ecco, tutte queste cose. Se c'è una forma mentis io credo che si può andare avanti. Grazie, ringraziamo ancora il professor Gui per questo intervento di apertura, mi sembra molto interessante della nostra giornata, ti chiedo di accomodarti. Informazioni di servizio per i colleghi dei CDE, ovviamente io ho perso memoria di chi voleva dire qualcosa rispetto al singolo relatore, perché voi sapete che ogni relatore è stato coinvolto da un CDE a dimostrazione di come questa sia proprio un'iniziativa congiunta dei CDE di Roma del Lazio, quindi sentitevi liberi di venire, di raggiungerci in qualsiasi momento. Adesso ci sarebbe stato l'intervento del professor Fabio Masini sulla riforma della governance economica europea, purtroppo come vi ho detto lui ha avuto un malanno improvviso anche abbastanza serio e a lui vanno tutti i nostri auguri di pronta guarigione, speriamo presto di vederlo qui con noi ancora. Buongiorno a tutti, con molti di voi ci conosciamo, anche con molti dei ragazzi che hanno partecipato, alcuni già dall'edizione del precedente anno al progetto di a scuola di open coesione, e quindi sono contenta di vederli qui di nuovo, quindi sono dei recidivi perché non gli è bastato occuparsene per un anno, ma hanno deciso di seguire il loro progetto anche per il secondo anno e quindi vuol dire che si sono appassionati un po' a questo lavoro e questo diciamo ci fa ben sperare per il futuro. Per quelli che non conoscessero il progetto di a scuola di open coesione, lascio poi un po' la parola ai ragazzi che lo illustreranno probabilmente molto meglio di me, comunque si tratta di un processo che vuole sollecitare lo spirito civico attraverso azioni di monitoraggio civico di progetti che sono cofinanziati dall'Unione Europea. Questi ragazzi quindi scegliono sui loro territori un progetto che ritengono interessante e lo monitorano e lo valutano sotto tutti i punti di vista e spesso diciamo che sono in grado di mettere in luce molte criticità che noi amministratori che vedono la situazione dal centro non riusciamo ad individuare, quindi il loro lavoro è assolutamente complementare rispetto al nostro e rappresenta quella chiusura del cerchio che è necessaria tra istituzioni e cittadino, ancorché giovane e in formazione. Vedo che ci sono altri ragazzi che ci stanno raggiungendo, ci sono altri ragazzi che sono coinvolti nel progetto di a scuola di open coesione, sabato hanno svolto anche loro un servizio alla cittadinanza perché hanno organizzato un open day su quello che hanno scoperto seguendo le tracce del loro programma e quindi per noi era importante che oggi ci fosse questo incontro tra giovani che hanno fatto la stessa esperienza anche se in settori diversi, ciascuno dei quali però sicuramente uscirà da questa esperienza con molte informazioni in più e anche con una dimestichezza a trattare con la pubblica amministrazione che non è affatto un fattore scontato per dei giovani ancora in formazione nella scuola superiore secondaria. Quindi benvenuti a tutti, siamo contenti che abbiate voluto partecipare a questa giornata e io adesso per il momento lascerei proprio la parola ai ragazzi dell'iniziativa che si chiama Muro, in effetti è un'iniziativa che si occupa di persone in difficoltà, sono persone ristrette nel carcere di Re Bibbia che hanno avuto la possibilità con i fondi strutturali di fare dei percorsi di formazione per un miglior reinserimento nella società una volta terminato il periodo di defunzione di pena. Quindi chiamo accanto a me gli speaker che vi spiegheranno, vi illustreranno il loro progetto e poi prenderò io la parola per la conclusione. Allora la parola. Buongiorno, sono la professoressa Festuccia del liceo Giuseppe Carducci di Roma. Loro sono i ragazzi della Quinta S dell'indirizzo economico-sociale e devo dire che loro hanno imparato a nuotare nel mare Europa perché hanno analizzato, monitorato i dati proprio offerti dallo SPES e hanno fatto un monitoraggio civico sulle persone ex detenute e hanno visto a livello europeo le differenze e quindi loro adesso vi racconteranno bene quanto è importante molto più le misure alternative rispetto al carcere. Buongiorno a tutti, noi siamo appunto il Team Muro, un acronimo di Muoviamo i Sceniti ricercato oltre, oltre il muro dell'indifferenza. Nel nostro percorso ci siamo occupati di monitorare come vengono spesi fondi pubblici finanziati alla formazione e al reinserimento delle persone detenute e ex detenute nella società. Quanto alla stessa Costituzione, nell'articolo 27 terzo comma, riconosce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E noi è proprio sul concetto di rieducazione che ci siamo soffermati, scopendo purtroppo che in Italia le misure alternative al carcere tradizionale, vale a dire quelle attività che impegnano il detenuto e la detenuta durante il periodo di detenzione, in Italia sono scarse e tutto ciò conduce all'aumento del tasso della recidiva ed in Italia il tasso di recidiva equivale al 69%, mentre in altri leios europei, come ad esempio la Germania, la recidiva è del 19%, ma comunque di questo ne parleranno meglio il nostro project manager e la nostra analista. Quindi l'idea che noi vogliamo presentare è appunto quella che abolire il carcere si può. Si può abolire l'idea del carcere come luogo in cui l'uomo è soggetto a punizioni e si può arrivare invece ad un carcere come forma di riscatto. Ora passo la parola al nostro project manager. Allora, sono sempre fatti europei nostri. La nostra classe che appunto frequenta un indirizzo che è quello del liceo economico-sociale è molto attenta a quelle che sono le politiche europee. Infatti durante il nostro percorso abbiamo spesso collaborato con Europe Direct. Il 9 maggio dell'anno scorso, festa dell'Europa, abbiamo parlato presso la sede dell'Agenzia per la coesione europea del nostro progetto. Europe Direct ci ha parlato di come vengono gestiti e come vengono monitorati i fondi europei e inoltre ci ha parlato anche dell'importanza della chiarezza nel linguaggio all'interno dei progetti. Queste sono le nostre foto. Per esempio abbiamo parlato anche allo Spazio Europa presente a Via Nazionale. La nostra classe l'anno scorso ha partecipato al progetto a Scuola di Concoesione, un progetto che mira a creare una cittadinanza attiva che possa monitorare tutti i progetti che sono presenti nel nostro paese di politiche di coesione europea. Salve a tutti, questo è il nostro logo. Abbiamo scelto questa freccia che rompe un muro di mattoni per rappresentare il nostro lavoro che tenta di abbattere ogni pregiudizio. Abbiamo voluto inserire anche il logo di Rising Pari in Genere per ringraziarli del loro continuo sostegno e del loro aiuto che ci hanno offerto. La nostra professoressa Daniela Marcucci appunto fa parte di questa associazione e ci ha aiutato molto. Queste sono delle foto che sono state scattate durante la creazione del nostro ASOP Wall in cui appunto vengono sintetizzati tutti i passi del nostro lavoro. Ogni studente aveva il proprio ruolo che era stato assegnato in base al test delle intelligenze multiple di Gardner e questi siamo noi con tutti i nostri ruoli. Adesso vi esporrò che sono state un po' le tappe della nostra ricerca. Allora dunque siamo partiti dal sito di Open Coesione dove si trovano tutte le statistiche, grafici e informazioni dettagliate su come vengono spesi i fondi europei. Su questo sito è presente un'enorme quantità di dati, dati che vanno da progetti di tematica ad esempio per il trasporto, per l'ambiente. Noi ci siamo soffermati appunto su un bando che aveva l'obiettivo di reintrodurre le persone ex detenute all'interno del mondo del lavoro nel comune di Roma. L'attuatore di questo bando che aveva una somma di circa 97 mila euro era Colcarceri. Colcarceri è uno sportello del comune di Roma che è un centro per la collocazione al lavoro che però in una sua sezione si occupa anche appunto del riserimento delle persone ex detenute. Il nostro team si è recato proprio presso questo sportello per fare delle domande aggiuntive riguardo alla loro attività. Durante il nostro percorso poi abbiamo anche intervistato degli esperti in questo settore. Abbiamo intervistato Stefano Anastasia che è il garante delle persone detenute della regione Lazio e della regione Umbria e poi il docente Alessandro Reale che è prof all'interno dell'istituto penitenziario di Rebibbia. Durante il nostro percorso abbiamo realizzato numerosi video e numerose post sui nostri social proprio per sensibilizzare i cittadini riguardo sia alla tematica del reinserimento delle persone ex detenute ma anche sull'importanza di questi fondi di coesione europea che anche con una piccola somma perché diciamo il bando che abbiamo monitorato noi era un bando abbastanza ridotto. Anche con una piccola somma si possono fare delle grandi azioni che servono appunto a creare quella che è la coesione territoriale del nostro paese ma anche degli altri paesi europei. Ok questo è proprio la diciamo abbiamo riportato qui su questa slide i dettagli del diciamo del bando che abbiamo monitorato. Abbiamo dato da alcune fonti che il tasso di recidiva cioè il tornare a delinquere è un indicatore della capacità del sistema penitenziario di rintrodurre il condannato della società e possiamo vedere di coloro che sono usciti dal carcere soltanto il 68% torna a delinquere mentre invece i servizi sociali e anche le misure alternative che sono molto più efficaci soltanto il 19% torna a delinquere e queste misure alternative in Europa vengono molto utilizzate come i paesi come il Galles e l'Inghilterra con il 64% dei casi, la Germania con il 72% e la Francia con il 70% mentre l'Italia soltanto il 45% dei casi che ne è trattato con le misure alternative e di cui il 94% dei casi sono affidati e condannati per reali stradali o il 6% condannati per reali minori fino a 12 mesi di detenzione e questo ci fa capire come potremmo prendere esempio dagli altri paesi europei che comunque sfruttano molto meglio e molto meglio le misure alternative. Questo progetto è stato presentato l'anno scorso con un evento e anche al progetto a scuola di ombra in coesione e dove abbiamo ricevuto il premio per l'ambito dematico vista che visto la dematica molto importante e proprio dibattuta nel mondo presente. Adesso vi faremo vedere due dei video che abbiamo realizzato perché l'aspetto visivo è quello che siamo più coinvolto all'interno dei mezzi di comunicazione di massa quindi riteniamo opportuno che queste tematiche vengano dibattute. Ciao a tutti, siamo la classe 4S del liceo giusto a Cassucci di Roma. Quest'oggi vogliamo presentarvi i nostri progetti di monitoraggio civico. Siamo il team Nuro che è la cronica di Moviamoci Uniti cercando oltre e quest'anno il nostro progetto di alternanza scuola lavoro ci ha permesso di concentrarci nell'affrontare i pregiudizi contro le persone di denute e le persone a essere denute. Tra le tante aziende che abbiamo svolto quest'anno ci hanno preso il terriore briga di andare a visitare i centri che si occupano delle altre per le applicazioni sociali, tra cui i due carceri che è il centro all'orientamento del lavoro e una casetale che ha degli sportelli pubblici. Il call offre un servizio gratuito di consulenza sul mondo del lavoro individuale o di gruppo interaggendo con la rete dei servizi di impiego e con le realtà istituzionali, economiche e sociali. Inoltre si offre un servizio mirato a target svantaggiabili, nel senso che gli immigrati, i fiduciati politici, le persone insabili e le donne. Ma la categoria che mi interessa di più è soprattutto quella delle persone di denute e le persone di denute. Dopo tanto lavoro e tante ricerche, dopo aver visto la promozione di denute, possiamo capire quanto per lui sia difficile trovare una comunicazione, quanto sia complicato soprattutto capire che si avrebbe potenzialità. Con questo incontro abbiamo potuto intervistare i due agenti di colcarceri, che a loro abbiamo chiesto come si comportano tanto a loro che è richiesto d'aiuto. Adesso i due agenti ci hanno ripreso e si occupano per emergere le qualità del lavoro e infatti il nostro programma è il termine piano a cercare il lavoro benedetto. Dopodiché ci siamo occupati di quali sono le azioni che si rivolgono i cittadini e quindi ci hanno orientato le tassi del percorso del risultato. La prima fase è l'accoglienza e i manuali sulla domanda bisogno. La seconda fase è le relazioni delle informazioni e limiti al soggetto. La terza fase è il counseling e la quarta fase è le tecniche esprimite da utilizzare nella ricerca del lavoro. Tra i tassi di scorsi e scontari hanno avuto difficoltà anche a ciò che sono spesso con gli europei. Con il carceri infatti ci hanno dovuto essere utilizzati l'adatto e poi ad un documento è più facile e quindi con tutti ci hanno rimanato da con il carceri. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, grazie. Non so se c'è qualche domanda da parte del pubblico per lei, ragazzi. Capisco che molta parte del pubblico conosce bene questo progetto, però da parte devo dire che invece apprezzo moltissimo che grazie ai fondi dell'Unione Europea si è riuscita a realizzare un progetto così interessante evidentemente. Quindi grazie, complimenti ancora. Allora, permettetemi di essere, anzi, a tutti noi dell'Agenzia di essere orgogliosi per aver seguito come amici di Open Coesione questo gruppo come tutti gli altri che stiamo seguendo perché è una vittoria anche per noi, come dire, aver avvicinato questi ragazzi a queste politiche che hanno spesso un linguaggio così ostico. Infatti ricordava il project manager che abbiamo dedicato parte dell'incontro alla semplificazione del linguaggio. Come agenzia speriamo di poter mettere in atto un bando prossimamente per monitorare il linguaggio delle politiche di coesione e cercare di elaborare un manuale da distribuire poi a tutte le amministrazioni per usare un linguaggio più consono, più vicino anche alla sensibilità di tutti i cittadini. Detto questo, si è parlato molto di programmazione comunitaria e a breve vi mostreremo un video, ma anche questo molto breve, su a che punto diciamo sullo stato dell'arte dell'attuazione della programmazione comunitaria nel 2014-2020, perché dico solo due numeri, i ragazzi diciamo sono partiti dal loro microcosmo, quindi dal loro micro progetto di 97 mila euro, ma diciamo che le politiche di coesione in Italia coinvolgono tra finanziamento europeo e nazionale una somma pari a 140 miliardi, quindi se è da spendere in sette anni, si tratta quindi diciamo di una somma molto importante che dobbiamo cercare di spendere al meglio. 31 dicembre 2018 abbiamo avuto un passaggio importante per i tecnici, insomma si parla dell'N più 3, in più in soldoni si può dire che le spese iscritte in bilancio devono essere spese entro tre anni, altrimenti si perdono, quindi l'Italia era in forte ritardo, fino a metà dell'anno scorso c'è stato un grande recupero e siamo riusciti a spendere il 99,5 di queste risorse con una perdita quindi minima. 48 dei 51 programmi nazionali e regionali sono riusciti a raggiungere il target. quindi adesso vi mostreremo questo breve video sullo stato dell'arte e ringraziamo veramente tutti per averci ascoltato e insomma i numeri sono ancora dalla nostra parte quindi dobbiamo avere fiducia nonostante la stampano spesso amica. Applausi Grazie 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 Buongiorno a tutti, vi presento la collega Nicoletta Palazzo che è tecnologo presso il Consiglio nazionale delle ricerche per l'ufficio di relazioni europee internazionali e da oltre 30 anni si occupa di programmi e progetti europei quindi chi meglio di lei può illustrarci la ricerca in Europa? Prego Nicoletta Scusa, mi stavo tecchiando con la chiavetta Buongiorno a tutti Scusate, recupero la presentazione Buongiorno a tutti, come ha detto la collega, lavoro al CNR, all'ufficio relazioni europee internazionali, lavoro su programmi di ricerca europei, quindi per farvi una presentazione, per farvi capire come si sono evoluti i vari programmi europei di ricerca ho fatto un breve excursus su come sono nati, come si sono evoluti nel tempo e dove siamo adesso e poi diciamo anche come brevemente come si partecipa e vi darò poi anche un cenno su una particolare azione del programma quadro di ricerca europea che riguarda i giovani ricercatori quindi i giovani ricercatori, i dottorandi, eccetera, e da opportunità, offre opportunità di mobilità transnazionale, transitoriale Allora appunto, torno indietro per raccontarvi che i primi programmi europei, le prime attività di ricerca europee risalgono all'istituzione della comunità europea del carbone dell'acciaio nel 51 e della comunità europea per l'energia atomica nel 58 questi appunto sono i primi programmi collaborativi su scala europea, la comunità economica europea invece non includeva nel trattato istitutivo attività di ricerca come settore di propria competenza quindi le attività diciamo di ricerca collaborative che in qualche modo soprattutto per le scienze dure erano già comuni tra gli scienziati iniziarono a essere inquadrate al di fuori del quadro comunitario ma attraverso iniziative intergovernative per cui risalgono a questi anni, i primi anni 50, poi 60, inizi anni 70, l'istituzione di alcune organizzazioni multilaterali intergovernative quali il CERN di Ginevra, l'Organizzazione per la Ricerca Nucleare, lo European Southern Observatory nel 62, l'NBL nel campo dell'antologia molecolare nel 63 e sono nate poi all'inizio degli anni 70 l'iniziativa COST, l'European Cooperation in Science and Technology nel 71 COST esiste ancora adesso e la European Science Foundation nel 74 queste due iniziative diciamo promuovevano azioni di cooperazione concertata, azioni di coordinamento e networking diciamo tra i vari partner non solo negli stati membri della Comunità Economica Europea ma anche oltre appunto per collaborare, scambiare informazioni, trasferire conoscenze in alcuni settori di volta in volta individuati qua come prioritari il coinvolgimento della Comunità Economica Europea quindi al di fuori dei settori che riguardavano le fonti di energia ma la ricerca in generale sono iniziate negli anni 70 e iniziarono ad essere adottati come singoli programmi tematici a mano a mano che emergevano delle esigenze di ricerca particolari per esempio nelle tecnologie industriali dei materiali, le information technologies, i trasporti, l'aeronautica eccetera e questi programmi avevano durata quadriennale il primo programma quadro vero e proprio di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea come strumento strategico per programmare la ricerca a livello europeo in maniera più coerente fu adottato nel 1983 diciamo la cooperazione nel campo della scienza e della ricerca non aveva una base giuridica nel trattato costitutivo della comunità economica, questo avvenne poi con l'adozione dell'atto unico europeo nell'86 per cui il trattato a quel punto includeva appunto il programma quadro come strumento comunitario di finanziamento. sono seguiti poi l'FP sta per framework program perché diciamo è il nome giuridico proprio del programma furono adottati successivamente con mano a mano budget sempre bilanci e sempre maggiori. col trattato di Maastricht il programma quadro diventa uno strumento finanziario per e proprio per supportare la ricerca e la cooperazione nel campo scientifico e allargò anche le tematiche per i quali era necessario e opportuno condurre attività di ricerca in cooperazione a livello comunitario. qua vediamo l'evoluzione dei successivi programmi quadro il programma quadro diciamo nel trattato è previsto che il programma quadro supporti la competitività della ricerca dell'industria europea quindi c'è sempre questo accento sull'innovazione che all'inizio era diciamo più focalizzata proprio sulla ricerca precompetitiva e c'è sempre stata un po' questa lotta se vogliamo tra il supporto alla ricerca di base piuttosto che a quella più applicativa diciamo il programma quadro è un po' sempre una mediazione tra le due esigenze. quello che è successo in tempi più recenti è che nel 2000 è stato introdotto questo concetto questo concetto politico di realizzare pienamente uno spazio europeo della ricerca concetto che era già stato diciamo enunciato e individuato come fondamentale dai padri fondatori dell'unione europea si è affermato in maniera più concrete da 2000 in poi diciamo tutti i programmi quadro in qualche modo portano avanti misure e attività specifiche per realizzare pienamente questo spazio europeo della ricerca che è appunto un concetto politico quindi l'obiettivo fondamentale è sempre stato quello di evitare la frammentazione delle risorse degli sforzi di ricerca in europa perché abbiamo 28 27 insomma a seconda dei periodi un top degli stati membri con le loro strategie le loro programmazioni nazionali nel campo della ricerca i loro stanziamenti di fondi e in più c'era quello europeo quindi diciamo era necessario cercare di trovare una maggiore coerenza nella appunto nel finanziamento alla ricerca quindi non più la somma di tutti i sistemi nazionali più l'europa ma integrare meglio le risorse l'altro aspetto fondamentale che ancora esiste oggi come priorità per lo spazio europeo della ricerca è quello di creare un'area unica in cui i ricercatori e le conoscenze possano circolare liberamente quindi l'idea di creare un mercato interno per la ricerca per i ricercatori la cosiddetta quinta libertà rispetto alle libertà diciamo le quattro libertà del mercato unico europeo oltre che ovviamente diciamo rafforzare la competitività collettiva degli stati membri dell'unione e diciamo cercare di affrontare le grandi sfide del nostro tempo della società si sono succeduti quindi tutti i successivi programmi quadro dal sesto e settimo in particolare proprio con l'obiettivo di realizzare lo spazio europeo della ricerca dall'FP7 quindi parliamo dal 2014 la durata del programma quadro che prima era di 4 anni è stata portata a 7 in linea con le prospettive finanziarie dell'unione europea nel 2010 è stata adottata dal consiglio dei capi di stato e di governo la strategia Europa 2020 diciamo una strategia globale diciamo a livello europeo per cercare di favorire maggiore occupazione lo sviluppo della competitività e la conoscenza e l'innovazione in questa strategia hanno un ruolo fondamentale perché sono diciamo gli strumenti per creare appunto crescita e occupazione questa strategia ha influenzato l'attuale programma quadro che non si chiama più FP8 diciamo non è più numerato ma si chiama Horizon 2020 e sta influenzando ovviamente anche la discussione del futuro programma quadro che si chiamerà Horizon Europe e che verrà adottato entro la fine del 2020 per partire poi nel 2021. Allora questa è l'evoluzione dei bilanci dei programmi quadro vedete in basso dal primo programma quadro che era 3 miliardi e 3 di euro vabbè allora erano i NECU il finanziamento il programma quadro l'attuale Horizon 2020 ha un bilancio che in realtà poi alla fine sera si aggira intorno agli 80 miliardi la proposta della commissione europea per il futuro programma quadro è di 100 miliardi il parlamento europeo ne ha proposti 120 però insomma siamo nella fase proprio adesso di negoziazione con in mezzo le elezioni con la commissione che cambierà quindi diciamo è un po' tutto ancora poco definito. Vi ho accennato appunto alla strategia Europa 2020 che è l'agenda per la crescita e l'occupazione nel quale appunto la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è individuata diciamo come il modo per risolvere le debolezze strutturali dell'economia europea, migliorare la competitività e la produttività e sostenere diciamo un'economia di mercato sociale sostenibile. Questa strategia ha individuato degli obiettivi di lungo termine nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'occupazione, del clima, della lotta contro la povertà e diciamo questi obiettivi sono obiettivi che comuni a tutti gli stati membri per i quali i stati membri così come l'Europa mettono in campo ha tutta una serie di riforme strutturali ed azioni per il raggiungimento di questi obiettivi. Gli obiettivi di questa strategia erano principalmente questi 5, l'occupazione quindi raggiungere almeno un target del 75% di persone occupate, investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del prodotto interno lordo, obiettivi rispetto al cambiamento climatico e alle fonte energetiche quindi riduzione delle emissioni, maggior utilizzo delle fonti rinnovabili eccetera, obiettivi rispetto all'istruzione quindi rispetto per esempio all'abbandono scolastico e al completamento dell'istruzione superiore e obiettivi rispetto all'esclusione sociale e alla povertà. questo schema è quello che raffigura, sintetizza la strategia Europa 2020 ma non mi soffermo oltre, per raggiungere questi obiettivi sono state messe in campo una serie di azioni quindi più nel dettaglio entrano nel merito delle singole iniziative da attivare per raggiungere questi obiettivi e Innovation Union è quella che in particolare riguarda la ricerca e l'innovazione ma non solo perché tutte queste poi iniziative sono integrate l'una con l'altra e diciamo rispetto appunto all'innovazione le principali sfide che l'Unione Europea deve affrontare sono quella di creare maggiore occupazione per tutti, specialmente per i giovani, rendere le imprese più competitive, risolvere sfide per esempio riguardo all'invecchiamento della popolazione, assicurare fonti di energia e di alimentazione eccetera, tutti i problemi che conosciamo benissimo. Rispetto alla ricerca e innovazione gli obiettivi sono quelli di rafforzare la base delle conoscenze e ridurre la frammentazione, questo è sempre un obiettivo sempre attuale diciamo proprio perché le attività di ricerca e innovazione sono attività degli stati membri e quindi l'azione che può essere portata avanti dall'Europa deve avere in qualche modo un effetto trainante ma anche un valore aggiunto rispetto a quello che si fa nei singoli paesi. Quindi vedete diciamo l'accento sull'innovazione particolarmente indirizzato al portare effettivamente le idee al mercato, cioè superare quella cosiddetta valle della morte per cui la conoscenza sviluppata nei laboratori, nelle università, negli enti di ricerca difficilmente poi arriva al mercato, arriva alle imprese. Allora queste strategie, abbiamo parlato di Europa 2020, Innovation Union eccetera, queste strategie a livello europeo vengono poi implementate attraverso azioni politiche, riforme strutturali negli stati membri ma anche attraverso una serie di programmi di finanziamento per cui appunto nell'ambito della programmazione finanziaria dell'Unione Europea vengono stanziate risorse e strumenti che rispondano agli obiettivi prefissati. Allora il supporto finanziario dell'Unione Europea come vedete è disponibile in tantissimi settori, ci sono tantissimi programmi di finanziamento, la ricerca, l'occupazione, lo sviluppo regionale, la cooperazione, l'istruzione, la cultura, l'ambiente eccetera. E diciamo ci sono tanti tipi di finanziamenti, poi li vedremo velocemente e tutte le istituzioni, le piccole e medie imprese, le grandi imprese, le organizzazioni di ricerca, le università, organizzazioni non governative, chiunque può accedere a questi finanziamenti a seconda ovviamente della tipologia di strumento che vogliamo utilizzare. Vi sono una serie di regole ovviamente, perché parliamo di fondi pubblici, fondi a cui contribuiamo tutti con le nostre tasse, quindi vi sono una serie di regole, una serie di principi che sottostano all'utilizzo di questi finanziamenti. Quindi parità di accesso ai finanziamenti da parte di tutti e controllo che i fondi vengano spesi efficacemente e secondo le regole. E poi una serie di principi generali, che sono principalmente quelli che vedete, il valore aggiunto europeo, cioè non si finanza un doppione di quello che si fa già a casa, quindi ci deve essere comunque un valore aggiunto per tutti a collaborare a livello transnazionale europeo, la trasparenza nella gestione dei fondi, il trattamento paritete di equal treatment, i fondi non devono generare profitti ovviamente, non si possono sommare diversi tipi di finanziamento europeo per lo stesso obiettivo, ma è possibile invece creare sinergie tra i vari strumenti, non si possono finanziare cose già fatte, quindi non c'è retroattività del finanziamento e diciamo in linea di massima il discorso è che quello comunitario è un cofinanziamento a quello che mettono a disposizione gli stati membri, le istituzioni che partecipano. Questo è il bilancio comunitario 2014-2020 che vedete è poco più di 1000 miliardi di euro, la parte ricerca e innovazione che vedete è indicata dalla freccia destra in alto, rientra nell'obiettivo appunto competitività per la crescita e l'occupazione e il bilancio quindi della ricerca e innovazione a livello comunitario è l'8% del bilancio complessivo dell'Unione. In linea generale la Commissione europea è responsabile dei programmi e della spesa di questi finanziamenti, in realtà per quasi l'80% la gestione di questi fondi è congiunta tra l'Unione europea, tra la Commissione europea e gli stati membri, nel caso per esempio i fondi strutturali che sono appena stati presentati, il Fondo sociale europeo eccetera, è una gestione tra l'Unione europea e le autorità negli stati membri. Le tipologie appunto di finanziamento sono tante, i grant, proprio la sovvenzione, prestiti, finanziamenti, garanzie, sussidi, premi, contratti pubblici eccetera, a seconda di quello che è. I finanziamenti si distinguono in linea generale tra finanziamenti diretti, quindi finanziati dalla Commissione europea per attività che vengono portate avanti o dalla Commissione europea stessa attraverso delegazione oppure attraverso appunto programmi quali Horizon 2020, vedete l'AIF, Creative Europe, Asmus per esempio, questi fondi sono gestiti direttamente dalla Commissione europea o dalle agenzie esecutive che lo fanno per conto della Commissione. I finanziamenti indiretti invece sono appunto i finanziamenti gestiti da Commissione e autorità nazionali quali fondi strutturali. Dentro tutto questo contenitore, questa strategia, l'Unione dell'Innovazione eccetera, Horizon 2020 è diciamo lo strumento finanziario che implementa questi obiettivi. È un programma che racchiude tutta una serie di iniziative che prima erano separate, che appunto ha un accento molto forte sul percorso dalla ricerca all'innovazione, quindi dalla ricerca dal laboratorio al mercato, tutte le forme di innovazione ed è molto focalizzato sulle sfide della società. Comunque diciamo grandi sfide che riguardano la salute, l'energia pulita, il clima, i trasporti eccetera. Con un accesso tutte le volte che parte un programma quadro la Commissione cerca di farlo sempre più semplificato invece purtroppo non è in realtà così semplice. Però tutti possono accedere aperto ovviamente all'istituzione degli stati membri dell'Unione Europea ma anche a tutto il mondo, quindi anche ai paesi terzi ed è il programma diciamo come dimensione finanziaria più ampio, più grande mai approvato in Europa. L'obiettivo ovviamente è quello di produrre scienza di livello mondiale, di alta qualità, tecnologia, rimuovere le barriere all'innovazione, rafforzare la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra il pubblico e il privato. Allora dicevo che è molto focalizzato sulle sfide della società, quindi non vi sono una serie di temi individuati a priori, quindi molto con approccio top down, sulle tematiche che sono oggetto poi di bando e di finanziamento, ma appunto si focalizza sulle sfide globali e quindi sono i ricercatori e le istituzioni che liberamente scelgono le metodologie, l'approccio da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Quindi l'impatto e l'approccio strategico sono molto importanti. Sono molto importanti anche tutta una serie di aspetti orizzontali al programma, quindi alle sfide sociali, alle sfide industriali, che sono appunto le scienze sociali, umanistiche, gli aspetti di genere e la cooperazione internazionale. Il programma ha un budget di circa 80 miliardi nei sette anni. La fetta più grossa verrà spesa nell'ultimo anno del programma, quindi nel 2020. Tra il 2019 e il 2020 verrà messa in campo la cifra più grossa del programma. Questo è un slide solo per farvi vedere come è strutturato il programma. Anche il prossimo programma probabilmente sarà strutturato così, su tre pilastri fondamentali che sono la excellent science, che corrisponde più o meno a quella che si chiama ricerca di base e che prevede una serie di strumenti, quali lo European Research Council, le Future Emerging Technologies, quindi ricerca collaborativa su settore di frontiera ad alto rischio, potenzialmente molto innovativi, le azioni Marie Curie, quindi l'opportunità di mobilità per i ricercatori e le infrastrutture di ricerca. Poi troviamo il pilastro Industrial Technologies, questo è fortemente indirizzato all'industria quindi e appunto a supportare la competitività e la crescita in questi settori specifici. E poi troviamo le grandi sfide per la società di cui vi ho parlato prima, quindi la salute, il cambiamento demografico e il benessere, la sicurezza alimentare, l'agricoltura sostenibile, vedete, sono titoli molto ampi che quindi poi lasciano molto spazio alle proposte da parte dei ricercatori. E come vi ho detto, le righe orizzontali che vedete in fondo sono azioni specifiche, per esempio lo European Institute of Innovation and Technology, un'azione Spreading Excellence and Widening Participation che è indirizzata agli stati membri che sono meno forti in qualche modo nel campo della ricerca e innovazione. Azioni per la scienza e la società, quindi tutte le azioni per accrescere la consapevolezza del pubblico verso la scena, verso i risultati e gli obiettivi della ricerca, della scienza, gli aspetti di genere, quindi tutti questi aspetti orizzontali. Quindi diciamo il percorso ideale del programma quadro, quindi diciamo gli obiettivi di Horizon 2020 è quello appunto di coprire tutta la catena dell'innovazione dalla ricerca di base, quindi attraverso il pilastro Excellent Science, attraverso Industrial Leadership a risolvere le societal challenges, quindi dalla ricerca di base attraverso l'attività di dimostrazione, prototipizzazione, eccetera, arrivare al mercato. Questa è la distribuzione del budget sui vari pilastri e le azioni del programma, come vedete diciamo la parte delle sfide sociali e dell'excellent science comunque ha una parte consistente di tutto il bilancio del programma. Vabbè, ci sono ovviamente tutta una serie, siccome le attività di ricerca del programma quadro derivano dal trattato, vi sono poi tutta una base giuridica e legale per cui tutto il processo di approvazione mette in campo la Commissione, il Parlamento, il Consiglio dell'Unione Europea, eccetera, attraverso tutta una serie di decisioni, eccetera, che istituiscono il programma, definiscono il budget, definiscono le regole di partecipazione e vanno mano a mano sempre più nel dettaglio di quelli che saranno poi i bandi a cui è possibile sottoporre progetti e questi sono i work program. quindi diciamo, per fare un progetto bisogna sapere, vabbè, conoscere ovviamente il programma quadro, come è strutturato, conoscere come si può partecipare, i work program, come vi ho accennato, sono quelli che entrano più nel merito delle call annuali, dei bandi annuali e che stabiliscono sia il budget, sia le condizioni di partecipazione, condizioni minime, per esempio il numero di partecipanti, la tipologia di partecipanti, le scadenze, eccetera. Diciamo, questo è un po' il percorso del progetto. Allora, esattamente si basa su una tipologia di contributo che è il grant, quindi la solvenzione. nella commissione Pag finanzia tutti i costi aggiuntivi derivanti dal proporre appunto un progetto con determinati obiettivi. Quindi tipicamente, per esempio, le azioni di ricerca e innovazione dove ci vogliono almeno tre stati membri che partecipano, il finanziamento è al 100% dei costi del progetto, quindi costi aggiuntivi. E poi, in base alla tipologia di azione, vedete per esempio le innovation actions sono molto più legate al mercato, quindi più alla partecipazione delle imprese, eccetera. E per le imprese il finanziamento è al 70%. Vi sono poi tutta una serie di altre iniziative di coordinamento, azioni di supporto, che riguardano invece più proprio le politiche e il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca. Quindi a cui partecipano, per esempio, i ministeri, le agenzie di finanziamento, eccetera. Non so se si vede comunque, diciamo, questo è il nuovo portale dell'Unione Europea, della commissione europea, che riunisce quindi tutte le opportunità di finanziamento, quindi programmi di finanziamento vero e proprio, ma anche le gare per l'assegnazione di servizi, eccetera. Quindi tutto è riunito qua, vedete qua sotto tutti i programmi disponibili, e per esempio appunto selezionando il programma Horizon 2020 trovate tutte le call aperte, potete andare a cercare le call chiuse, eccetera. E da qua poi si accede a tutti i documenti necessari per presentare una proposta. Un progetto di ricerca e innovazione, diciamo, vabbè, saprete benissimo come è. Il progetto si parte da un'idea e, diciamo, siccome questi programmi europei, soprattutto il programma Horizon 2020, è molto competitivo, bisogna avere ben chiaro dall'inizio, diciamo, che tipo di progetto si vuole presentare, qual è lo stato dell'arte in quel settore a livello europeo, ma non solo, perché ovviamente bisogna proporre qualcosa che sia veramente innovativo, che porti a un progresso rispetto allo stato dell'arte in quel settore, in quel momento. Quindi bisogna già avere un'idea di quello che si vuole fare e, diciamo, sapere che questa idea deve avere un alto grado di innovazione, appunto. Bisogna trovare la call, diciamo, il bando adatto per quell'idea, costruire il consorzio, cioè il partenariato, il consorzio vuol dire come ho usato un senso di partenariato, quindi sapere quali sono le condizioni minime del bando, ma poi trovare anche, diciamo, i partner giusti per realizzare gli obiettivi del progetto. e tenere conto che, appunto, c'è un ruolo che è quello del coordinatore, che è un ruolo molto importante di responsabilità, sia verso la Commissione europea, quando eroga il finanziamento, ma anche rispetto poi all'attività network. Bisogna crearsi un account sul sito dell'Unione europea, che è un account che, diciamo, viene fornito attraverso la registrazione della propria istituzione di appartenenza, ed è un numero identificativo unico che riconosce quell'istituzione in tutti i programmi di finanziamento europei. Bisogna pianificare bene le risorse, le attività, la metodologia che si vuole adottare, la distribuzione dei compiti tra i partecipanti, organizzare meeting preparatori di progetto, preparare appunto un primo abstract del progetto, per calcolare il budget, eccetera. E soprattutto, diciamo, è per ultimo, ma in realtà dovrebbe stare in cima a tutto, conoscere quello che succede in Europa in questo determinato settore, quali sono le strategie e lo stato dell'arte, non solo rispetto al settore specifico di ricerca, al vostro settore di ricerca, diciamo, però a livello anche più generale, di strategie generali. Quindi, diciamo, quando si vuole presentare un progetto bisogna porsi tutta una serie di domande che sembrano banali, ma in realtà vi assicuro che, appunto, dopo 30 anni di onorato servizio, a dare supporto alla comunità scientifica a presentare progetti, non sempre, diciamo, ci sono le risposte a queste domande quando uno sta presentando un progetto. Tenete conto che per presentare un progetto del genere ci vuole almeno un anno, se non, a seconda della complessità della call, di quello che si vuole fare, anche più di un anno. Quindi è uno sforzo in termini di risorse umane e anche finanziare, in qualche modo, che non vengono poi riconosciute nei costi del progetto, perché sono retroattive. Quindi, diciamo, queste sono delle domande tipiche che bisogna porsi nel momento in cui si prepara un progetto e quelle pallette che vedete in basso a destra sono molto importanti perché, appunto, non si può dichiarare di voler fare chissà cosa se poi non si riesce a dimostrare che, appunto, gli obiettivi sono misurabili, sono fattibili, sono sostenibili, realistici, eccetera. Allora, cosa succede poi una volta che avete presentato un progetto? Allora, la valutazione dei progetti avviene sulla base principalmente di tre criteri, il primo dei quali l'eccellenza scientifica è quello più importante, diciamo, è quello che sottostà, diciamo, a tutti e a tutte le azioni del programma quadro. Quindi tre criteri principali hanno pesi diversi, quindi l'eccellenza scientifica pesa più degli altri, due, però, diciamo, se uno è sotto soglia sull'impatto o sull'implementazione il progetto comunque non passa, cioè bisogna aver superato tutti e tre i criteri, il livello minimo stabilito per tutti e tre i criteri. Per ciascuno di essi poi, a seconda dell'azione su cui andiamo a fare domanda se è un progetto di innovazione o di ricerca o una borsa Marie Curie, diciamo, ovviamente i sottocriteri sono diversi, ci sono appunto diversi tesi e delle soglie oltre le quali appunto si viene finanziata e sotto le quali la proposta viene rigettata. La valutazione viene effettuata da esperti indipendenti. Ogni proposta viene valutata da almeno tre valutatori fino a cinque, a seconda poi della disponibilità anche di valutatori in quel settore. Però minimo tre esperti indipendenti che sono tipicamente ricercatori, scienziati, eccetera, però non solo, adatto a seconda appunto della tipologia di azione, possono esserci imprenditori, quindi esperti provenienti dall'industria, utilizzatori finali nel caso, che ne so, di progetti di infrastrutture di ricerca o altre tipologie di interlocutori, di, diciamo, stakeholders, autorità nazionali. Chiunque, chiunque può proporsi come valutatore. C'è una banca dati unica su quel portale che avete visto prima e, anzi, fare il valutatore è sicuramente un'esperienza utile per capire come funziona il meccanismo e poi provare a presentare progetti. Il time to grant, che sarebbe, diciamo, il tempo che intercorre tra la scadenza del bando e la firma del grant agreement, è stato ridotto ai 6-8 mesi a seconda dell'azione, perché, diciamo, in precedenza ci impiegavano molto più tempo. Diciamo, il percorso di un progetto, più o meno, la valutazione in sé impiega mediamente due mesi, come vedete, parte la proposta dalla Commissione europea, dall'agenzia esecutiva che gestisce il bando, viene affidata, le proposte vengono assegnate ai valutatori, c'è una prima valutazione, vabbè, in prima valutazione di ammissibilità formale, diciamo, poi viene assegnata ai valutatori, c'è una parte di valutazione in remoto da parte degli esperti, poi c'è un consenso, insomma, vedete qua tutto il percorso della valutazione. Allora, rispetto appunto a Oralison 2020, per il quale siamo già oltre la metà, diciamo, però c'è ancora, appunto, gli ultimi due anni con una parte molto sostanziale del bilancio disponibile, è stata fatta una valutazione di medio termine. Valutazione di medio termine che è servita sia a indirizzare i bambi degli ultimi anni, la valutazione di medio termine del 2017, quindi è servita a indirizzare, a rifocalizzare i bambi degli ultimi tre anni del programma, ma che servirà anche, serve anche poi in prospettiva, alla discussione e definizione del nuovo programma quadro. Allora, è un programma molto competitivo, partiamo da lì, perché il percentuale di successo è dell'11,6%, rispetto al precedente programma quadro che era il 18,4%. Quindi, questo rappresenta, questa oversubscription, come la definiscono, è uno spreco di risorse per chi si impegna a presentare progetti e veramente solo i migliori vengono finanziati, con grande frustrazione anche per chi ha presentato progetti eccellenti, ma che per mancanza di fondi non vengono poi finanziati. Quindi, vedete, rappresenta uno spreco quantificato in circa 1,7 miliardi per scrivere proposte non di successo e naturalmente questo gran numero di proposte di successo fa anche lievitare naturalmente i costi per la valutazione, quindi da parte della commissione delle agenzie per organizzare la valutazione, per trovare gli esperti, perché sempre, se i migliori fanno domanda, presentano i progetti, qualcuno li deve valutare e questo non sempre è semplice. Quindi, diciamo, è una macchina molto complessa e costosa. Comunque, diciamo, tra i risultati più di successo, se vogliamo, è evidenziato quelli che vedete qua, che è appunto sempre un maggiore supporto all'industria, che i fondi stanziati per il settore in generale dell'energia ammontano all'87,9%, quando l'obiettivo minimo era all'85, circa 8 miliardi sono stati investiti sul cambiamento climatico. Al 2017, quindi nei primi tre anni di programma, sono stati finanziati 36 mila ricercatori, singoli ricercatori, quindi con le azioni di mobilità di cui parlerò tra poco, a tutti i livelli della carriera e di qualsiasi età e nazionalità. Vabbè, l'altra attività per il settore privato, soprattutto per le PMI, l'ho già evidenziata prima, è sicuramente molto importante. Ora volevo, appunto, focalizzarmi un attimo, perché mi sembrava il contesto giusto, diciamo, su quest'azione specifica del programma quadro che si trova nel pilastro Excellence Science, che sono le borse Marie Curie, che se siete studenti universitari o quasi alla fine, o studenti di dottorato, magari ne avete già sentito parlare di ciò. Ora poi vi farò anche vedere in quale fase della carriera ideale si collocano. Comunque le azioni Marie Curie sono azioni che furono lanciate in realtà anche prima del 96, perché queste azioni di formazione e mobilità sono presenti nei primissimi programmi quadro, quindi dal fine agli anni 80, diciamo, il Marie Curie brand, appunto, quindi dedicato alla famosa ricercatrice doppio premio Nobel, Marie Curie, Marie Curie, appunto, lanciate con questo brand nel 96. Si sono evolute, come vedete, sia in termini di bilancio, quindi di fondi disponibili nel diagramma sulla destra, ma anche, diciamo, negli obiettivi. E da semplici azioni di formazione e mobilità, per esempio, con dei limiti di età, c'era un limite dei 35 anni fino al quarto programma quadro, limite che poi è stato eliminato. Nel quinto programma quadro sono state introdotte le host driven action, cioè non solo quindi attività di mobilità per i singoli ricercatori, ma anche reti di istituzioni che si offrono di ospitare ricercatori, dottorandi, eccetera, su determinati settori e che garantiscono la mobilità all'interno della propria rete, garantiscono opportunità di stacchi presso le industrie, per esempio, e così. Poi, dal sesto programma quadro, le azioni Marie Curie si sono aperte ai paesi terzi e quindi sono state introdotte, per esempio, le Global Fellowship, cioè le borse Marie Curie che consentono di andare presso un paese terzo e poi rientrare in Europa. Con il settimo programma quadro è stato appunto dato un'accento alla mobilità intersettoriale, quindi la mobilità tra accademia e industria, e, diciamo, sono state portate avanti e sviluppate, introdotte condizioni più attrattive rispetto appunto all'attività di lavoro, alla professione del ricercatore. In Horizon 2020 sono state appunto rafforzate alcune tipologie di azioni, adesso per esempio negli ultimi due anni sono state introdotte azioni sia per i paesi meno performanti per queste azioni, quindi rispetto al punto widening participation, ma anche per esempio misure specifiche per i rifugiati, per i disabili, è stato introdotto il part time. Tenete conto che, ora poi l'ho accennato dopo, le Marie Curie e, diciamo, la strategia rispetto all'affermazione dello spazio europeo della ricerca, sono stati pionieri nel fermare certi diritti della carriera dei ricercatori, certe condizioni favorevoli per le prospettive di carriera, nuove forme innovative di formazione, eccetera. Nel 2016 appunto sono stati celebrati vent'anni di successo e siamo oltre 100.000 ricercatori finanziati da le azioni, ma di cui fino adesso, di cui 65.000 solo in Horizon 2020. Quindi appunto, abbiamo detto, sono attività di ricerca e formazione dedicata al sviluppo di carriera e, appunto, l'idea dietro a queste azioni è proprio quella che i ricercatori dovrebbero avere una carriera stabile con condizioni di lavoro attrattive, con delle prospettive, oltre che avere, ovviamente, alla formazione e alla formazione più innovativa possibile che viene necessaria per intrattenere, appunto, questa professione. Queste sono azioni cosiddette bottom-up, quindi non vi sono settori scientifici individuati a priori, ma sono i singoli ricercatori che scelgono il settore del loro progetto di mobilità e formazione. e, come vi dicevo, appunto, hanno affermato nel tempo una serie di buone pratiche e anche di benefici e diritti dei ricercatori rispetto, appunto, alla loro carriera. Come vedete, appunto, tutto il programma quadro finanzierà circa 65 mila ricercatori e ne attrae anche dai paesi terzi. direi che posso saltare e entrare in bottom-up, appunto, la mobilità che queste azioni offrono è una mobilità sia intraeuropea, quindi tra paesi europei, tipicamente, diciamo, in media mobilità transnazionale, principalmente, oltre che poi intersettoriale, e anche, appunto, abbiamo detto, verso i paesi terzi. Gli obiettivi specifici, appunto, sono quelli di attrarre e trattenere anche i migliori talenti in Europa, evitando, appunto, il fluo dei cervelli e quant'altro. Sviluppare anche schemi di formazione innovative e all'avanguardia. Promuovere, abbiamo detto, condizioni attrattive e sostenibili di carriera, opportunità nella ricerca e innovazione, anche attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze complementari. Ecco, questa è la scala che volevo farvi vedere. Diciamo, nella scala ideale di una carriera di un ricercatore che sono tutta una serie di strumenti comunitari a supporto, appunto, di questo sviluppo di carriera. Per cui partiamo dagli studenti universitari, quindi dal programma Erasmus, che favorisce la mobilità degli studenti, alle azioni Marie Curie, che quindi consentono attraverso programmi internazionali e reti innovative di formazione anche di fare il dottorato in un altro paese, quindi il programma Erasmus finanzia anche i dottorati internazionali e industriali e offre borse a livello post-dottorale. Nello sviluppo successivo di carriera, quindi a livello di ricercatore, junior professor, full professor, eccetera, vedete qua questi ERC grants, che sono i grants dell'European Research Council, che è un altro dei blocchi, diciamo, dell'Excellent Science in Horizon 2020. Direi che a questo punto salto tutto questo. Allora, chi vi può aiutare a orientarvi in questa mare di informazioni? Allora, ovviamente, vi sono tutta una serie di portali, in realtà, a livello della Commissione Europea dei programmi quadro, vi è ormai un portale unico con tutte le opportunità, con il dettaglio di come si può partecipare, vi è una rete di contatti nazionali in tutti i paesi europei che sostengono, diciamo, i proponenti nell'elaborazione e sottomissione delle proposte e in Italia questa rete di National Contact Point è gestita dall'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, l'APRE, che ha sede qua a Roma. E poi, ovviamente, vi sono tutta una serie di altri siti che danno informazioni. e poi nei singoli enti università, insomma, ci sono gli uffici progetti, gli uffici grand office, eccetera, gli uffici Erasmus che possono dare informazioni. e con questo vi ringrazio. Grazie. Grazie. La nostra maratona va avanti fino alla meritata pausa pranzo che faremo qui accanto verso le 13. Non vi preoccupate. Io parlo meno. No, 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 il tempo c'è, il tempo c'è tutto. Quindi adesso abbiamo l'intervento della professoressa Maria Pia Baccari Bari dell'Università all'Unsa, un'autorevole studiosa di diritto romano che ci parlerà, e io sono molto curioso evidentemente, dell'Europa e dei giovani, i fondamenti di ieri, di oggi e di domani. Quindi do subito la parola alla collega e niente, ascoltiamo con piacere. Grazie, grazie presidente. Hai meritato anche un applauso. No, l'applauso è per te, perché noi tra civilisti e romanisti, tra privatisti e romanisti c'è una bella comunione. Ci vogliamo molto bene, quindi l'applauso era per come tu mi hai presentato, ti sono molto grata. Quindi ringrazio il presidente, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto e tutti voi presenti, vedo tanti giovani, quindi mi rivolgerò pure ai giovani, ma alcuni sono del Carducci che ancora devono scegliere il percorso universitario o già siete tutti della facoltà di scienze politiche, di giurisprudenza, quindi a quelli che devono ancora scegliere cerchiamo di farli appassionare al mondo del diritto, perché se il vostro percorso economico-sociale il diritto è importante. Ecco, io vorrei contribuire con le mie materie, la mia materia, io sono una romanista, non tifosa della Roma, ma professore di diritto romano e di fondamenti del diritto europeo, quest'altra materia che ci appartiene, che appartiene agli romanisti. Il titolo del convegno, la primavera dell'Europa, il futuro comincia da te, quindi ognuno di noi qui è in prima persona a lavorare e vorrei farci prendere per mano da Giorgio Lapira, non so chi di voi lo ha sentito, ha sentito questo nome nella vita, era un uomo politico, un professore di diritto romano, un membro dell'Assemblea Costituente, sindaco di Firenze, per il quale peraltro è anche in corso la causa di pianificazione. E' un libro recente a questo bel titolo, Lapira e i giovani, rondini in volo verso la primavera di Papa Francesco, si rivolge al Papa tanto amato da voi giovani. Io vorrei fare qualche considerazione sul rapporto tra l'Europa e le giovani generazioni, prendendo spunto dalla costruzione di quella che è stata chiamata la res pubblica romana, aggiungendo peraltro che siamo in mezzo al guado e quindi non possiamo non dirci europei. L'importanza dell'esperienza giuridica romana, del diritto romano è utile per la comprensione del presente contro i nazionalismi a favore della integrazione europea. I principi del diritto romano che contengono il diritto naturale, questa parola che a volte non sappiamo esattamente cosa sia, eppure tutti ce l'abbiamo scritto nel cuore il diritto naturale, questa parola cuore che oggi va tanto di moda, pensare che già Cicerone l'adoperava per dire che ci sono principi scritti nel cuore di ciascun uomo. Il diritto civile e il diritto delle genti possono suscitare ancora interesse e passione per l'uomo del terzo millennio, un sistema giuridico antico può ancora oggi indicare modelli utili per la comunione dei popoli e lo scopo verso il quale tutti noi tendiamo è la pace fra i popoli. Queste sono le domande ineludibili per l'uomo del terzo millennio. Un diritto universale e concreto che gli uomini ancora oggi, nell'epoca con questa parola così tanto adoperata della globalizzazione, possono utilizzare contro l'anti-umanesimo, il relativismo e l'individualismo. Diciamo, metto solo relativismo e individualismo anche se l'elenco degli ismi potrebbe continuare all'infinito. Quindi dei principi eterni e universali. Intendo pertanto toccare tre aspetti del rapporto fra l'Europa e i giovani. Il primo riguarda l'obiettivo dell'integrazione europea, il secondo la via per raggiungere tale obiettivo e il terzo la bussola che deve orientare il cammino. Partiamo dal primo aspetto, cioè l'obiettivo dell'integrazione e il suo rapporto con le giovani generazioni. Cento anni fa, nel 1919, quindi nel nuovo clima determinato dalla vittoria e dalla pace, l'Università La Sapienza con una prolusione di Pietro Bonfante, altro noto professore di diritto romano, inaugurava l'anno accademico con questa prolusione e gran parte della prima lezione, della lezione per l'inaugurazione dell'anno accademico, era dedicata alle condizioni per la costruzione di uno stato libero al di sopra della nazione. E Bonfante, nonostante esplicitamente menzionasse gli Stati Uniti d'Europa, ne evidenziava la difficoltà. Perché? Perché la nazione scriveva agli europei appare come una meta, una meta assoluta e le nuove idee, il nuovo ordine che molti invocano in nome, in primo luogo della pace, faranno molta fatica ad affermarsi e Bonfante non aveva torto. Aggiungo anche che gli stati nazionali oggi, ed è sotto gli occhi di tutti, sono incapaci di crescere umanamente, si pensi alle legislazioni contro lo straniero e alle leggi contro i concepiti. Un sistema giuridico antico, come quello romano, era invece aperto verso l'altro. Penso ad esempio all'asilo di Romolo sul Campidoglio, e siamo nell'VIII secolo a.C., secondo quanto narrato da Livio, questo storico sul quale tutti stiamo studiando, abbiamo studiato per gli esami, elabora a Livio questa idea della crescita dell'Ulss. Gli homines, stranieri, liberi o schiavi, sin dai tempi di Romolo, attraverso l'asilo sul Campidoglio, erano accolti nella cittadinanza, dice Livio, sine ulla discriminazione. Pensate, VIII secolo a.C., accolti liberi, servi, diciamo Plutarco addirittura dice ancora peggio, una turba di servi e ribelli, di gentaglia, diciamo così, poi turba da proprio l'idea della folla, della masa, non del popolo, ma questa turba, questa folla viene organizzata da Romolo in populus. Ecco quindi, diciamo, la grandezza di Roma che si ampliava, si allargava offrendo, sia pure chiedendo di applicare lo Ius Romanum, di aderire al progetto dello Ius Romanum, di aderire all'idea di popolo in questa civitas augesces, quindi questa civitas che cresceva o civitas amplianda, così come lo leggiamo nelle fonti giuridiche antiche, che unisce gli uomini contro ogni esclusivismo etnico o religioso. Emblematica tra queste, un solo esempio vi faccio, le potremo fare tanti, quello che tanti conoscete, poi qui siamo vicino alla Basilica di San Paolo, e San Paolo era ebreo di religione, ma era cittadino romano. La cittadinanza romana non conosce dunque discriminazioni razziali o religiose, poteva essere acquistata, tra virgolette, non coi soldi, acquistata, presa, recepita, avuta da ogni uomo senza differenze etniche o religiose. E Paolo di Tarso la usava con orgoglio nelle sue lotte, famosa la frase, credo che dalle elementari la dovremmo conoscere, Civis Romanus Sum, che poi è stata la base della diffusione del cristianesimo, a partire dall'affermazione di fede del centurione sotto il Golgotha, secondo una tradizione antica, che diciamo può andare da San Basilio fino al romanista Giorgio Lapira. Nel I secolo d.C. si impone l'unità del mondo a tutti i livelli. Quindi l'impero romano, il modello del quale qui sto parlando, radunava tutti i popoli del mondo, la pace del mondo, un piccolo cena, un monumento che tutti noi conosciamo stupendo, quello dell'Arapacis, quindi la pace del mondo a tutti i livelli, la promozione dei popoli, il censimento dei sudditi dell'impero. Ha affermato recentemente un volto senz'altro familiare a tutti i noto, il famoso giurista, il famoso filosofo Massimo Cacciari, che sull'idea di impero, di civitas, di populus, si deve meditare nell'ottica proprio dei problemi di oggi, dei problemi che riguardano la cittadinanza e il diritto di cittadinanza delle nostre società. Ed anche, a mio avviso, alla luce delle nuove schiavitù. Penso al debito estero, tanto per fare un cenno ai nostri amici che studiano l'economia, all'utilizzo della manipolazione del corpo della donna. Cacciari ha scritto delle pagine stupende sulla cittadinanza, non perché mi citi, ma veramente sulla Civitas Suggestions delle pagine stupende che vi invito ad andare a riflettere. Ieri diceva, c'era un'intervista a Cacciari, che cosa è meglio, essere santi o eroi? E lui dice, annessanti neroi, voglio persone che ragionino con la propria testa, che muovano il cervello. Quindi una cosa che diciamo così, questa scatolina sta qui dietro alla portata di tutti. Quindi si tratta solo un momento di studiare, riflettere, ascoltare e poi offrire agli altri strumenti per ragionare. Il pensiero dei giovani delle nuove generazioni è presente nel DNA dell'integrazione europea. Già nella dichiarazione Schumann, la creazione di un'autorità europea del carbone dell'acciaio aveva come obiettivo ultimo la pace. Essa era la prima condizione per garantire un futuro alle nuove generazioni da parte di genitori che avevano invece vissuto i drammi della guerra. Il fine della pace e la giustizia che essa implica, secondo anche quanto proclamato dall'articolo 11 della nostra Costituzione, della nostra bella Costituzione, è una delle ragioni del sostegno dato anche dalla Chiesa Cattolica fin dall'inizio all'integrazione europea. E' noto per essere il ruolo determinante di questi tre spiriti profondamente cristiani, De Gasperi, Adenauer e Schumann. Uomini che per riprendere le parole dette qualche tempo fa dal cardinale Ratzinger di un sano realismo politico radicato nell'ethos cristiano che riconoscevano come ethos di ragione. Ecco quindi la parola ragione che riaffiora. Pace, in questa strada abbiamo trovato pace tante volte e ragione. Nel 1948, Pio XII, a proposito dei primi progetti di integrazione, lo dava il tentativo di fare dell'Europa, testualmente leggo, un baluardo di pace e la providenziale promotrice di una distensione su tutta la terra, raggiungendo i fedeli saranno consapevoli che il loro posto è sempre al lato di quelle persone che preparano le vie al ristabilimento di un sincero spirito di pace fra le nazioni. Ecco possiamo dire a questo punto però che l'obiettivo dell'integrazione è oggi appannato. La pace perpetua sognata da Kant sembra non avere valore nell'opinione pubblica, specie nelle generazioni più giovani. Queste ultime, beneficiando dei frutti dell'integrazione, non hanno vissuto, ripeto, i drammi della guerra e danno per scontata la pace. L'Unione Europea è percepita in Italia in maniera negativa come un peso, se non addirittura come zavorra, qualcosa di cui liberarsi. Sono significativi i dati dell'ultimo eobarometro. Nell'Unione in media il 60% delle persone ritiene che l'integrazione ha avuto effetti positivi per il proprio Stato, mentre in Italia non si arriva al 40%. Ecco questo ci deve far riflettere perché l'atteggiamento è ancora più critico, più basso secondo recenti ricerche fra i giovani. E dunque in crisi il meccanismo di cui parlava un altro grande costituzionalista, mi fa piacere ogni tanto citare queste luci, questi punti di riferimento, Vittorio Emanuele Orlando in assemblea costituente, prefigurando la sostituzione dello Stato nazionale con una forma di superstato, egli prediceva ai giovani che oltre a sentirsi italiani avrebbero potuto un giorno avvertire altri sentimenti di attaccamento, di amore per una qualche più ampia forma di vita statale. Oggi sembra invece prevalere un sentimento opposto, nonostante, come evidenzia qualche autore, l'Europa reale è diversa, più presente e in realtà migliore dell'Europa percepita. E nonostante i giovani, qualche settimana fa sono andate all'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza, c'era Giuliana Amato che forse vi incontrerete, ho letto che farà le lezioni, eccetera, diceva che i giovani nella forma mentis e nel modus operandi sono molto più europei di quanto credano loro stessi. Le ragioni dell'appannamento e dell'obiettivo e dell'inclinatura del rapporto fra Europa e giovani sono molteplici, ci sono certamente motivazioni economiche, la crisi di inizio millennio ha flagellato alcuni paesi e fatto emergere un'incapacità dell'Unione di rispondere alle sfide del tempo. Ha avuto peso la costruzione dello Ius Comune Europeo in una prospettiva centralista di stampo ottocentesco, per dirla con Weiler, di regionalismo a rovescio. Esso ha indebolito la legittimità dell'Unione, soprattutto nel momento in cui ha cercato di penetrare in aree considerate come classiche funzioni di Stato, dotate di valore simbolico, le quali vanno da risibile la misura della zucchina, del boccale tradizionale, la grandezza delle vongole, al sublime, penso proprio, al diritto alla vita. Da noi si sono stati anche gli eccessi della burocrazia e della tecnocrazia aggravati dal deficit democratico delle istituzioni dell'Unione. Ecco, se l'obiettivo è appannato, troviamo, come avevo detto all'inizio, come si esce da questa situazione di crisi. Passiamo all'altro aspetto, che intendo trattare la via, per ritrovare la strada, un utile contributo, a mio avviso, può venire proprio dai principi giuridici antichi, che sono stati o dovrebbero essere, alla base di ogni società, degna di questo nome e che invece sono stati variamente calpestati da normative e risoluzioni di singoli Stati e dell'Unione Europea, che anziché difendere e proteggere l'uomo, e quindi qui mi rifaccio al concetto di diritto naturale che ho accennato all'inizio, vanno contro la vita stessa dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda la dignità dell'uomo e ben sappiamo quanto gli attentati a questa siano stati nel secolo scorso frutto di totalitarismi di destra e di sinistra. Il costituzionalista recentemente insegna, ha detto, il significato più espressivo dell'esperienza giuridica sta nel suo aprirsi verso ciò che è fuori di sé, metabolizzando il patrimonio di valori che viene dalla morale, in particolare, ha detto Ruggeri, questo professore, questo costituzionista, dalla morale cristiana. Giovanni Paolo Magno, passata la storia col titolo di Magno, nella prima enciclica scriveva l'uomo è la prima e fondamentale via. Quindi diciamo riprendo questa parola di Giovanni Paolo per usarla anche per l'Europa. Rimettere al centro l'uomo, ovviamente quando uso il maschile uomo, ovviamente secondo la nostra bella lingua latina c'è anche la donna, c'è l'uomo e la donna. Quindi l'uomo è la prima fondamentale via. L'uomo deve essere la via dell'integrazione, la pietra d'angolo dell'edificio costituzionale europeo, per riprendere una bella espressione di Lapira all'Assemblea Costituente. occorre liberarsi anche a livello di Unione Europea da ciò che è stato definito errore antropologico, ovvero il collocare non l'uomo, come volevano i padri fondatori, ma altre entità, ad esempio la tecnica, il mercato, l'ideologia, nel punto focale delle iniziative e delle decisioni, commettendo così anche un errore giuridico. Al centro dell'integrazione, ricordato recentemente da Francesco il discorso al Parlamento europeo, vi era la fiducia nell'uomo, non in quanto cittadino, né soggetto economico, ma in quanto persona dotata di una dignità trascendentale. Se la centralità dell'uomo è la via da percorre nel processo di integrazione europeo, e dunque nella elaborazione del diritto è un unitario, quali conseguenze ne discendono per i giovani? Riconoscere la centralità della persona a livello europeo implica anche favorirne le doti, e ciò a partire dalla famiglia. Favorire le doti, talenti, oggi ho sentito poco questa parola, in fondo i giovani del Carducci talentuosi, proprio perché si sono impegnati, e tutti dovrebbero essere tali. Quindi cercare i talenti e a partire dalla famiglia, cellula fondamentale di ogni società. La famiglia, unita, fertile e indissolubile, porta con sé gli elementi per dare speranza al futuro, senza i quali si costruisce sulla sabbia con gravi conseguenze sociali. Un ruolo speciale rispetto alle istituzioni educative, scuole e università, e qui in Romadre, e tutte le nostre università, Unide, la Lums e altre che partecipano a questa giornata, senz'altro, lavorano proprio per questo, coniugare, fornire un insieme di conoscenze tecniche, e favorire, non solo un insieme di conoscenze tecniche, certamente anche quelle, ma favorire il processo di crescita della persona nella sua totalità. è necessaria una formazione integrale degli studenti, l'importanza di politiche di occupazione che riescano a coniugare la flessibilità del mercato con la stabilità e certezza del lavoro, cioè al fine di favorire un adeguato contesto sociale che non punti allo sfruttamento delle persone, attenzione, cerchiamo di non essere sfruttati, ma garantire attraverso il lavoro la possibilità di costruire una famiglia e di educare dei figli. E qui siamo proprio in pieno diritto naturale. Diceva Ulpiano, il giusto naturale, questo quadro di natura è un animale ad hoc, e l'esempio, quindi è quello che la natura insegna a tutti gli esseri viventi, e l'esempio è proprio il matrimonio, la procreazione e l'educazione dei figli. In questo quadro rientra anche a organizzare questi incontri, sollecitare i giovani a appassionarsi a queste tematiche concrete, di vita quotidiana, a pensare grande, allargando i propri orizzonti, quotidianamente impegnarsi per trovare soluzioni di aggregazione e di inclusione. E poi nell'immediato andare a votare, lavorare, partecipare alla vita pubblica anche europea, oggi che si viaggia, diciamo con frontiere aperte, ho messo tra virgolette, questa è la frase che dico sempre ai ragazzi, anche se poi ogni tanto ci sono piccole così varianti, è come un po' nell'antichità, senza passaporto, perché i romani non ce l'avevano, con un'unica moneta, perché i romani avevano il Nus, e con questo attraversavano davvero tutto l'impero. Così penso alla canzone di Gabber, citata, sfacitata da tutti, valida sempre che è democrazia e partecipazione, quindi davvero partecipare attivamente, questa è cittadinanza viva. Si potrebbero individuare ulteriori conseguenze che toccano problemi epocali, dall'immigrazione al divieto di finanziare con i fondi dell'Unione Europea, la ricerca che distrugge embrioni o l'aborto in paesi terzi. Non è questo il momento per scendere nella casistica, è importante però indicare la stella polare da seguire per raggiungere l'obiettivo. Passo così a trattare il terzo aspetto avviandomi a concludere. A indicare la stella polare sono ancora una volta i padri fondatori. Schumann notava che l'Europa ha procurato all'umanità il suo pieno sviluppo e ha ora il dovere di insegnare una nuova strada, unita e forte. L'Europa deve diventare la parola d'ordine per le giovani generazioni che desiderano servire un'umanità bisognosa di imparare di nuovo dopo troppe lacerazioni la fraternità. Questo concetto di fraternità che potremmo dire va dal diritto romano a oggi, penso Papa Francesco recentemente l'ha citata, è la stella polare nel cammino di integrazione per raggiungere la pace. E così si chiude un po' questo cerchio della relazione e la fraternità essere una componente essenziale della societas sul piano del diritto pubblico, quindi nel campo del diritto, un elemento importante delle relazioni del popolo romano. Nell'età odierna in cui appare sempre più chiaro che le grandi questioni giuridiche devono essere affrontate in una dimensione locale e sovranazionale al tempo stesso. La fraternità costituisce una chiave di lettura che favorisce l'equilibrio e la sintesi fra libertà e uguaglianza in modo che l'una e l'altra si alimentino vicendevolmente. Non è molto distante da questa idea chi oggi ritiene che la fraternità sia un ambiente di composizione dei conflitti fra diritti. Seguendo questa bussola le nuove generazioni senza alcuna pretesa confessionale possono rinvigorire nei paesi europei la civiltà, anche la civiltà cristiana che li ha plasmati e così nell'orizzonte del dilemma di Beggenford, questo noto studioso costituzionalista tedesco, dare all'Europa, altrimenti, come diceva il cardinale Ratzinger, vuota dall'interno la sua anima. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie alla collega della Lusa Baccari. Mi è fatto venire in mente citando Giuliano Amato una cosa che lui dice poi spesso sempre in questi ultimi incontri che lui fa, cioè che in realtà l'Europa il suo dovere un po' l'ha fatto perché i ragazzi, i giovani soprattutto delle generazioni del liceo, delle università, sono profondamente europeisti quindi questa Europa non ha lavorato male. Quello che manca forse è un po' una generazione intermedia un po' perduta ma noi siamo fiduciosi che questi ragazzi di oggi, questi giovani di oggi ci porteranno a un'Europa più integrata nell'arco di 10-15 anni in cui finalmente ci faranno dire non solo civis romanus summa ma civis europeus summa. Speriamo di arrivare finalmente a questo giorno. Grazie Maria Pia. Adesso devi passare alla parte... Sì, ovviamente se ci sono delle domande ma qui la fame è la fatta padrona però adesso tu devi andare a fare l'intervista con la nostra radio e chiamerei a questo punto come ultimo... ...sindaco del Comune di Bazziano. Grazie di essere qui. Grazie per evitare considerato anche l'ora e qualche crampo un po' allo stomaco che prende cerchiamo di leggere il meno possibile rispetto all'esperienza che ho messo in piedi nel relazionarvi questo rapporto. Bazziano è una piccola comunità nel Lazio provincia di Latina immersa in un verde meraviglioso con delle attività che attraggono tantissimo ma una delle più importanti attività e tra l'altro patria di un nobile personaggio quale è Aldo Manuzio invendore della stampa tascabile quindi dell'italico del corsivo che ha di fatto rivoluzionato il mondo è stato sempre un po' antisignano nelle nostre zone per poter attivare attivarsi e stimolare questo rapporto di integrazione federalista europea e su questo ha improntato negli ultimi anni dal dopoguerra in poi ma anche prima della seconda guerra mondiale o della prima guerra mondiale una serie di attività è stato un po' il primo paese nella zona in una zona dove si affaggiava in una padute pontina abbastanza particolare metodi particolari stage estivi della Cuglia Vescovile e quindi abbiamo avuto tutta quanta una serie di presenze che ci hanno permesso di poter forgiare nei giovani una idea di un rapporto di conoscenza a livello internazionale lo stesso Manuzio nel Cinquecento quando andò via dalle nostre località passando a Roma a Subiaco nella biblioteca della Porziongola di Subiaco ci sono i primi due volumi che Manuzio ha stampato e ha donato a dei monaci che custodiscono non sono accessibili a tutti inviterei proprio l'università e le scuole superiori a andarla a visitare una volta c'era padre Beta che era il bibliotecario di quella località di quella biblioteca e difficilmente permetteva l'accesso adesso probabilmente anche lì si è aperto ed è possibile proprio vedere diviso il passaggio dalla Manuense alla libro a stampa che di fatto mi consenta di fare una piccola così definizione si è passato dal costo del libro che era il valore di un appartamento attuale al costo di un valore di una sedia con Manuzio quindi la diffusione della cultura in campo europeo ma non solo Manuzio trasferendosi prima a Ferrara poi a Venezia da ultimo dove ha costruito una serie di tipografie non solo una ma diversi punti di riferimento lui è diventato un umanista con Erasmo da Rotterdam Pietro Bembo ha riuscito a fare tutta una serie di iniziative per poter superare proprio il decadimento del periodo medovale quindi noi veniamo forgiati da questo tipo di opportunità che il territorio e questi personaggi ci hanno dato e Bassiano su questo la propria popolazione è stata sempre un po' antisignana su queste cose per parlare da ultimo di una serie di iniziative Adriano Olivetti negli anni 50 nella provincia Pontina tre comuni solamente hanno avuto l'opportunità di avere dei sostegni l'acquisto la donazione l'apertura delle biblioteche da parte di Adriano Olivetti era Bassiano Terracina e Latina io spero e mi auguro che attraverso questa opportunità della riconoscenza nei confronti di un grande personaggio che ha dato moltissimo alla cultura tant'è che noi abbiamo una biblioteca che si è formata nella storia attraverso proprio le donazioni di Adriano Olivetti adesso sono tre piane molto fornita di testi informatizzata che si collega in maniera particolare in un rapporto così attento particolare nello scambio internazionale noi abbiamo fatto una serie di gemellaggi uno tra cui è riuscito in maniera perfetta un gemellaggio con un paese francese Ponta Roián poi ne abbiamo fatto un altro con la Russia la Grecia la Tunisia la Spagna ci siamo ampliati in questo rapporto di scambi culturali di scambi commerciali Ponta Roián è un comune piccolo quanto Bassiano però ha una produzione di noci favolosa molto intensa che esporta un po' dappertutto noi ci siamo avvarsi dell'opportunità di avere una produzione di prosciutti e quindi su questo scambio anche commerciale abbiamo attivato una serie di opportunità di conoscenza dei temi del rapporto della costruzione europea proprio su questa dimensione debbo però ritornare un attimo indietro su questo aspetto per poter dire ma in questa logica le autonomie locali come si inseriscono e che cosa fanno io che sono un amministratore un po' di lungo corso ho visto la legislazione che ha sempre più penalizzato le comunità locali il tentativo di dover debellare direi così il sistema dell'autonomia locale che è fondata una nazione come l'Italia che è importantissimo 8.245 comuni non possono i piccoli comuni essere associati per una serie di norme tolti dal sistema del rapporto geografico con l'associazione di servizi perché altrimenti le piccole realtà c'è lo svuotamento l'invecchiamento l'abbandono e quindi i territori non sono curati questo tipo di rapporto io invece l'ho trovato su una serie di direttive di norme che a livello europeo ci hanno permesso di poter accedere a tutta una serie di opportunità economiche finanziarie e di investimento dedicato verso il territorio allora questo ha permesso di poter rinverdire la bilancia dell'invecchiamento si è spostata un po' nella nostra comunità siamo diventati anche un punto di riferimento attrattivo da questo punto di vista quindi ci sono delle coppie che scelgono di poter restare vivere di poter sostenere le scuole per poter dare un contributo fattivo nella dinamica demografica e non è solo l'immigrazione noi non abbiamo ottenuto l'opportunità di avere la presenza notevole di immigrazione però siamo un comune che è formato da una spirale che si apre e accoglie aperto all'accoglienza al diverso con un'integrazione notevolissima importante per poter far crescere dal punto di vista della cultura e del sociale e su questo abbiamo invasito tutta una serie di altre attività successive alla presenza di questo dato che dicevo prima dovuto alla comunità alla comunità Olovetti abbiamo creato proprio questi tipi di rapporti di scambi commerciali di convegni di incontri tutta una serie di sterge fra varie comunità internazionali presenti una delle migliori stagioni quando riuscivamo ad avere la presenza con una serie di iniziative per la sistemazione di alcuni percorsi negli anni 80 con dei giovani a livello europeo che venivano e davano un contributo di conoscenza ma anche fattivo di lavorazione campi di lavoro si chiamavano ma era uno scambio di rapporti internazionali tant'è che con sentite una piccoletta molti giovani hanno avuto l'opportunità di conoscere delle ragazze o viceversa e hanno avuto un incontro personale familiare con un percorso di vita che oramai dura 30 anni quindi hanno dato un contributo notevolissimo oppure altre attività che ci hanno permesso attraverso proprio questo rapporto di gemellaggio di riuscire a mettere in piedi una serie di iniziative con i comuni di Nantes con il museo dell'Imprimer che ha dato una svolta al nostro museo abbiamo creato un museo delle opere aldine ma poi lo abbiamo trasformato per avere una gamma di opportunità non solo europei ma mondiali proprio per questo tipo di discorso l'abbiamo trasformato in museo delle scritture allora ci troviamo le scritture di Maya ci troviamo le scritture orientali tutte le scritture del mondo sia quelle primitive che quelle attuali in un confronto impari rispetto io vi invito a visitare siete miei ospiti naturalmente con il panino del prosciutto perché una delle iniziative bellissime che abbiamo fatto è il panino della cultura cinque anni fa ricordo un sottosegretario del ministero dell'agricoltura lo invitai ad un dibattito perché noi abbiamo una sagra la sagra del prosciutto in un dibattito interessante allora gli lanciai l'idea che per poter dare il DOP come indicazione geografica più l'IGP che è il DOP dei nostri prodotti gli lanciai l'idea del panino della cultura quindi pane prosciutto e libro che era un elemento di rapporto di conoscenza fra l'enogastronomia i prodotti della terra con gli attuali che libro mettevate insieme al panino prosciutto il libro della cultura era variegato c'erano gialli c'erano documenti importantissimi storici tutti i libri della storia locale perché molto spesso nella tradizione orale si perdono queste cose queste tradizioni e allora riuscire a pubblicizzare dei libri di storia locale per noi era un grande effetto poi insomma noi abbiamo l'opportunità di avere nel nostro territorio un personaggio importante come uno scrittore importante come Pennacchi che subito è riuscito a dare un'impronta così particolare al panino della cultura ma era un modo di socializzare di invitare gli amici francesi tedeschi danesi olandesi oppure gli amici irlandesi noi avevamo degli immigrati in Irlanda che riuscirono a portare tutta una serie di giovani in uno scambio interrelazionale con coloro che si erano immigrate negli anni precedenti e che si erano adottati in quel tipo di contesto quindi questo aspetto è riuscito a coinvolgere in maniera particolare molte delegazioni molti giovani di paesi per esempio dallo stato della vittoria in Australia che faccio una piccola una piccola digressione su Manuzio io purtroppo resto a volte sorpreso dal fatto che una figura così importante rivoluzionaria è poco conosciuta in Italia ma se andiamo in Inghilterra se andiamo in America se andiamo in Australia se andiamo in Cina a Pechino e andiamo in una biblioteca là si trova un libro una cinquecentina di Aldo Manuzio purtroppo qui invece io ho avuto un'esperienza particolare ma non lo faccio in termini politici solo personale con l'allora Presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti ricorreva una ricorrenza importante di questa figura e noi abbiamo organizzato tutta una serie di manifestazioni a livello europeo ecco perché la caratteristica è il timbro di questa comunità piccola comunità che vuole dare come esempio proprio di attività lì gira tutto intorno a questo aspetto dell'europeismo il rapporto del comune di Passiano e gli scrisse di avere almeno il padrocinio non le risorse perché noi con il nostro bilancio le risorse dei cittadini delle tasse dei cittadini non vogliamo nulla dalle altre istituzioni se non la partecipazione il sostegno l'attenzione verso temi che vogliamo porre oggi ci troviamo i temi del clima beh insomma io invito a visitare il paese ed è uno dei climi migliori da questo punto di vista con della qualità della vita particolare quindi noi sosteniamo appieno queste iniziative di questi giorni da parte dei giovani allora ai veni di Piretti gli avevo chiesto di poter dare il patrocini a queste manifestazioni ho avuto una lettera che custodisco negli archivi storico molto perché è diventato storico non solo corrente non era solo cronaca ma quella è diventata storia questa mi risponde dicendo ma insomma no la Camera dei Deputati non poteva dare un riconoscimento con un patrocinio ad una figura minore ce ne erano tante di figure minore quando l'allora presidente Jacques Delors invece ci diede il patrocinio della comunità europea cioè stiamo ad un livello con un riconoscimento da parte di Delors e anche da una citazione nel libro Bianco per la costruzione di un'Europa diversa di un'Europa migliore di un'Europa di scambi dei popoli di cittadini delle merci su questi aspetti c'è proprio l'impasti allora l'idea di dire insomma no questa volta voto è azzeccata dal punto di vista del messaggio perché è un messaggio che attraverso i social arriva a tutti i giovani e i giovani sono i protagonisti del domani e quindi Bassiano vuole essere protagonista domani in un l'ambito del futuro proprio in quel rapporto di spirale dove le macchine non entrano dove non c'è il consumismo dove non c'è il rapporto dello stress giornaliero ma dove si sentono non solo si annusano ma si sentono gli odori del prodotto difficile nelle cucine delle donne di Bassiano che riescano ancora a cucinare prodotti genuini anche i uomini cucinano gli uomini riescono a produrre quelle produzioni che ci permettono di poter cucinare qualche volta si va anche al fontanile a lavare qualche panno gli uomini quindi da questo punto di vista cerchiamo di recuperare un rapporto di parità che è sempre stato attento nell'ambito della nostra comunità io non vi sto ad annoiare tutte le cose che noi abbiamo fatto perché l'ho scritto in una relazione cercherò di poterla diffondere il più possibile quando mi è possibile anche attraverso i social per poter conoscere con attenzione tutte le nostre attività che quasi tutti i sabbadi riusciamo a fare quindi dal piccolo aspetti teatrali al rapporto di scambio più generazionale sui temi particolari attuali insomma con dibattiti tra l'altro insomma una delle cose su cui ci abbiamo fatto una vera battaglia sono i beni comuni l'acqua i rifiuti sono temi questi che sono all'attenzione del rapporto comunitario europeo adesso anche del Parlamento nazionale pare non so se riescono a trovare la sintesi comune per poter ottenere questo tipo di risultato però noi siamo ricchi di soggetti e abbiamo la voglia la determinazione di salvaguardare questa genuinità che ci viene espressa dal territorio e anche un altro tipo di iniziativa che ci ha contraddistinto negli ultimi anni la difesa della nostra scuola questa è una battaglia che non può essere legata a un discorso di una piccola comunità in Italia ci sono 5.024 comuni che sono al di sotto di 2.000 abitanti e che secondo determinate norme sono a rischio di chiusura delle scuole perché non raggiungono un numero insomma noi abbiamo fatto una battaglia addirittura abbiamo scomodato il nostro Papa Francesco che per ben due volte ci ha ricevuto e in una seconda volta si hanno riusciti a fargli dare una sua preghiera particolare nel primo incontro nel secondo incontro la mia preghiera è stata esaudita perché la scuola di Basiano di Annuncio viene salvata da questo punto di vista quindi c'è la presenza e l'istruzione e il punto di riferimento è una cosa utilissima per poter creare questo rapporto così indispensabile per poter crescere dal punto di vista della qualità della vita e del rapporto di conoscenza quindi anche i nostri giorni hanno avuto l'opportunità di non poter più emigrare in altre località che scoppiano tra l'altro con delle condizioni scolastiche che sono precarie allora invece noi abbiamo fatto tutta una serie di altre iniziative che sono finanziate dalla comunità europea una insieme con lei nel sole e siamo riusciti a mettere tre centalini per l'energia elettrica e la ricarica elettrica per le macchine elettriche e l'altro giorno è arrivato un signore da Roma e ci ha messo un bellissimo messaggio ringraziandoci perché venendo da Roma non sapeva dove ricaricare la macchina elettrica e lì ha trovato questa opportunità quindi questo salto di qualità che vogliamo fare proprio nel rapporto della sintesi europea ci permette di poter riuscire a dare un'impronta così particolare quindi l'enogastronomia il turismo la cultura questi aspetti ambientali ci debbono comunque insegnare una cosa che lo stare insieme ci permette di crescere e chi pensa al sovranismo in maniera particolare e riduttivo ragiona in senso provincialista invece noi vogliamo ragionare in senso europeista mondiale in una logica dove ci sono 3-4 competitor l'America da una parte la Russia dall'altra la Cina in un altro punto di vista forse l'Africa non so come verrà discussa non possiamo ragionare nel piccolo se non ragioniamo a livello di sinergia europea e allora su questo noi vogliamo dare nell'ambito della tradizione che ci ha sempre costato a destino in questi anni so che però nel pomeriggio verrà anche il figlio di Mario Zagari che era un attento cultore delle tematiche europee e noi lo abbiamo seguito lo abbiamo sostenuto proprio per quegli aspetti io tra l'altro ho avuto modo di poter partecipare ad associazioni importanti come la l'AICRE l'associazione dei consigli dei comuni delle regioni d'Europa che ha spinto tantissimo verso questa costruzione europea così come il movimento federalista e non possiamo in questa logica non ricordare il rapporto del manifesto di Ventotene con Artiero Spinelli che ho avuto la fortuna di poter conoscere proprio per poter apprezzare che gli elementi di quel manifesto sono oggi più che mai utili e necessari alle nostre comunità ma alla comunità europea grazie ringraziamo il sindaco del gruppo di Bastiano per questa così appassionata relazione da cui traiamo alcune personalmente riflessioni primo che sicuramente Bastiano si candiderà per il prossimo evento dei CdE Roma e Lazio come evento a chilometro zero in un contesto enogastronomico culturale sicuramente di Didier secondo sono molto contento di vedere che anche un comune piccolo un'entità locale così piccola abbia uno spirito europeo così forte che evidentemente porta avanti grazie a immagino un'intera cittadinanza dedita allo spirito europeo non possiamo altro che essere contenti non so se il collega Manuel Manotta del CdE di Bastiano vuole dire qualcosa sui CdE sul ruolo dei CdE a Bastiano è vero che anche per voi è un CdE giovane che si è appena fatto Manuel il CdE di Bastiano in realtà è nato l'anno scorso l'unica cosa che può contraddistinguere rispetto agli altri in altri comuni che abbiamo qui in Italia è che il comune di Bastiano ha vinto la targa la targa d'onore del Consiglio d'Europa il Consiglio d'Europa emette questo premio che si sviluppa in quattro stage il comune di Bastiano al momento è candidato per l'ultimo quindi quello definitivo che è il premio d'Europa che quindi si saprà per aprile massimo maggio nel frattempo è titolare da due anni della terza la targa d'Europa la placchette d'onore e in Italia diciamo che dal pieve in giù se vogliamo dal pieve in giù se vogliamo parlare in termini sovranistici lo hanno solamente due comuni quindi su più di 8.000 comuni le hanno solamente due uno di questi intanto è il comune di Bastiano tolto questo la sagra del prosciutto che magari può interessare di più si farà l'ultima settimana di luglio ringraziamo il professore Torino per l'ospitalità mi sembra che la citazione della sagra del prosciutto sia particolarmente evocativa di quello che ci saperà aspettare allora io vi invito tutti a raggiungerci per il lunch light lunch nelle sale che sono sale studenti che sono sullo stesso piano ben ritrovati non è mai facile riprendere i lavori dopo una pausa pranzo così soddisfacente come quella che ci è stata assicurata dal CNR che ringraziamo per la quantità e la qualità del nostro lunch che non era per nulla light evidentemente prima di passare la parola adesso a Mario Leone dell'istituto degli studi federali a Teo Spinelli vi ricordo un paio di cose soprattutto per gli studenti nella nostra biblioteca del CDE è oggi ma per alcune settimane aperta una sezione che si chiama Take Europe dove potete oltre che consultare tutta una serie di testi sull'Unione Europea ci sono diverse pubblicazioni soprattutto della rivista La Cittadinanza Europea copie che sono in più che potete tranquillamente prendere e portare con voi da qui il termine Take Europe quindi non vogliamo conservarle ma vogliamo diffondere quindi abbiate pazienza di andare a visitare la nostra biblioteca e potete prendere queste obbligazioni dove peraltro c'è anche una bella bacheca dove trovate alcuni scritti della biblioteca del fondo Binolivi con dediche di Alte Rospinelli di altri padri dell'Unione Europea a Binolivi che vale la pena guardare adesso do subito allora la parola a Mario Leone dicevo dell'istituto studi federalista Tiro Spinelli a maggior ragione il quale presenterà una relazione e siamo nei consueti 25-30 minuti Mario su sussidiarietà cittadinanza e cooperazione istituzionale nell'Unione Europea il titolo non deve spaventare anzi deve essere di stimolo a comprendere questi temi questi profili questi concetti fondamentali evidentemente nell'ambito del processo di integrazione europea a te Mario ringrazio ringrazio l'organizzazione di questo evento ringrazio CDE e New York Direct del Lazio quando ho proposto questo titolo non mi sono reso conto bene della mole della quantità di informazioni che potevano essere e secondo me vanno date in un contesto soprattutto come questo a livello universitario per non perdermi in chiacchiere ho appuntato quindi preferirei trasferirvi tutte le informazioni nel modo più veloce e comprensibile attraverso appunto le mie note cominciarei dalla cooperazione istituzionale nel nostro ordinamento europeo come in ogni altro ordinamento giuridico abbiamo dei principi che definiamo fondamentali ed altri principi che sono di diritto amministrativo principi generali di diritto amministrativo tra l'uno e l'altro poi bisogna andare a distinguere mentre l'aspetto dei principi fondamentali è più riferito al rapporto tra la comunità e gli stati i secondi quelli del rapporto dei principi generali di diritto amministrativo sono invece più concentrati sul rapporto tra la comunità e i cittadini o lo Stato e i cittadini mentre i principi fondamentali li ritroviamo nei trattati quelli generali di diritto amministrativo invece li troviamo nelle norme di diritto derivato tra i principi generali fondamentali quelli del diritto comunitario senza dubbio è quello della leale cooperazione è un principio che già era stato espresso nell'articolo 10 del trattato delle comunità europee secondo il quale vi leggo testualmente gli stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della comunità con gli stati membri obbligati ad adottare quelle misure di organizzazione amministrative atte a consentire l'applicazione della normativa comunitaria anche se poi si è evoluto nel tempo fino a qualche anno fa l'Unione Europea ovviamente comunità europea prima e gli stati nazionali governavano un sistema che possiamo sentire un po' lezioso ecco viene definito spesso lezioso anche se articolato e che in parte rispecchiava e credo anche rispecchia ancora oggi una visione un po' nazionalista del diritto in particolare proprio del diritto amministrativo che è uno strumento di attuazione delle disposizioni delle scelte a livello politico oggi usiamo un'altra espressione aggiungiamo europeo quindi il diritto europeo non più comunitario a quello amministrativo partendo da un altro presupposto di integrazione giuridica fra almeno due ordinamenti da una parte quell'insieme di regole comuni ai vari diritti amministrativi nazionali dall'altra un diritto amministrativo europeo mediato dal recepimento che diventa parametro di legittimità della stessa attività amministrativa nel primo caso questa distinzione si è venuta diluendo in una concezione di amministrazione europea integrata si usa molto dire anche l'unione europea lascia fare le amministrazioni nazionali anziché fare direttamente qualcuno lo usa un po' in modo provocatorio politicamente parlando ma questo è un sistema che già era stato fatto notare all'inizio degli anni 90 del secolo scorso e che era stato intuito a base di una concezione di diritto amministrativo che era di coamministrazione quindi a più livelli è ovviamente un'elaborazione abbastanza recente e un'attuazione ancora più prossima a noi è quella che vede nel coordinamento tra l'amministrazione comunitaria e le amministrazioni nazionali in una forma di composizione verticale ed orizzontale un insieme di organizzazioni di attività quelli che nella dottrina sono stati chiamati sistemi comuni che rappresentano una presa d'atto della necessità di comporre gli interessi divergenti certo ma non svincolabili da esigenze comuni i sistemi esecutivi nazionali e l'amministrazione comunitaria sarebbero il riflesso della natura collettiva e consociativa del governo europeo evidenziano i mutamenti intervenuti in un'organizzazione amministrativa dell'Unione Europea trasformatasi da monista a policentrica la cooperazione istituzionale di quella che immaginiamo ed è sempre stato immaginato cioè quella che vede al centro dell'attività amministrativa anche a livello europeo non è che la Commissione Europea se vogliamo proprio individuarla ma questo ovviamente non è un organismo che agisce separatamente da qualunque altro organismo all'interno qualsiasi altro ente che agisce all'interno dell'attività amministrativa europea perché la Commissione Europea non potrebbe attuare la sua politica se non avesse l'ausilio di organismi esterni come i comitati le agenzie europee le agenzie esecutive le reti di organismi le autorità indipendenti quindi è attraverso l'interazione di questi organismi che avviene poi a più livelli giuridicamente editoriali passatemi il termine l'attuazione della politica amministrativa a livello comunitario devo soffermarmi però sulla valorizzazione dell'organizzazione che avviene poi a diversi livelli qui entra in gioco uno dei principi fondamentali e intorno al quale poi si argomenta e dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo che è il principio di sussidiarietà la sussidiarietà deriva dal latino subsidium quindi sussidio aiuto con riferimento specifico poi i rapporti tra il diritto amministrativo già comunitario ora europeo e nazionale alla sussidiarietà opera secondo quanto affermato dal professor Sabino Cassese come limite all'attuazione amministrativa comunitaria diretta del diritto amministrativo comunitario e come incentivo alla cooperazione e alla coamministrazione il significato e la finalità generale del principio di sussidiarietà risiedono nella ripartizione delle competenze quindi tra più livelli più livelli di potere un principio questo che è a base di qualunque struttura di tipo federale che sia uno stato federale o una composizione di una federazione tra più stati questo principio è un criterio regolatore quindi per l'esercizio delle competenze non esclusive attualmente dell'unione europea il principio di sussidiarietà quindi esclude l'intervento dell'unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli stati membri è legittima invece l'unione esercitare i suoi poteri quando gli stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di un'azione prevista in misura soddisfacente e quando l'intervento a livello dell'unione può apportare un valore aggiunto facciamo un passo indietro però nel tempo questo principio è stato introdotto a livello comunitario con il trattato di Maastricht che ha trovato poi appunto accoglimento introducendo quello che era l'articolo 5 del trattato delle comunità europee l'atto unico europeo ne aveva fatto accenno in precedenza ma solo relativamente ad alcuni temi settoriali per esempio in materia ambientale ma non aveva dato una definizione esplicita il successivo trattato di Amsterdam ha poi annesso al trattato che istituisce la comunità europea un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidialità e di proporzionalità mentre il trattato di Lisbona ha abrogato le disposizioni del trattato sulle comunità europee chiarendo il principio di sussidialità all'articolo 5 aggiungendo riferimento esplicito poi alla dimensione regionale e locale il principio di sussidialità è stato introdotto in un ordinamento giuridico italiano facciamo il ponte proprio grazie al diritto comunitario oggi europeo dal 2001 è nella nostra carta costituzionale questo è stato uno spartiacque non solo giuridico ma di città democratica rispettosa delle diversità anche amministrative nell'intervento pubblico prima dell'attuale articolo 118 il semplice principio del parallelismo che affiancava la competenza amministrativa allo Stato e alle regioni in quelle materie per le quali era proprio la potestà legislativa possiamo dire che in ambito costituzionale italiano il principio di sussidiarietà ha una superficie di appoggio sociale e giuridico amministrativa gli enti territoriali quindi le regioni le città metropolitane le province i comuni intervengono nei confronti dei cittadini degli enti amministrativi sottostanti dal più prossimo al più distante e soltanto quando l'entità sottostante non sia in grado di agire per conto proprio e solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente il trattato di Lisbona ha sostituito il protocollo del 1997 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità con un nuovo protocollo la cui principale innovazione riguarda il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel controllo ovviamente del rispetto da parte dell'Unione dell'applicazione del principio di sussidiarietà il principio di sussidiarietà quindi ha al centro non può che essere ovviamente diversamente al centro ci sono i cittadini proprio in quanto sono coloro che eleggono le assemblee eleggendo l'assemblea nazionale e eleggendo poi il Parlamento europeo un nuovo sistema politico organizzativo che parte dall'Italia e va verso l'Unione Europea e viceversa in un contesto che oggi potremmo chiamare più probabilmente passate il termine un po' a tecnico ma che è usato in un altro modo come di sussidiarietà circolare un modello di amministrazione nazionale ed europea condivisa che rende interconnessi i cittadini nelle loro esigenze obblighi e diritti con le opportunità e l'efficienza delle istituzioni stesse in virtù di questa procedura ogni Parlamento nazionale o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti può entro un dato termine sono otto settimane a decorare dalla data di trasmissione da un progetto di atto legislativo inviare ai Presidenti del Parlamento europeo del Consiglio della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per cui ritiene che il progetto in causa non si conforma al principio di sussidiarietà un altro organo da ritenersi fondamentale a livello europeo è il Parlamento europeo quest'anno a maggio ricorreranno i 40 anni dalla sua elezione a suffraggio universale diretto proprio dal Parlamento europeo è partita con l'avventura chiamata sussidiarietà quando il 14 febbraio del 1984 con l'adozione del progetto di trattato sull'Unione europea voluto promosso e trascinato l'approvazione dal grande artigolo Spinelli quel trattato ovviamente poi accantonato dal vertice di Milano nel 1985 per una alzata di spalle della signora Thatcher ha proposto una disposizione a base alla quale nei casi in cui il trattato attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri questi ultimi possono agire laddove l'Unione non abbia adottato atti normativi pensate un po' quindi l'Unione può assumersi soltanto quei compiti che possono essere portati a compimento o più efficacemente con un intervento comune rispetto a quanto gli Stati operano separatamente il Parlamento europeo è l'organo supremo di espressione del diritto di cittadinanza europea che si esplicita non solo certo ovviamente col diritto di voto attivo e passivo spesso solleviamo forse in modo un po' accusatorio un deficit democratico proprio dell'architettura dell'Unione che non vede in questa istituzione il motore del processo decisionale dell'Unione europea né il legislatore principale poiché non gli spetta il potere d'iniziativa europea quando tutti gli stati democratici il legislatore con la L maiuscola è proprio l'ente eletto da poco Luigi Einaudi in un articolo pubblicato per il Corriere della Sera il 28 dicembre 1918 dal titolo Il dogma della sovranità e l'idea della società delle nazioni un lavoro che è stato pressoché dimenticato non solo all'epoca ma anche durante la seconda guerra mondiale e che criticava il sistema della società delle nazioni Luigi Einaudi ha contribuito involontariamente ad ispirare uno dei documenti più importanti della nostra resistenza italiana ed europea il manifesto di Ventotene che è stato redatto proprio durante il periodo del confino fascista da Artiero Spinelli d'Ernesto Rossi una pietra sulla quale è stato poi eretto e continua spero ad approfondire la propria esistenza l'attuale Unione Europea Luigi Einaudi scrisse bisogna distruggere e bandire per sempre il dogma della sovranità perfetta se si vuole che la società delle nazioni nasca vitale lo si può e lo si deve perché esso è falso irreale parto della ragion ragionante la verità è il vincolo non la sovranità degli stati la verità è la interdipendenza dei popoli liberi non la loro indipendenza assoluta per mille segni manifestasi la verità che i popoli sono gli uni dagli altri dipendenti che essi non sono sovrani assoluti ed arbitri senza limite delle proprie sorti che essi non possono far prevalere la loro volontà senza riguardo alla volontà degli altri alla verità dell'idea nazionale noi apparteniamo a noi stessi bisogna accompagnare la verità della comunanza delle nazioni noi apparteniamo anche agli altri un altro intervento che secondo me è molto puntuale è stato fatto dal professor Giuliano Amato il 17 gennaio scorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 all'università La Sapienza già richiamato è stato richiamato? sì una parte no 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 io l'ho legato più che altro al discorso della contrapposizione tra l'anti-europeismo che nasce viene un pochino sollecitato dalla viene imputata la causa di questo anti-europeismo all'elitismo burocratico europeo e Giuliano Amato ha focalizzato l'attenzione su quelle generazioni che sono ovviamente quelle generazioni di adulti di oggi che sono cresciute in un'Europa in cui non si è avvertita l'impellenza etica poiché non hanno avuto modo di confrontare i benefici che essa ha portato con l'assetto che la precedeva molti di costoro non sono anti-europei ha scritto Giuliano Amato certo non come una necessità per questo finiscono facilmente per convenire con coloro che anti-europei lo sono davvero ma pesano davvero tanto e sono loro il nostro futuro si è chiesto il professor Amato noi siamo nell'università che è il luogo deputato credo umilmente di pensarla non so così anche con qualcuno di voi è il luogo deputato alla conoscenza e alla sperimentazione è il luogo dove si costruisce la visione ed è qui che i giovani maturano il loro presente per costruire secondo me il miglior futuro possibile condivido con voi la conclusione del professor Amato il favor per l'Europa è sempre invariabilmente più largo fra giovani in misura tale da portare a concludere che i giovani specie quelli scolarizzati sono in realtà europeisti perché lo sono? perché a differenza delle generazioni che immediatamente li precedono essi hanno avuto una formazione europea l'hanno avuta nella scuola primaria che li è abituati alla multietnia e non alla chiusura nazionale l'hanno avuta negli studi superiori nel corso dei quali Erasmo non Erasmo hanno viaggiato per tutta Europa creandosi amicizie in altri paesi l'hanno avuta dopo gli studi andando a lavorare altrove per periodi anche brevi ovvero essendo in contatto con loro amici l'hanno fatto insomma la loro realtà è europea e ne sono consapevoli possiamo pensare secondo voi di svincolare questa opportunità dall'apertura creata da riconoscimento del diritto di cittadinanza a mio avviso no anzi dobbiamo ammettere dobbiamo ammettere di più questo concetto di cittadinanza si è dovuto riplasmare dalla necessità causata da numerosi cambiamenti o se volete sconvolgimenti della società moderna una riflessione che non può non considerare la globalizzazione come processo che entra nella realtà quotidiana del vivere degli individui essere cittadino ha un significato diverso se risiedo in un territorio dove sono nato ne ha un altro se questo come diritto appunto mi permette di acquisire delle possibilità delle possibilità perché sono un migrante trasnazionale forzato o meno da contingenze sociali economiche o politiche l'unione europea è un terreno di avanguardia è il simbolo dello stato di diritto e ha nella propria architettura l'attualità non chiamiamolo soltanto principio di cittadinanza i diritti che spettano perché cittadini europei vengono esercitati su un piano patrimoniale giuridico soggettivo ben oltre quello nazionale ma con una caratteristica a mio avviso importantissima ne è quest'ultimo la base di garanzia dell'esplicitarsi del primo perché cittadini europei lo si è perché cittadini di uno stato dell'unione qui i vari diritti riconosciamo il diritto di circolare e soggiornare liberamente in un qualsiasi stato dell'unione il diritto di essere elettore e di eleggere nelle elezioni amministrative e nelle elezioni europee il diritto di petizione davanti al Parlamento europeo la tutela e l'assistenza diplomatica di un qualsiasi stato dell'unione ovunque io mi trovi in qualsiasi stato al mondo se lì non è presente per esempio l'ambasciato o il consulato del mio stato di appartenenza è pensabile gettare a mare tutte queste conquiste in un articolo del sole 24 ore di ieri il professor Fabbrini ha risposto alle continue visioni che entrano in tensione e che spostano l'attenzione una volta dalla parte del centralismo di Bruxelles e altra volta invece alla priorità degli stati nazionali al centro questi di qualsivoglia processo certo ancora prigioniere però di una concezione della sovranità che è stata elaborata per il passato dell'Europa contrapporre scrive Fabbrini contrapporre la sovranità europea la sovranità nazionale è un errore che si pagherebbe caramente la sovranità può essere invece divisa tra gli stati membri e l'Unione in base a valutazioni empiriche e non astratte l'Unione europea ha bisogno di capacità istituzionali al centro come ha proposto recentemente il presidente francese Macron scrivendo il 5 marzo la lettera ai cittadini europei ma anche gli stati membri dotati della loro forza istituzionale come vuole invece la neomassima rappresentante della SEDV tedesca la Krampf-Karenbauer per ricomporre la disaggregazione europea occorre l'Unione federale non già uno stato europeo né un'associazione di stati europei nuove idee per un nuovo mondo mi avvio la conclusione aspirare a questo nuovo mondo a mio avviso significa partire dalla possibilità di concludere il processo di definizione dell'integrazione europea che non è concluso non è assolutamente concluso forse non è neanche realmente iniziato migliorare certo è migliorabile ma costruire ciò che è indispensabile finalizzare questa evoluzione per rendere l'Unione europea effettivamente luogo di democrazia che esalti la nostra cittadinanza europea completata con la più pura delle forme possibili di sussidiarietà cioè con la creazione di una federazione di stati se ci sarà nei principali paesi europei un numero sufficiente di uomini che comprenderanno ciò ha scritto al tiro Spinelli nel manifesto di Ventotene la vittoria sarà in breve nelle loro mani perché la situazione e gli animi saranno favorevoli alla loro opera e di fronte avranno partiti e tendenze già tutti squalificati poiché sarà l'ora di opere nuove sarà anche l'ora di uomini nuovi del movimento per l'unità dell'Europa libera noi dobbiamo per la nostra generazione e in particolare per le generazioni di donne e uomini che si stanno formando e affacciando al mondo del lavoro arrivare in fondo a questa strada che non sarà facile né sicura concludeva il manifesto di Ventotene ma deve essere percorsa e lo sarà vi ringrazio grazie a domani per questa relazione così attenta documentata ma non scevra di riflessioni critiche anche per quello che ci attende mi chiedo se qualcuno ha delle domande fra il pubblico e se no faccio una domanda io perché tu citi spesso Altero Spinelli ma come pensi una domanda che infatti ho fatto già questa mattina all'inizio a professor Luguri perché evidentemente il tema che tu stessi citato è importante cioè Macron e la Kraft Karen Bauer hanno fatto due discorsi apparentemente molto europeisti ma nella sostanza molto intergovernativa questo è un dato di fatto adesso più chiaramente rispetto a stamattina stamattina sono stato un po' più soft da questo punto di vista ora secondo te Altero Spinelli nella sua visione tu che sei del centro insomma del movimento federalista cosa ne penserebbe di queste dichiarazioni di Macron le considererebbe comunque da coltivare da Karen Bauer anche oppure da rigettare per ricominciare ancora una volta tutto da capo lo so che è una domanda un po' ambiziosa molto ambiziosa anche perché come ho detto prima magari potessi avvicinarmi un millesimo ad Artiero Spinelli e penso che avremmo già la federazione europea e allora Artiero ad un certo punto quando lui ha proposto il progetto di trattato nel 1984 che era un progetto di trattato molto molto snello però che andava ad individuare tutte quelle competenze e quei livelli di governo oltre che gli organismi ad hoc che poi abbiamo visto sorgere il trattato di Maastricht e portarceli dietro lui ammonì nel suo discorso finale il Parlamento europeo dicendo che bisognava tenersi ben distanti e ben attenti all'agire dei governi nazionali perché il rischio era quello di uscire in mare aperto per andare a fare la pesca pescare pesce più grosso usando il racconto di Hemingway pescare il pesce più grosso ma poi tornare in porto e ritrovarsi con la disca in mano che è quello che è avvenuto con il trattato Spinelli dell'84 quando erano in 85 lui è stato molto critico per quel poco che gli restava ovviamente da vivo le poche energie che gli restavano ancora ma è stato molto critico con il vertice di Milano dell'85 però non ha come dire guardato alla sconfitta in sé cioè l'accantonamento del suo progetto e la ripresa dell'atto unico quindi espressione di un percorso di livello di integrazione esquisitamente a livello commerciale ma si è rivolto ai giovani quindi lui indipendentemente dall'esito lui la sua vita se andate a leggere le prime pagine della sua meravigliosa autobiografia comincia nel descrivere la sua vita come sette sconfitte cioè io parto dai punti di forza della mia vita lui partiva dai punti delle sconfitte dalle sue sconfitte perché perché dalle sconfitte poteva rialzarsi e continuare a combattere per ottenere qualcosa avrebbe criticato aspramente sia Macron e anche altri come anche ha fatto in altri momenti della sua vita quando ha criticato aspramente nel 53 54 la CED ma secondo te noi dobbiamo essere più realisti e pragmatici e accontentarci di quel poco che ci offrono Macron e la Karen Mauer o dobbiamo volare più alti? noi dobbiamo volare più alti perché se non tentassimo l'impossibile non otterremmo l'impossibile quindi questo era uno dei must di Artiero Spinelli e quindi dobbiamo pretendere come cittadini europei il rispetto del nostro diritto di cittadinanza europea e senza l'applicazione reale del principio di sussidiarietà senza un riequilibrio di potere all'interno dell'Unione Europea centrando il potere legislativo sul Parlamento Europeo che è direttamente eletto da noi noi manterremo un sistema perverso dove la procedura legislativa è sostanzialmente in mano ai governi nazionali e i governi non fanno le leggi le leggi vengono fatti dalle camere rappresentative dei cittadini quindi tu sei contrario anche all'idea di doppia camera cioè Parlamento Europeo come camera del Po delle popolazioni e Consiglio come camera degli Stati questo non sono contrario però attualmente non è così cioè attualmente il Parlamento Europeo non ha l'iniziativa legislativa il Parlamento Europeo non può approvare una legge europea senza il Consiglio quindi e poi c'è questo organo di conduzione di input politico che è il Consiglio europeo dove ci sono gli stati nazionali i capi di Stato e i capi di Governo e i capi di Stato nazionale e questo è un vulnus della democrazia a livello europeo bene noi cittadini europei possiamo fare una battaglia di questo tipo arroccandoci aggrappandoci continuando a premere su l'acceleratore portando i principi costituzionali in seno al Parlamento Europeo che possa essere non dico in questa legislatura magari nella prossima un Parlamento Europeo costituente questo non significa accentrare tutto il potere legislativo al Parlamento Europeo mantenere nell'ambito di quei sistemi sembra quasi un eresì a dirlo non sia mai non sia mai che la democrazia appartiene al popolo che la eserce nei limiti perché magari questa definizione un po' di diritto costituzionale fa paura però è così e io sono per un costituzionalismo di tipo federale come quello americano dove c'è effettivamente una camera bassa una camera alta una camera bassa rappresentante dei cittadini una camera alta rappresentante degli stati e il percorso legislativo avviene attraverso una codecisione di questi due organismi attualmente non è così ecco perché è tutto sbilanciato a favore degli stati anche se il Parlamento Europeo le sue piccole conquiste grazie proprio all'attività fatta da Tiero Spinelli finché ne ha avuto la forza il Parlamento Europeo le ha ottenute certo qualche anno dopo la morte di Artiero però comunque queste conquiste in parte ci sono state grazie grazie a voi grazie a me allora proseguiamo nella nostra giornata adesso chiederei all'amico Cristiano Zagari di raggiungere è dell'ufficio di gabinetto della regione Lazio è responsabile delle relazioni internazionali di affari comunitari è soprattutto un amico personale è un amico dell'Università di Roma 3 dove ha anche insegnato per alcuni anni confidiamo che prima o poi torni a condividere con noi il suo sapere oggi il CDE del Consiglio regionale del Lazio lo ha portato qui da noi per parlarci proprio di un argomento molto importante per noi laziali non nel senso del tifo laziale evidentemente per noi laziali cioè condividere ciò che la regione Lazio fa qual è il ruolo come si pone la regione Lazio rispetto al processo di integrazione europea certo potrebbe parlare per immagino per ore su questo tema ma come a tutti i relatori chiediamo di rimanere nell'ambito dei 25 minuti in modo da poter stimolare un minimo di dibattito la mia domanda potrebbe anche non mancare evidentemente e quindi do subito a Cristiano la parola grazie grazie per la presentazione io penso che sarei tentato di rispondere alla domanda che hai fatto all'amico Mario Leone ma ho l'impressione che poi non parleremo più dell'argomento allora vediamo alla fine appunto no piccola precisazione sì CDE Giunta è il Consiglio regionale è importante perché va chiarita la cosa anche se devo dire che questo questo CDE noi abbiamo un CDE soprattutto grazie a una persona che lavora in Consiglio regionale che oggi qui che è Adriana Calic che è stata la prima che ci ha portato il progetto e dunque la ringrazio e glielo vorrei riconoscere perché è il minimo attività l'applauso Adriana meritatissimo non solo per questa cosa allora no devo dire mi fa specie intervenire qui perché io per molti anni guarda caso a quest'ora ho fatto lezione forse 4 anni proprio in quest'aula e la mia prima preoccupazione chiedo all'ultima fila ma va tutto bene in fondo perché ai miei tempi le persone in ultima fila andavano a fuoco visto che erano praticamente sotto sole non rispondono stanno bene è una prima vera fresca questa prima vera fresca si vedi l'Europa poi come come rinfresca va bene no allora intanto mi diciamo che il rapporto fra regione e Europa è un rapporto di mutua convenienza perché perché la regione rende cercherò di andare per concetti abbastanza essenziali diretti poi se avete domande sono qui la regione rende più facile la vicinanza con l'Europa e soprattutto con le opportunità europee perché ha più misura d'uomo e l'Europa consente alla regione di intersecare quei segmenti di crescita e di sviluppo quelle tendenze diciamo a livello mondiale che una regione se non tramite un vettore ovvero i fondi europei le opportunità europee le istituzioni europee non sarebbe in grado di cogliere perché ovviamente ci sarebbe una grossa sproporzione in questo senso fra il locale e il globale a maggior ragione questo vale per tutte le regioni europee ma vale soprattutto per la regione Lazio perché questo perché come ha avuto modo di sottolineare penso l'avano sottolineato questa mattina ho visto il programma immagino che Francesco Gui sicuramente non si sarà risparmiato sull'argomento Mario Leone immaginavo comunque sia ne ha parlato ampiamente nel manifesto di Ventotene ecco la regione Lazio ha nel suo DNA questo dovere europeista perché ovviamente Ventotene nel Lazio perché Rossi Spinelli Colorni scusate Colorni insisto perché Eugenio Colorni spesso viene dimenticato ma di fatto il manifesto di Ventotene sono due gli autori ma diciamo sono tre Colorni ha avuto un solo torto poverino di perdere la vita prima della liberazione lascia Ventotene va a Roma e a Bialiborno praticamente gli piantano un poiettino in mezzo agli occhi e Colorni finisce lì però grande intellettuale grande uomo di azione spesso probabilmente a torto un po' dimenticato quando si racconta il manifesto di Ventotene questo ci tengo particolarmente a sottolineare Roma è la capitale del paese l'Italia è un paese fondatore i trattati di Roma sono stati nel 57 qui e Roma è stata per tante altre occasioni anche il riferimento un po' della politica dell'Unione della seconda metà del XX secolo e dunque di conseguenza noi abbiamo questo dovere nel nostro statuto regionale è presente un riferimento molto chiaro ed esplicito al manifesto di Ventotene Altiero Spinelli negli ultimi anni di vita aveva auspicato la nascita e la creazione di un seminario che poi altri suoi attivisti a lui vicini mi viene in mente Serafini mi viene in mente lo stesso Dastoli non so se è intervenuto oggi Dastoli non ho visto bene il programma no doveva intervenire però purtroppo aveva un impegno vabbè comunque tanti e soprattutto Gabriele Panizzi Gabriele Panizzi voglio sottolineare questo nome è la persona che in Regione Lazio a metà degli anni 80 ha realizzato il seminario di Ventotene e di fatto lo ha reso possibile ed è forse la persona che è il seminario di Ventotene ecco il seminario di Ventotene è andato avanti per anni ha formato classi dirigenti moltissime persone che lavorano a livello europeo sono passate da Ventotene e si sono formate a Ventotene il paradosso del seminario di Ventotene è che spesso è più conosciuto fuori dal Lazio che nel Lazio stesso voi andate a Bruxelles e c'è chi è stato a Ventotene e ha partecipato a quel seminario voi andate in giro per l'Europa e vi raccontano il seminario di Ventotene nel Lazio probabilmente fino a non si è mai saputo abbastanza questa cosa del seminario di Ventotene e devo dire che negli ultimi anni abbiamo cercato di porvi il rimedio in diversi modi dunque a netto dell'attività illuminata di alcuni primi cittadini vedo qui il sindaco Guidi e devo dire che ringrazio perché sono tantissimi anni che diciamo combatte sul fronte Europa anche contro di fatto l'interesse un po' della comunità non della sua ma un po' della comunità più in generale a netto di alcuni attivisti Mario Leone a netto di alcuni rappresentanti anche di giunte locali vedo qui l'assessore di affari europei di Latina del Comune di Latina e altri ecco nel manifesto di Ventotene forse soltanto negli ultimi anni si è cominciato veramente a parlarne perché e questa è un po' la prima cosa che abbiamo fatto come Regione Lazio perché abbiamo da una parte voluto dare merito anche a chi appunto Mario Leone che è vice direttore dello Spinelli ha venuto legittimare una cosa che già lui faceva per conto suo mettere insieme persone oggi l'abbiamo sentito come fine studioso Mario Leone è un attivista è una persona che sul territorio non si è mai risparmiata spesso creato con mezzi propri contraponi gli studiosi agli attivisti io dico che ci voglia un po' l'uno e un po' l'altro e poi ci arriverò e la prima cosa è stata quella di nominare all'interno dell'istituto Spinelli che è un istituto voluto dalla Regione in cui la Regione anche finanzia come vice direttore il dottor Mario Leone e questo ha creato maggior diciamo impatto sul territorio un'altra cosa che è stata fatta è stata quella di creare e istituzionalizzare un seminario di preparazione sul territorio un seminario itinerante che seleziona va nelle scuole prende i migliori delle varie scuole o prende i migliori contributi questo è un lavoro che fa l'istituto Spinelli il movimento federalista europeo e altri e poi scegliono i migliori e li portano a Ventotene ogni anno questo è stato fatto a Sabaudia a Priverno adesso con Regione Mario a Tuscania ogni anno c'è un appuntamento diverso e cerca di essere sempre nel territorio e il terzo la terza cosa è stata quella di dare un luogo permanente al seminario di Ventotene un riferimento un rapporto saluto Alessia Bolognini che ci ha sempre sostenuto sui temi europei dare un luogo permanente al seminario di Ventotene che è la biblioteca al Tiero Spinelli della Regione Lazio la Regione Lazio l'anno scorso ha rimesso è stata ricostruita la biblioteca e noi abbiamo pensato di dedicarla al Tiero Spinelli abbiamo fatto un accordo con l'Istituto Spinelli e abbiamo anche in questo caso acquisito parte del patrimonio librario una piccola parte del patrimonio librario dell'Istituto Spinelli e questa biblioteca è una biblioteca peraltro che prima si occupava di scienze umanistiche ma era conosciuta più che altro per rare cartografie che vanno dal XV al XX secolo il XVII al XIX secolo relativamente a catasti a tutte cose che abbiamo solo noi in questo senso e abbiamo poi tutta una serie di altre cose abbastanza particolari io chiederei alla dottoressa Lopresti in due minuti di raccontarci un attimo questa biblioteca Spinelli cosa ha cosa ha prego lei meglio di chiunque altro perché la dirige vieni qua Elena vieni che dove sia dove lo so raggiungici lo fa meglio di me oh bene giustamente buonasera grazie per la partecipazione devo dire che in pochissime parole possiamo dire che è una biblioteca costituita recentemente che raccoglie soprattutto un patrimonio di beni di testi di beni culturali addirittura ci sono quindi architettura ci sono dei testi antichi testi miniati del 1400 tenuti in cassaforte ovviamente e comunque è una biblioteca aperta a tutti all'interno e all'esterno anche per gli studenti abbiamo portato un déplian per insomma far modo che venga conosciuta perché è recente ecco ovviamente ha parlato della raccolta cartografica sono delle coppie di cartografia storica quindi non sono gli originali ovviamente e recentemente devo dire a fine dell'anno scorso noi siamo una new entry come alcuni altri siamo diventati centro di documentazione europea e quindi insomma avete anche il materiale di Altiero Spinelli? abbiamo sì lo diceva Cristiano abbiamo raccolto sì una piccola collezione di Altiero Spinelli e comunque di testi federalisti ma abbiamo una convenzione con l'istituto Altiero Spinelli per incrementare il fondo è un fondo aperto grazie buon proseguimento Elena grazie ringrazio anche Rossella Pollara e Maria Pia Giannacchi perché sono anche loro devo dire che noi abbiamo siamo riusciti e ovviamente Angela Martini e Stefano Presta Nicola perché siamo stati molto contenti di cogliere questa opportunità ma la sua opportunità è arrivata in un momento di anche di difficoltà estrema difficoltà amministrativa dunque all'inizio è stato un po' tortuoso ma diciamo che si siamo messi un po' nel percorso vabbè al netto un po' della divulgazione dell'aspetto più culturale ovviamente una regione non si limita a fare quello che vi ho detto che però è molto importante però è una regione che anche deve capire come dicevo prima come intercettare i segmenti diciamo di sviluppo e di crescita a livello europeo e questo uno lo fa soprattutto con i fondi europei perché dico questo? perché i fondi europei per tanti anni sono stati percepiti come un qualcosa di laterale parallelo sottovalutato siamo vissuti per tanti anni il nostro paese come tanti altri con i benefici un po' del pre-maastric e allora i fondi europei erano visti una cosa così poi a un certo punto quando di fatto gli antilocali e le istituzioni locali hanno cominciato ad avere problemi ad alimentare le politiche di sviluppo locale i fondi europei hanno cominciato a diventare un qualcosa di come dire un po' più strategico e in questo senso noi abbiamo cercato in un certo senso in questi anni di da una parte ovviamente questa è una regione come sapete tutti è noto una regione che arrivava da una quasi diciamo da una vera propria bancarotta dunque legata al tema sanitario dunque era molto difficile fare policy quando tu avevi la testa sotto l'acqua perché prima di tutto dovevi risanare e questo piano 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 devo dire che negli anni in questi anni anche grazie ai fondi europei ci siamo riusciti non a caso l'Istat dice che oggi per esempio a livello di vitalità di imprese siamo la prima regione italiana non a caso i treni di fatto a livello noi abbiamo rinnovato l'83% dei treni regionali abbiamo rimesso a posto Cotral risanato Cotral cosa che non è successa con Atac ma qui non dico niente e abbiamo comunque acquisito 800 Pullman a livello regionale e così via potrei raccontarvi tante altre situazioni gli indicatori del Ministero della Sanità e del Ministero delle Condite dal punto di vista delle prestazioni di servizio ci danno un punteggio molto alto rispetto a quello di qualche anno fa questo soprattutto grazie anche soprattutto a grandi ragazzi ai fondi europei ma uno non è che può solo risanare e fermarsi lì uno deve anche guardare dove va il mondo e questa è una regione la vera forza della regione Lazio è il capitale umano perché dico questo perché e sono contento che siamo in università noi abbiamo abbiamo sei università pubbliche abbiamo 48 enti enti di ricerca abbiamo tre distretti tecnologici e abbiamo sei parchi parchi tecnologici e tre distretti industriali scusate questo è il patrimonio di base al tempo stesso abbiamo nel Lazio come sapete alcune delle più grandi multinazionali e così siamo multinazionali come lo possono essere le Leni l'Enel il Terna o meno la testa di queste qui Leonardo abbiamo aziende comunque vive e che funzionano a livello mondiale abbiamo filiere produttive come l'aerospazio e il Lazio è l'unica regione che ha la filiera dell'aerospazio completa e se voi andate praticamente in una certa parte della città trovate Alenia TALES tutte le realtà dell'aerospazio in questo senso e soprattutto come dicevo prima abbiamo un capitale umano molto importante però qual è il paradosso? è che se tu vai queste due cose ma non sei in grado di far dialogare queste due cose allora le idee rimangono dentro l'università e dentro queste stanze e le aziende magari continuano ad andare avanti magari senza magari quelle idee che gli possono consentire di fare la differenza ora il mondo di oggi chiede un certo tipo di messa in questione in tal senso bisogna sparigliare bisogna cercare di fare in modo che queste due parti si parlino e su questo noi abbiamo diciamo cercato abbiamo abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto in questo senso questa è la regione questa regione nel 2013 parlo della politica delle start up nel 2013 questa regione aveva 48 start up registrate ufficialmente nell'indice delle aziende oggi ne abbiamo 1080 forse vi dirà poco questa cosa ma le start up sono un indicatore dal punto dello sviluppo anche della politica diciamo economica mondiale che non è proprio secondario e questo l'abbiamo fatto diciamo puntando molto sul tema start up abbiamo stanziato 150 milioni di euro per le università e per le università e per gli enti di ricerca abbiamo messo 50 milioni di euro per una cinquantina di progetti strategici di importanza di alcuni che hanno una rilevanza mondiale ad esempio grazie a uno di questi finanziamenti il Bambin Gesù è la realtà che in questo momento è più avanti per quanto riguarda la ricerca sulla leucemia a livello mondiale abbiamo cercato anche un po' di come dicevo prima di mettere insieme due aspetti perché spesso si parla di università di spin off si parla di ricerca si parla di azienda però non si parla molto di scuola e abbiamo creato la start up per academy coinvolgendo 500 scuole e 16 mila studenti che è una realtà importante perché è una realtà che consente di fare dissimilazione nelle scuole su tutto il tema delle start up e sulle possibilità e molto spesso come sapete nel mondo le idee spesso nascono da ragazzi di 15-16 anni 13-14 perché è un mondo che cambia e questi ragazzi che sono nativi digitali che comunque siano una chiave di lettura diversa rispetto alla nostra nel mondo ecco magari hanno l'idea ma non sanno a chi raccontarlo non sanno come portarla avanti e in questo stiamo lavorando e abbiamo fatto una cosa simile anche con l'università abbiamo immesso 80 milioni di euro cosa che non ha fatto nessuna regione in Europa per quanto riguarda il venture capital perché è lo stesso tema di prima perché fondamentalmente molto spesso magari uno ha l'idea però non riesce a portarla avanti perché magari i grandi fondi vanno a Londra perché i grandi fondi vanno a Parigi perché magari non c'è il contesto per investire perché magari non c'è la filiera che tiene insieme la ricerca con l'università in questo senso e questo è un'altra cosa diciamo ecco fondamentalmente come si sta in Europa si sta in Europa cercando anche di innovare da una parte si cerca di consolidare un po' quello che è l'aspetto diciamo mantenere i servizi di interesse generale mantenere la coesione sostenere dall'altra si cerca anche di portarci e qui arrivo alla risposta alla domanda che hai fatto a Mario Leone ecco probabilmente cosa manca manca anche probabilmente un'Europa ambiziosa ma l'Europa ambiziosa nasce giustamente dagli stati nazionali perché io ho ancora in mente il discorso di Juncker l'ultimo stato dell'Unione lui ha detto una cosa molto chiara alla fine ha detto guardate noi abbiamo fatto adesso brutalizzo 100 proposte non è così ma lui ha detto 100 proposte 50 di queste sono rimaste ferme tra Parlamento e Consiglio e se oggi Dublino sta come sta è perché la cosa è rimasta nelle mani degli stati nazionali se c'è una serie di altre situazioni che non si sono andate avanti è perché gli stati nazionali hanno fatto questo e è un po' grave perché gli stati nazionali oggi da soli non ce la fanno più non hanno la forza non hanno la forza diciamo dal punto di vista fiscale per reggere i confronti dei multinazionali quando si tratta anche di pagare e fargli pagare le tasse questo è l'esempio più conosciuto non controllano più la sicurezza e la cartografia che sono controllati ormai da queste grandissime aziende che hanno tutti i dati possibili e immaginabili non incidono negozialmente è abbastanza irragionevole pensare di negoziare con un paese come la Cina e non faccio riferimento solo all'Italia è successo alla Polonia sta succedendo alla Germania anche se la stampa non ne parla ed è successo al Regno Unito tu non puoi tenere testa a paesi di questo tipo quando c'è partita il Pico 5 è giusto la testa no questo lo puoi fare come Europa e devi trovare in un certo senso la quadra come Europa e la stessa commissione la prossima commissione non questa quella che scaturirà dal nuovo Parlamento europeo ecco deve alzare l'ambizione perché l'Europa è indietro sull'intelligenza artificiale è tema di cui non si parla proprio è in tema indietro sulle piattaforme tutto il tema delle piattaforme voi la conoscete come sharing economy ma la cosa è molto più complessa e questo non vuol dire solo politica industriale vuol dire anche tutela del singolo del poveraccio che viene pagato a cottimo e che lavora per la gig economy e che comunque non ha nessuna garanzia se non quella praticamente di essere licenziato se fare incidente se arriva tardi o se o se sbaglia qualcosa ecco su questo l'Europa non c'è circular economy ecco una cosa di cui andiamo abbastanza fieri come regione che siamo stati la prima regione europea siamo diventati i primi advisor della commissione nel 2013 quando nessuno credeva nella circular economy con la commissione e non a caso la regione Lazio e lo specifico dei tuoi colleghi dell'università La Tuccia La Tuccia sono stati i primi capofila con il progetto Screen del primo progetto di circular economy in Europa e non a caso il commissario Moedas lo continua il commissario Moedas che è il commissario di riferimento per la ricerca continua a citare questo esempio come l'eccellenza a livello europeo dunque bisogna sapere anche osare guardare avanti però la commissione deve alzare l'asticella però non lo può fare da sola se non ha comunque classi dirigenti nazionali perché poi i commissari alla più fine sì il Parlamento decide sui commissari ma la nomina arriva dal governo c'è poco da fare su questo ecco se avremo una commissione ambiziosa magari ecco su questi grandi temi il clima ovviamente ma ce ne sono tanti altri ecco allora a quel punto potremo sperare di competere e di avere un futuro diciamo più rosio nel caso in cui continuiamo a pensare fondamentalmente continuiamo a ragionare a bocce ferme a quel punto non avremo discorsi in apparenza simili in apparenza diversi ma molto simili in ambito intergovernativo e sarà un gioco bloccato dove comunque sia non riusciamo a uscire dunque bisogna sparigliare 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 a tutti i livelli dunque cercare di lavorare molto sul capitale umano i giovani senza però dire i giovani salvate il pianeta perché poi questa cosa di quella settimana fa è passata un po' così ma mi pare un po' scorretto di scaricare tutto sui giovani gli errori che abbiamo fatto tutti noi e dall'altra parte cercare anche però di sensibilizzare le classi dirigenti sulle vere partite che a breve anche perché gli stati nazionali diventano sempre più piccoli e il terreno sotto i nostri piedi diventa sempre più criabile dunque tradotto a breve con la Cina con gli Stati Uniti col Brasile con l'India e con tutta con la Russia ecco adesso ci discutiamo fra un po' non ci discuteremo neanche più se continuiamo a ragionare da soli comunque torniamo sull'ottimismo primavera dell'Europa viva l'Europa andate a votare qualsiasi cosa votate voterete e grazie per l'attenzione grazie Cristiano per questi insights dall'interno della regione Lazio non so se c'è qualche domanda altrimenti faccio io una domanda come consueto ormai tu hai declinato la regione come un soggetto un attore di trasmissione delle politiche dell'Unione Europea a livello appunto regionale locale come un soggetto che è in grado di catalizzare e stimolare i territori allora io però inverto a questo punto che cosa fa la regione per l'Europa cioè la regione Lazio non dico la regione in genere italiana ma la regione Lazio partecipa a quella che sempre descriviamo i nostri studenti come fase ascendente nella formazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea oppure le regioni italiane dici se le conosci le altre e la regione Lazio sono un po' pigre la regione Lazio fa molto più allora ti faccio un esempio noi siamo per esempio sono cose che si sanno poco perché sono cose molto per addetti ai lavori noi siamo per esempio nel gruppo di facilitazione insieme a un'organizzazione intergovernativa che è il Mediterraneo e l'organizzazione più importante dal punto di vista un po' di tutte le regioni periferiche e marittime europee siamo nel gruppo che è l'advisor della Commissione Europea su tutto il tema economia blu per plastica nel mare eccetera eccetera questi sono ruoli ovviamente che tu assumi all'interno di organizzazioni europee ecco loro stanno studiando i ragazzi hanno varie estrazioni scusate lo chiedo perché con Raffaele abbiamo insegnato cinque materie diverse sull'Europa in un solo anno dunque chiedo non so quale materia in questo momento dirette politiche dell'Unione Europea perfetto molto generale allora sappiate questo vi do già una grossa dritta in Europa ci sono un sacco di realtà e associazioni chiamiamole lobby che ti promettono e ti dicono guarda tu sull'aerospazio noi siamo la realtà aderisci alla nostra realtà e potrai incidere sulla commissione potrai portare potrai fare diciamo un po' quello che lui dice a livello di politica scendente di queste qui diciamo il 98% è pura fuffa però si fanno pagare paghi una figlia eccetera eccetera ce ne sono due o tre quattro o cinque forse che invece fanno la differenza e che incidono veramente una cosa buona ovviamente una regione da sola non può fare può fare poco a livello di Unione Europea però se fa parte di questa realtà ci sono tematiche specifiche vedi ad esempio l'economia blu su cui tu poi diventi l'advisor della commissione e la commissione non è che si inventa le polisi da nulla la commissione ascolta la commissione ascolta le regioni la commissione può avere delle idee su delle priorità ma le priorità vengono poi definite di volta in volta parlando con le regioni cercando di capire cosa c'è sul territorio cosa si può e cosa non si può fare questo è un ruolo che le regioni fanno la Lombardia lavora molto bene l'Emilia Romagna lavora molto bene la Puglia lavora benino il Veneto lavora bene il giorno di Lazio non mi scuso senza voto perché non posso darmi il voto altre lavorano comunque ognuna nel suo fa quello che comunque lavora abbastanza bene questo per dirvi che fondamentalmente è chiaro che poi alcune regioni hanno dei punti di forza altre regioni ne hanno altri e dunque la commissione su questo ascolta di più sa un po' chi fa cosa chi fa cos'altro per esempio fare un polo motoristico nel Lazio è totalmente fuori luogo perché non è nei nostri elementi lo fai a Maranello un polo motoristico non lo fai nel Lazio invece sull'aerospazio noi siamo una regione molto ascoltata perché siamo l'unica regione italiana che ha tutta la filiera completa sul territorio si chiama specializzazione intelligente a livello europeo anzi se vorrai fare un due ore di corso sulla cosiddetta S3 che è una fotografia su cui l'Unione Europea fa una foto a tutte le regioni dice vabbè il Lazio è importante per agri-food scienze mediche tecnologie per i beni culturali aerospazio ecco ci sono 5-6 settori per cui il Lazio è conosciuto altre regioni sono conosciute peraltro ah consentimi di terminare che questa è una cosa importante una cosa che siamo riusciti a fare che è interessante è quella anche di far sì che settori che sembrano totalmente distanti in realtà nell'ambito della specializzazione intelligente lavorino insieme ad esempio l'utilizzo delle tecnologie dell'aerospazio a uso civile è fondamentale e in questo ci sono sperimentazioni importanti per la cura di malattie molto gravi vedi il cancro in questo tutto quello che è l'agri-food c'è il farming di precisione che consente praticamente all'agricoltore che può permettersi magari di pagare un servizio a un'agenda che si basa su un satellite e lui ti dice dove tu puoi in certo senso fare il vino e dove non lo puoi fare perché comunque da lì tu vedi cose che non vedi diciamo dalla terra ci sono tecnologie che per esempio servono adesso nel Lazio io lo dico in maniera riservata stanno studiando come non operare in maniera invasiva nei confronti di un container nei container gli americani hanno una tecnologia che per vedere se ci sono immigrati nascosti nei container hanno delle tecnologie nocive che uccidono le persone dentro nel Lazio stanno studiando un modo dei modi che ci stanno arrivando per non fare questo stessa cosa per l'inquinamento dei monumenti e ne potrei citare diciamo tantissimi altri esempi dunque anche essere cercare un po' di mettere insieme i settori e questo ti controconsente l'Unione Europea con i fondi europei e con un certo tipo di impostazione scusate se vi ho tagliato lui l'aveva detto però mi fermo qua giuro scusate ma tornare qui io sono abituato a fare ore di lezioni ma grazie ma noi ci ritroviamo subito perché ho un'altra domanda ho ancora un'altra domanda sfruttando la tua esperienza nella regione Lazio ma anche in altre amministrazioni una domanda che devo fare sempre nell'interesse dei nostri studenti e dei più giovani perché un tema che poi durante la pausa pranzo è venuto fuori ma noi più giovani veniamo a frequentare questi seminari questi incontri questi eventi perché vogliamo anche capire che possibilità di lavoro ci sono nell'ambito mettiamola così dell'Europa allora la domanda che ti faccio io non è ovviamente sull'Europa ma è sull'attenzione delle pubbliche amministrazioni regione Lazio in primis le altre regioni e così via rispetto al processo di integrazione europea e alle competenze che devono avere i nuovi dipendenti funzionari dirigenti rispetto al processo di integrazione europea cioè la regione i comuni e mi rivolgo anche al sindaco di Bassiano sono attenti a questo profilo o non gli interessa non gli interessano giovani preparati nel processo di integrazione europea allora rispondi sinceramente io ho sempre risposto sinceramente ci sono casi e casi qui ci sono realtà sul territorio che sono strafocalizzate su questa tematica che tu incontri e ti vengono a dire io vorrei far questo questo e questo e ci sono situazioni casi meno è relativa la cosa in questo senso però c'è questa volontà perché comunque in Cesta c'è anche la percezione che i fondi europei non sono una cosa a parte ma sono una cosa fondamentale per la vita di un comune per la vita di e per la stessa vita anche di una regione in questo senso questo sì ci sono giovani che da nulla si studiano queste cose tramite computer perché magari non hanno la possibilità di fare un corso di formazione e ci sono giovani bravi in questo senso il punto è comunque sia il consiglio che voglio dare sicuramente le lingue sono importanti sono fondamentali dunque se dovessi investire un euro su qualcosa investirei sulle lingue perché comunque sia per quanto io non abbia tutte le sue lingue tradotte i lavori sono molto in inglese un po' in francese un po' in tedesco dunque su questo consiglio sicuramente le lingue e attenzione io questo lo dico qui adesso ti ringrazio per la domanda la cosa che è capitata molto in questi anni e come regione stiamo cercando di porvi rimedio è che spesso i sindaci o diciamo le giunte comunali abbiamo parlato con un'amica sindaca di Latina sono il peso preda di progettisti progettisti senza scrupoli che vanno lì li vanno a trovare gli dicono vabbè per 5.000 euro io ti faccio questo progetto poi queste persone arrivano i comuni vengono da noi ti danno il progetto e tu vedi ma questa è un'astronave tu vuoi fare un'astronave e nulla e io dico allora il consiglio che vi do è intanto diffidate di quelli che si presentano da voi pretendendo di dirvi io ho trovato loro perché non è vero se avete dubbi comunque sia venite da noi perché spesso il piano di sviluppo regionale anche i progetti europei e tutto quello che i progetti anche soprattutto diretti non abbiamo avuto il modo di parlarne noi li approviamo nel momento in cui sono legati a un piano di sviluppo regionale come dicevo prima fare un polo motoristico nel Lazio è criminale perché il Lazio al netto dell'autodromo di Vallelunga che ha comunque delle strutture più alberghiere un po' di guida sicura ma non è Maranello ecco probabilmente ecco questa roba tu la fai da un'altra parte però è chiaro che il sindaco spesso non parlo del nostro amico qui ma molti sindaci vedono questa cosa dicono bellissimo riesco a fare questo dicono tanto te lo paga l'Europa non è vero l'Europa te lo boccia subito soprattutto la prima cosa che va a vedere l'Europa va a vedere se questa regione ha tutti gli elementi che servono per fare questo progetto e quando vede che non ce n'è neanche uno perché poi tutto se non hai l'infrastruttura se non hai il collegamento se non hai tutta una serie di cose certe cose che proponi non esistono è solo però intanto hai pagato 5.000 euro un progettista o un gruppo di progettisti ecco attenzione 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 se avete dubbi mi coordinate tanto Raffaele ce le ha poi adesso non ho biglietti però lui ha tutto mandatevi una mail e ci vediamo e ne parliamo io ve lo dico perché è successo tante volte e questa cosa è spiacevole ecco Adriana Calì è una che è andata sul territorio quando era capo di Europe Direct per la regione lei ha fatto questo lavoro gratis e ha sminato tutta una serie di situazioni assolutamente criminali ed è una persona che ha aiutato anche comunque sia al territorio a vincere penso al progetto di Santa Cecilia sul Music Close Up e altri progetti europei dandogli le giuste informazioni e garantendo la sostenibilità del progetto ecco dunque attenzione a questo grazie per la domanda non so se ti ho risposto ma sicuramente ho dato un'informazione utile e se vuoi rispondo a una terza domanda non ho paura che chi mi ha no 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 grazie hai risposto e mi è dato anche in là per parlare per fare un piccolo spot pubblicitario per il nostro corso di perfezionamento post-lauro in progettazione e finanziamenti europei di Roma 3 quindi se volete dei buoni progettisti rivolgetevi a noi vi assicuriamo che non cercheranno di truffarmi in qualche minuto quello meno ci proviamo credo che parleranno di cinema ma da matrice per esempio no grazie grazie due parole grazie di introduzione al professore che è un docente della scuola nazionale dell'amministrazione di diritto dell'unione europea è stato anche capo dipartimento delle politiche europee della presidenza del consiglio ha scritto numerose pubblicazioni insieme anche al professor Tizzano e volevo dunque il titolo del suo intervento è quello è il Parlamento europeo parlamenti nazionali diritti dei cittadini e fa parte della scuola appunto nazionale dell'amministrazione che è l'ente deputato dell'istituzione di alta cultura deputato alla formazione dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione e volevo spendere solo due parole per dire che il professore si è reso interprete del desiderio del professor Antonio Tizzano che è stato giudice e vicepresidente della corte di giustizia europea fino al 2018 di rendere fuibile la notevole collezione la considerevole collezione di documenti europei donandola diciamo di diritto soprattutto testi soprattutto di diritto dell'Unione europea che ha voluto donare alla scuola nazionale dell'amministrazione che quindi andrà a arricchire notevolmente il patrimonio della nostra biblioteca del nostro centro di documentazione europea e sarà appunto creato questo fondo Tizzano che sarà reso fruibile a catalogo online diciamo al catalogo appunto della nostra biblioteca lo digitalizzate anche? certamente digitalizziamo diciamo verrà in un secondo momento però sarà catalogato opera per opera testo per testo e ci sarà questo fondo che sarà reso fruibile a tutti diciamo attraverso il portale della nostra scuola della nostra istituzione e quindi anche della nostra rete di CDE senz'altro sia per il CDE che per la biblioteca ottimo grazie questo è grazie per l'invito per oggi allora mettiamo un po' più di scena ci avviciniamo al voto nel senso che tra poco più di due mesi votiamo saremo chiamati a esercitare con altri almeno 450 milioni di cittadini dell'Unione cittadini di altri stati membri dell'Unione un voto che ci è riconosciuto direttamente dal trattato a vario titolo perché il trattato è il trattato dell'Unione quello scaturito dal trattato di Lisbona nella riforma di Lisbona ha un capitolo appositamente dedicato alla vita democratica nell'Unione in cui si prevede articolo 10 paragrafo 3 che ogni cittadino dell'Unione e quindi noi ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione prevede all'articolo 20 del trattato sul funzionamento e all'articolo 39 della carta dei diritti fondamentali che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di votare alle elezioni europee nello stato in cui risiede e all'articolo 10 paragrafo 2 nuovamente del trattato sull'Unione europea dice una cosa molto importante che i cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo per cosa voteremo quindi voteremo per eleggere per 5 anni un certo numero di parlamentari europei per l'esattezza quindi che spetta eleggere al nostro paese perché perché su un numero complessivo di 751 componenti del Parlamento europeo come fissato direttamente nel trattato come tetto massimo questi 751 sono stati ripartiti a suo tempo tra dal Consiglio europeo sempre sulla base di una norma del trattato per stato membro per quote per stato membro sulla base di un principio che è il principio di proporzionalità degressiva qualcosa che è assai difficile da spiegare ma che sostanzialmente prevede un principio di proporzionalità tra il numero di deputati europei aspettanti a uno Stato e la sua popolazione è una proporzionalità degressiva non pura per un fatto puramente tecnico diciamo così la tecnica può essere anche politica ma insomma diciamo che per un fatto puramente tecnico che se si fosse eseguito un criterio di proporzionalità pura nel ripartire i 751 membri prevedendo questo numero complessivo tra gli Stati membri alcuni Stati non avrebbero avuto nessuna rappresentanza al Parlamento europeo sostanzialmente pensate agli Stati più piccoli per mantenere un rapporto tra deputato di quello Stato e popolazione rappresentata non sarebbe stato così e quindi si è fatto un qualche aggiustamento che appunto mi sentite che appunto diciamo raffigurato da questo principio di proporzionalità degressiva fissando un tetto massimo e un tetto minimo un minimo diciamo così di deputati aspettanti agli Stati membri in funzione del loro peso demografico un numero minimo per assicurare una sorta di diritto di tribuna sono i quattro paesi più piccoli Malta Lussemburgo Cipro che hanno diritto a sei deputati e un tetto massimo invece per evitare di sopravvalutare troppo la rappresentanza di uno Stato la Germania è fissato e fissato i 96 stati i 96 senci ciascuno ciascuno stato quindi ciascun elettorato nazionale vota per eleggere quella pattuglia che gli viene assegnata nel caso specifico dell'Italia 73 parlamentari europei ma qui c'è un punto interrogativo su cui ritornerò tra un attimo volevo prima prospettare un'altra questione che si era posta sempre in connessione con un evento su cui ritornerò tra un attimo la possibilità di creare delle liste transnazionali al Parlamento europeo cioè delle liste di elegibili e quindi di seggi destinati a non far parte di queste pattuglie nazionali quindi sulle quali si sarebbe potuto esprimere il voto da parte dei cittadini di qualsiasi stato europeo è stato un tentativo molto studiato per un certo periodo molto sostenuto da alcuni paesi in modo particolare l'Italia in modo particolare la Francia poi tramontato a mio avviso probabilmente al di là della suggestione molto forte che le liste transnazionali ovviamente evoca perché darebbe proprio l'idea del deputato europeo come rappresentante dei cittadini non dei singoli popoli degli stati membri prevedere un sistema visto in parte di seggi riservati a pattuglie nazionali e di seggi invece trasnazionali avrebbe creato probabilmente sul piano tecnico molti problemi oltre alcuni aspetti politici che probabilmente sarebbero stati sciaboliti i grandi stati nel sistema attuale rispetto ai piccoli cosa che quindi ha fatto naturalmente insorgere soprattutto gli stati piccoli e ha bloccato questo disegno per cosa è nata questa discussione è nata questa discussione sui le liste trasnazionali questa ipotesi delle liste trasnazionali per un evento che tutti quanti noi conosciamo perché ce l'abbiamo tutti i giorni sui giornali e in televisione domani avremo l'ennesima puntata in cui forse si capirà qualche cosa quello della Brexit che è un evento che sta rendendo anche difficile oggi sapere effettivamente su quanti parlamentari noi dovremmo esprimere il nostro voto su quanti saranno i parlamentari italiani al Parlamento europeo nella prossima legislatura per quale motivo perché nel disegno della Brexit nel suo svolgimento normale sappiamo tutti che il 29 marzo ci dovrebbe essere l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea il che cosa comporterà se avvenisse questa cosa se si rispettasse questa scadenza che il Regno Unito non partecepterà alle elezioni europee e quindi 73 sedi del Parlamento europeo oggi occupati da parlamentari inglesi si renderanno liberi proprio in previsione di una data che sembrava certa diciamo così ormai sono tre anni che va avanti questo esercizio della Brexit tra prima referendum poi notifica poi discussioni di vario genere di fronte a questa prospettiva che sembrava certa il Consiglio europeo ha adottato una decisione l'anno scorso in cui ha mettendosi giustamente in avanti con il lavoro ha previsto anche la ripartizione dei seggi al Parlamento una nuova ripartizione dei seggi al Parlamento frutto del venir meno dei parlamentari inglesi la decisione è stata allora di non rioccupare non ridistribuire o per meglio dire di ridistribuire soltanto alcuni dei seggi che saranno lasciati liberi che dovrebbero essere lasciati liberi dal Regno Unito tra alcuni stati membri per correggere alcuni aspetti diciamo fuori linea rispetto a quel criterio di proporzionalità depressiva che vi riferivo prima che vi raccontavo e al contrario alcuni altri seggi rimarrebbero vuoti in vista di possibili futuri allargamenti dell'Unione Europea quindi per nuovi stati membri in questo schema che è predisposto dal Consiglio Europeo sempre se si realizzasse il 29 di marzo la benedetta Brexit uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea dicevo in questo schema l'Italia si dovrebbe assegnare tre seggi di più e quindi passeremo a 76 seggi il problema qual è però oggi come oggi il problema è che non si sa se ci sarà la Brexit non si sa se ci sarà se ci sarà quando ci sarà la cosa i due scenari più probabili direi ma nulla è prevedibile nella situazione attuale sono da una parte che effettivamente il 29 marzo delimito esce e allora scatterà quella ripartizione nuova di parlamentari europei che ci vede guadagnare tre seggi l'altro scenario che a leggere i giornali si sta facendo sempre più forte almeno come richiesta da parte inglese è quella di una proroga di questa benedetta d'Ala del 29 marzo qui la cosa è scomplica perché una proroga è possibile naturalmente darla lo prevede l'articolo 50 paragrafo del trattato sull'Unione europea la prevede ci vuole un'animità al Consiglio europeo però il problema è che qui abbiamo le elezioni europee il 26 maggio e quindi una proroga non può essere una proroga che vada per evitare un impatto sulle elezioni europee che vada oltre la fine di giugno perché il 2 di luglio si inserirà caschi il mondo il nuovo Parlamento europeo e quindi se il 2 di luglio si insedia il nuovo Parlamento europeo i parlamentari europei o devono essere gli inglesi o devono essere stati eletti per la partecipazione del regno delle elezioni oppure non devono essere stati eletti ma se non sono stati eletti si crea evidentemente dei grossi problemi insomma siamo nell'incertezza più totale da questo punto di vista come voteremo i 73 o 76 parlamentari che spettrono l'Italia li voteremo questo molto brevemente con un mix di norme europee di una disciplina europea e nazionale nel senso che le elezioni europee sono governate dall'atto elettorale europeo adottato quindi a livello di Bruxelles e poi da delle legislazioni nazionali da ciascuna legislazione nazionale che regola alcuni aspetti che non sono disciplinati direttamente dall'atto elettorale europeo senza entrare nel dettaglio volevo semplicemente osservare due cose che l'elezione del Parlamento europeo si basa su un sistema proporzionale puro anche quei paesi dove invece ci sono tradizioni elettorali di tutti diversi tipo il Regno Unito per l'appunto ma vedremo 7 mili di loro vedete là seconda cosa che questo sistema proporzionale puro è corretto da una soglia di sbarramento per il momento facoltativa noi l'abbiamo già prevista dal tempo nel nostro ordinamento in una soglia del 4% altri paesi non l'hanno in modo particolare per esempio la Germania la Germania la prevedeva prima nella nella misura del 5% poi nella misura del 3% perché gli è stata bocciata tutte e due le volte dalla Corte Costituzionale tedesca con il risultato che la pattuglia di parlamentari tedeschi è talmente frazionata come non si era mai visto prima in questa legislatura che sta scadendo sono stati eletti 7 nuovi partiti rispetto a quelli tradizionali ciascuno con un solo eletto perché mancando qualsiasi soglia questo è stato il risultato una recente riforma però non è ancora entrata in vigore della legge elettorale europea dell'atto elettorale europeo pone l'obbligo della soglia elettorale solo che non è ancora entrata in vigore quindi non si sa se potrà essere operativa siamo via proprio a poco dall'arrivarci all'entrata in vigore ma non si sa se entrerà in vigore in tempo pone l'obbligo della soglia elettorale di una soglia elettorale che uscì tra il 2 e il 5 il risultato elettorale europeo soprattutto questa riforma l'ha voluta la Germania per ovvi motivi per diciamo proprio un rimetto a quell'agguaglio che gli ha creato la Corte Costituzionale perché nel momento in cui diventa obbligatoria comunitariamente la soglia elettorale evidentemente si risolvono i problemi della Corte Costituzionale a meno che non invochino i controlimiti anche qui questo mi sembrerebbe un po' difficile alla fine a cosa porterà il nostro voto all'elezione del Parlamento Europeo per 5 anni concorreremo cioè con tutti gli altri cittadini europei a eleggere e a insediare l'istituzione attraverso la quale in via principale si esprime a livello dell'Unione il principio democratico intendiamoci la democrazia è assicurata nell'Unione non soltanto dal Parlamento Europeo il sistema istituzionale dell'Unione è un sistema ma di per sé improntata a una democrazia molto salda anche il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri sono degli ordini democratici perché sono i governi e sono composti dai governi degli stati membri gli stati membri che sono tutti quanti ovviamente degli stati membri democratici e come recita l'articolo 10 del Trattato d'Unione gli stati membri sono rappresentati nel Consiglio Europeo dai rispettivi capi di Stato di governo e nel Consiglio dei rispettivi governi a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro Parlamenti nazionali e dinanzi ai loro cittadini e d'altra parte basta ricordarsi per chi ha qualche anno sulle spalle io ce ne ho parecchi che a suo tempo l'argomento quando il Parlamento Europeo non era ancora eletto a suffragio universale diretto e non aveva i poteri che c'ha oggi l'argomento che era utilizzato normalmente ma comunque i governi non sono dei governi dittatoriali ma sono eletti attraverso le regole democratiche di ciascuno Stato la Commissione la Commissione tanto criticata con accenti talvolta e forse anzi sicuramente eccessivi euroburocrati o cose di questo genere tecnici euroburocrati svincolati da qualsiasi regola democratica in realtà come qualsiasi governo di qualsiasi struttura diciamo statale o comunque governativa è eletta dal Parlamento europeo e dai e dal Consiglio europeo e dal Consiglio dai governi cioè degli Stati membri cioè attraverso un sistema di nomina che vede un ruolo fondamentale del Parlamento europeo poi ci ritornerò su questo e ovviamente un ruolo anche dei governi perché non dimentichiamoci che piaccia o non piaccia ma l'Unione europea come prima la Commissione europea la Comunità europea sono basate su questa duplice anima un'anima governativa e un'anima rappresentativa democratica che è rappresentata dal Parlamento europeo certo il Parlamento europeo è però l'organo che come dicevo prima più rappresenta il principio democratico nel sistema dell'Unione perché è quello che è letto a suffraggio diretto da noi ma soprattutto perché come ha detto a suo tempo addirittura la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fino a dal 1999 poi l'arriva tutto più volte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea attraverso il Parlamento europeo assicura sul piano dell'Unione il principio fondamentale della democrazia secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa bene a fronte di questo che cosa bisogna constatare che la partecipazione alle elezioni europee non corrisponde pienamente a questa caratura democratica del Parlamento europeo e al suo essere la come dire il punto principale di espressione del principio democratico a livello di unione e paradossalmente l'affluenza delle elezioni europee è andata decrescendo man mano che il Parlamento europeo acquisiva più poteri nel corso degli anni siamo passati a livello complessivo a livello di tutta l'Unione dal 1979 prima elezione a soffraggio diretto che ebbe una partecipazione del 62% più o meno della popolazione europea al 2014 le ultime elezioni in cui c'è stata una partecipazione del 42% quindi nettamente diminuita tendiamoci va anche considerata una cosa che nel frattempo tra questi due date la membership dell'Unione si è piuttosto allargata e soprattutto si è allargata negli ultimi tempi quando è cominciata a decrescere di più l'affluenza alle elezioni europee verso paesi diciamo che venivano da situazioni giuridico costituzionali non proprio corrispondenti o comparabili con quelli degli stati già membri degli stati dell'Europa occidentale eccetera non a caso se si va a vedere l'affluenza nel 2014 alle elezioni europee degli stati membri stato per stato ci si rende conto che ben 10 stati nuovi dell'ex est dell'ex diciamo cortina di ferro per usare un termine che a suo tempo andava andava era molto usata ben 10 di questi stati hanno votato hanno avuto un'affluenza ben sotto il 35% alle elezioni europee e sono quelli che sostanzialmente hanno finito per abbassare complessivamente la percentuale generale dell'affluenza alle elezioni europee qual è stata la situazione italiana anche in Italia è andata decrescendo l'affluenza alle elezioni europee l'Italia ovviamente vota dall'inizio in quanto è fondatore siamo passati dall'85 65% del 79 al 57 22 del 2014 una cosa ci può consolare ci serve una consolazione che siamo tra i 5 paesi dove si vota di più dove si è votato di più perlomeno nel 2014 con una certa differenza rispetto ai primi due che sono il Belgio e il Lussemburgo che superano l'80% l'89% l'85% ma poi subito dopo troviamo Malta troviamo un paese che verrebbe da dire come che ha votato così tanto al Parlamento europeo la Grecia visto la vicenda greca in questi ultimi anni e poi l'Italia con il 57 22 ora vedremo che cosa sarà cosa ci riserveranno le elezioni di quest'anno devo dire che ho l'impressione che quest'anno ci sarà un'affluenza molto più alta del solito perché si parla molto di più nel bene o nel male dell'Unione Europea e delle elezioni europee perché abbiamo fatto diventare paradossalmente in un paese in cui adesso si sente tanto dire parlare non faccio un discorso politico sia chiaro ma puramente tecnico di sovranismo sovranità scetticismo verso l'euroscetticismo sicuramente ha preso una forza che non aveva in un paese che era tradizionalmente molto filo europeo si sente addirittura le elezioni europee sono diventate una di quelle scadenze alle quali si condizionano atti di governo stiamo aspettando le elezioni europee al di là per vedere il risultato delle elezioni europee anche perché così sapremo qualche cosa sulla tra sapremo qualche cosa su altre su tante altre decisioni che devono essere prese è diventata cioè quasi un'elezione come le altre da questo punto di vista in realtà è molto più importante lo sappiamo però è una diciamo una elezione un appuntamento elettorale esattamente come quelli puramente interni come quelli delle elezioni politiche pur se questo può essere visto in bene o in male in male può essere visto perché in realtà non andiamo a votare per il governo nazionale ma andiamo a votare per il Parlamento per il Parlamento nazionale quindi per il governo nazionale ma andiamo a votare per il Parlamento europeo in bene perché crea fa entrare nel circuito del dibattito politico le elezioni europee molto più di quanto non fosse precedentemente indipendentemente da questa mia considerazione ultima quali sono le ragioni di questa scarsa affluenza al Parlamento europeo non mi voglio avventurare nell'individuarle perché sono tante sono molto complesse probabilmente c'è anche in gioco come dire una disaffezione generale verso la politica non verso l'Europa l'Unione europea o verso le elezioni europee ma una disaffezione generale verso la politica alcune elezioni recenti nazionali regionali locali italiane lo hanno dimostrato con una scarsa affluenza quindi probabilmente ci sono una serie di ragioni diverse una disaffezione generale verso la politica una cosa che me lo fa pensare tra l'altro è che a fronte della scarsa affluenza alle elezioni europee si constata che c'è una che questa scarsa affluenza è determinata molto dai giovani tra 18 e 24 anni i quali però sotto un altro profilo sono quelli che presentano le percentuali più alte di giudizio positivo nei confronti dell'Europa dell'Unione europea il che dà l'idea proprio di un distacco dalla politica e un attaccamento invece a un progetto a un obiettivo ultimo del disegno europeo quindi quale altre ragioni si possono vedere non so se una ragione però qualche dubbio ce l'ho al riguardo che sia una delle possibili ragioni una delle tante ragioni proprio la critica che spesso si sente fare nei confronti del Parlamento europeo la ignoranza diciamo usiamo il termine che ci vuole sui poteri effettivi del Parlamento europeo anche da parte di uomini politici noti di commentatori di talk show e compagnia bella sembra che il Parlamento europeo sia rimasto fermo a prima del 1979 o a prima dell'atto unico europeo non è così non è così il Parlamento europeo è un organo democratico con dei poteri estremamente significativi all'interno del sistema istituzionale dell'Unione e del processo decisionale dell'Unione ha la codecisione in quasi tutte le materie settoriali di competenza dell'Unione quasi tutte le materie settoriali tendo agricoltura trasporti e compagnia bella sono tutte materie che devono essere disciplinate in codecisione tra Parlamento e Consiglio certo ci sono dei settori dove il Parlamento europeo non ha un ruolo la la politica estera per esempio e di sicurezza comune per delle ragioni che sarebbe facile ma troppo lungo adesso non c'è tempo per esaminarle l'altro che è il tema dove forse il settore dove forse più significativo e forse più all'origine della disaffezione o della scarsa diciamo popolarità dell'Unione europea adesso è quella del coordinamento delle politiche economiche dove il Parlamento europeo ha un ruolo estremamente marginale pur essendo una materia che tocca direttamente la politica perché la politica economica è il cuore della sovranità degli Stati e forse questo è il punto più delicato ma per tutto il resto il Parlamento europeo ha la co-decisione e in co-decisione si co-decide è vero non è un sistema tipo la navette Camera Senato in Italia il bicameralismo perfetto è qualcosa di diverso di particolare ma si co-decide se non è d'accordo il Parlamento europeo c'ha soltanto da votare no se non è d'accordo il Consiglio c'ha soltanto da votare no però per adottare una decisione si deve adottare in due è stato detto ho sentito anche oggi il Parlamento europeo non c'ha il potere di iniziativa perfettamente vero perfettamente vero però è anche vero che il Parlamento europeo ha la possibilità di chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta e diciamo che la sua richiesta in genere ha un peso specifico importante per usare un eufamismo ma comunque quello che vorrei dire che è la misura dell'impianto democratico del sistema decisionale dell'Unione non si misura sul potere di iniziativa della Commissione o no il potere di iniziativa riservato alla Commissione potrà sembrare una stranezza ma una sua radice storica nelle origini dell'Unione europea si è voluto effettivamente dare il potere di iniziativa alla Commissione riservarlo quasi monopolisticamente ora non lo è più monopolistico ma insomma monopolisticamente alla Commissione perché in quel momento in cui nacque il processo di integrazione europea il Parlamento europeo non aveva i poteri decisionali che c'è adesso e affidare alla Commissione in esclusiva il potere di iniziativa serviva per evitare che il potere di iniziativa venisse usato invece dai governi degli stati e soprattutto da parte degli stati più grossi a discaduto degli stati più piccoli quindi ha una sua ragione d'essere ben precisa certo si può cambiare però direi che sarebbe eccessivo mi sembra quanto meno eccessivo dire che il Parlamento europeo non ha tutti i poteri di un Parlamento perché non ha il potere di iniziativa in compenso però sicuramente ha altri poteri approva in codecisione con il Consiglio e quindi con gli stati il bilancio dell'Unione Europea i soldi come ogni Parlamento che si rispetta e controlla l'esecuzione del bilancio da parte della Commissione nomina la Commissione ve lo dicevo prima l'articolo 17.7 sulla base di una procedura complessa di cui entrano anche ovviamente il Consiglio Europeo eccetera ma ora ritornerò di nuovo sulla procedura di nomina della Commissione ha un potere di sfiduciare la Commissione certo non è la sfiducia che conosciamo noi nel nostro Parlamento ma è la cosiddetta mozione di censura che consente non è stata finora mai utilizzata è stata minacciata in alcuni casi è stata minacciata al punto che la Commissione ha preferito dimettersi prima la Commissione Santer piuttosto che subire l'affronto della prima Commissione che veniva sfiduciata nella storia del processo di integrazione europea ha poteri di controllo politico sulla Commissione e le altre istituzioni attraverso i meccanismi tradizionali di un Parlamento interrogazioni alla Commissione interrogazioni al Consiglio obblighi informativi del Consiglio e della Commissione perfino del Consiglio europeo a vantaggio del Parlamento può ricevere petizioni dei cittadini petizioni individuali dei cittadini dalle quali fa partire in molti casi dove lo merita ovviamente dove ci sia una ragione di farlo procedure di inchieste vi ricordate la mucca pazza la famosa vicenda della mucca pazza ma altre ne sono state io ho vissuto da vicino la storia dei rifiuti a Napoli la Commissione petizioni del Parlamento fu invasa letteralmente sommersa dalle petizioni di singoli cittadini comitati di cittadini eccetera da Napoli e provincia per la storia dei rifiuti e la Commissione si diedeva a fare non partì una Commissione d'inchiesta perché in quel caso fece prima la Commissione ad aprire la procedura di infrazione quindi non c'era più senso c'è un mediatore europeo che è un organo del Parlamento europeo che ha il compito di vigilare sulla cattiva amministrazione sui casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni delle altre istituzioni dell'Unione quindi vedete che c'è una serie di poteri notevoli che sono tipici di un organo parlamentare previsti dal trattato ma non basta perché in realtà il Parlamento europeo ha anche altri poteri che si è autodato possiamo dire in questo modo con quel classico processo che si attiva in un organo rappresentativo e democraticamente eletto e poteri non da poco le cito due soltanto che riguardano appunto la nomina della commissione la nomina formale della commissione che è disciplinata peraltro in un articolo del trattato e il Parlamento che si è inventato senza che fosse previsto da nessuna parte una procedura che i Parlamenti funziona che i Parlamenti per esempio degli Stati membri i Parlamenti europei non conoscono chiaramente ispirata questa procedura al sistema americano quello delle audizioni dei candidati commissari con la possibilità di bocciare un candidato commissario che fallisca diciamo così non faccia un buon effetto dinanzi alla commissione competente che l'ha udito e quando questo avviene cioè quando viene bocciato il candidato commissario quando è successo il primo è stato un italiano a suo tempo il ministro Buttiglione il candidato anzi non più ministro ma candidato Buttiglione il governo che l'ha indicato che l'ha designato lo cambia potrebbe tenerlo perché non è obbligatorio è una decisione che prende il Consiglio il Parlamento autonomamente non è prevista nel trattato ma lo cambia e l'ha sempre cambiato per il semplice fatto che poi il Parlamento deve approvare nella sua interezza la commissione e quindi se si ritrova quel candidato che ha bocciato il rischio qual è? Che venga bocciato tutta la commissione seconda cosa molto più recente che ulteriormente dimostra come il Parlamento europeo è riuscito a guadagnare posizioni di potere ma non in senso negativo ma in senso positivo di maggior suo peso nella dinamica politica istituzionale dell'Unione è il sistema degli spilsen candidaten termine tedesco che sta a indicare una figura che il Parlamento europeo ha creato con la sua risoluzione invitando prima delle elezioni del 2014 i partiti politici europei a designare prima delle elezioni un loro capolista candidato alla presidenza della commissione così da costringere il Consiglio europeo che deve fare per primo la proposta di candidato alla presidenza della commissione a scegliere lo spizzen candidat del partito politico europeo che ha avuto la maggioranza relativa alle elezioni Juncker per questo motivo è stato eletto e nonostante i malumori di molti capi di stato di governo riusciti in Consiglio europeo a partire da Cameron che non ne volevano sapere di cedere questa loro porzione di potere di discrezionalità a svantaggio di perdere questa loro porzione di discrezionalità a vantaggio del Parlamento europeo ora si discuterà se questo sistema delle spizzen candidat rimarrà si vedrà come andranno le elezioni che cosa deciderà il Consiglio europeo c'è tra l'altro un'importante riunione il 9 di maggio a Sibiu in Romania in cui il Consiglio europeo dovrà decidere alcuni aspetti del nuovo ciclo legislativo ciclo istituzionale europeo tra cui anche che posizione prendere questa volta rispetto a questa tra virgolette imposizione del Parlamento europeo allora detto questo perché bisogna votare il Parlamento europeo solo perché c'ha questi poteri certo perché c'ha questi poteri ma anche perché essendo l'espressione del principio democratico essendo nel senso l'ho detto prima che tutte le istituzioni dell'Unione sono democratiche ma essendo un'espressione diretta perché è eletto direttamente a suffraggio universale è quello che meglio risponde a un metodo di funzionamento dell'Unione che trae le sue origini nella nascita della comunità economica europea che è il cosiddetto metodo democratico in cui i governi hanno un ruolo importante perché gli stati sono naturalmente protagonisti della vita istituzionale e democratica dell'Unione ma che sono però compensati da delle controforze come queste della quella rappresentata dal Parlamento europeo ed io trovo che sia particolarmente importante in questo momento un'affluenza forte alle elezioni europee proprio per dare quella legittimazione democratica al nuovo Parlamento e potenzialmente in via indiretta la nuova commissione che scaturirà delle elezioni a fronte di una deriva intergovernativa che sta prendendo da un po' di tempo a questa parte soprattutto dalla grande crisi economica e finanziaria il processo di integrazione europea con questo è stato uno degli elementi negativi del trattato di Lisbona la legittimazione che è stata data dal trattato di Lisbona al Consiglio europeo il Consiglio europeo oggettivamente è diventato grazie alla sua qualifica formale come istituzione dell'Unione grazie anche agli accadimenti storici della crisi economica e finanziaria è diventato un protagonista assoluto della vita istituzionale decisionale dell'Unione europea uno potrebbe dire beh facciamoci una ragione che è composto dai capi di Stato e di Governo ora non ho il tempo per entrare troppo nel dettaglio di come funziona il Consiglio europeo dico però soltanto una cosa che per come funziona e per chi accuore invece la marcia del processo di integrazione il cammino del processo di integrazione è un cammino che non si può fermare e deve continuare sempre verso degli obiettivi nuovi il Consiglio europeo per come funziona è diventato non più quello che era all'origine prima del trattato di Lisbona un elemento di stimolo di indirizzo di un elemento per certi versi anche positivo per il funzionamento dell'Unione ma è diventato un fattore di blocco in molti casi perché avendo assunto un ruolo centrale addirittura nel processo legislativo anche se non formalmente perché non potrebbe ma indirettamente sta finendo per bloccare molte decisioni chiare ne cito solo una e qua mi fermo anzi poi se ho tempo voglio dire due cose soltanto cito soltanto una quella sulla ripartizione dei migranti che era una decisione che poteva essere presa a maggioranza qualificata dal Consiglio e che invece il Consiglio Europeo si è arrogato come decisione che condizionava quella decisione del Consiglio e quindi ciò che era previsto a maggioranza qualificata dal trattato è stato deciso all'unanimità e come tutte le cose all'unanimità evidentemente camminano poco l'ultima cosa soltanto che volevo dire secondo atto per rispetto al titolo della mia chiacchierata Parlamenti nazionali si sente spesso parlare letto anche in programmi in vista delle elezioni europee presentate da alcuni partiti politici anche da uno di governo ruolo dei Parlamenti nazionali allora Parlamento europeo potrà essere giustamente legittimamente ritenuto meritevole di ulteriori poteri di una maggior capacità di incidere democraticamente ma certamente il suo ruolo non può essere soppiantato o sostituito dai Parlamenti nazionali questo deve essere una cosa assolutamente chiara questo non vuol dire che i Parlamenti nazionali non abbiano un ruolo ce l'hanno importante in parte gli è riconosciuto dallo stesso trattato grazie al trattato di Lisbona prima è stato citato il controllo sul principio di sussidiarietà per esempio il trattato di Lisbona ha riconosciuto un ruolo importante che incide sul processo decisionale dell'Unione i Parlamenti nazionali possono presentare dei pareri sul rispetto di una proposta di legislativa della Commissione del principio di sussidiarietà altre forme ci sono di partecipazione la cooperazione interparlamentare ma sono due ruoli diversi quello del Parlamento europeo e quello del Parlamento nazionale il Parlamento europeo rappresenta l'interesse generale di 508 milioni di abitanti europei il Parlamento nazionale può essere pure quello tedesco particolarmente grande che rappresenta 90 milioni di abitanti ma rappresenta una porzione della popolazione e inevitabilmente non perché sia cattivo ma tende a tutelare l'interesse di quello Stato quindi significerebbe far riemergere sotto il cappello molto suggestivo e sexy del Parlamento nazionale i blocchi da parte dei sovranismi nazionali delle sovranità nazionali che invece di affidarle al Capo di Stato di Governo che si potrà risparmiare così di andare in televisione e giustificare perché ha bloccato una cosa di affidarlo direttamente al Parlamento nazionale grazie grazie professor Adam non so se ci sono domande da parte del pubblico io una domanda ce l'ho ovviamente ed è ricollegata sia a quello che ha detto da ultimo professor Adam sia una cosa che ha detto prima professor Adam ha detto i parlamenti nazionali non possono rappresentare non possono supplire svolgere una funzione di totale supplenza del Parlamento europeo perché rappresentano una parte dei cittadini europei cioè i cittadini italiani francesi spagnoli è semplifico un po' adesso professore da questo punto di vista sappiamo che all'interno del Parlamento europeo poi poiché come ha detto all'inizio le elezioni europee sono elezioni nazionali nel Parlamento europeo vanno a finire rappresentanti nazionali che di solito competono a livello nazionale sulla base di schieramenti partitici nazionali che poi nel Parlamento europeo trovano espressioni in raggruppamenti politici che sono diversi dai partiti nazionali allora una domanda uno se lui vede possibile che la mancata trasnazionalità dei sistemi elettorali della votazione possa essere supplita dall'emersione come pure sembra che sia accadendo di partiti trasnazionali cioè di partiti che pur non essendo formalmente trasnazionali si presentano nella stessa maniera in tutti o in alcuni degli stati membri non voglio citare perché come abbiamo detto non orientiamo il voto ma lo consigliamo primo secondo se il ruolo di non supplenza dei parlamenti nazionali non sia ulteriormente indebolito proprio della circostanza che poi comunque i partiti nazionali tendono a mandare al Parlamento europeo parlamentari che poi si raggruppano grosso modo per affinità poi è difficilissimo che il discorso sarebbe molto più complesso se ci sono aggruppamenti di politici nazionali ecco magari se ci può dire due parole su questi due profili così chiudiamo questa parte sì allora le dinamiche in termine al Parlamento europeo sono molto diverse per quanto gli eletti arrivino dai partiti nazionali che candidano alle elezioni europee ma poi quando ci si trova nella dinamica del Parlamento europeo saltano un po' gli schemi originari nazionali sentivo non per entrare in una questione politica ma sentivo l'altro giorno proprio Massimo De Cataldo che è il capogruppo dei 5 Stelle al Parlamento europeo che osservava come da statistiche proprio delle votazioni al Parlamento europeo risulta che loro hanno votato molto più spesso come il il PSE o il PDPE ma soprattutto il PSE che come invece ad esempio la Lega con cui sono il governo in Italia quindi vuol dire che poi gli scattano delle dinamiche diverse evidentemente si vota molto per argomenti non quindi più per partiti politici diventa veramente qualche cosa di assai complesso partiti trasnazionali partiti trasnazionali è certamente un processo e una direzione in cui si dovrebbe pensare più che alle liste trasnazionali in quanto tale quello di cui parlavo prima ma i partiti trasnazionali per esempio nella modifica recente del 2018 della legge elettorale europea dell'atto unico dell'atto elettorale europeo in cui si è prevista l'obbligatorietà della soglia elettorale io avrei visto non so perché nessuno ci ha pensato non mi ritengo particolarmente intelligente ma non so perché nessuno ha pensato nel momento in cui si introduceva l'obbligo si è introdotto l'obbligo della della soglia elettorale che la soglia non valesse per un partito affiliato a un partito trasnazionale per un partito nazionale affiliato a un partito trasnazionale che avrebbe stimolato l'aggregazione in partiti trasnazionali faccio un esempio i verdi italiani che sono tradizionalmente un partito minoritario che non quindi non ha nessuna speranza di entrare nel Parlamento europeo associandosi al partito verde europeo venendo così sottratto in questa ipotesi che facevo alla soglia elettorale potrebbe entrare a contribuire ad irrobustire il Parlamento europeo e il Parlamento trasnazionale europeo quindi sicuramente ci sono delle cose che si possono fare sui Parlamenti nazionali una cosa vorrei dire i Parlamenti nazionali hanno un ruolo fondamentale da svolgere che però è diverso da quello del Parlamento europeo i Parlamenti nazionali devono lavorare sui propri governi nazionali su come si sta in Europa da parte dei governi nazionali ad esempio vigilando direttamente sulla fase ascendente sulle posizioni che il governo prende in sede europea questo è il modo giusto per il Parlamento nazionale per diventare parte del sistema democratico dell'Unione in cui il sistema democratico che è fatto in una prospettiva circolare tanto dal Parlamento europeo quanto dai Parlamenti nazionali ma nell'ambito delle rispettive competenze grazie grazie ancora per la chiarezza e la competenza che si ha affrontato il tema del Parlamento europeo altre domande per il professor Adam bene allora alterniamo un'ora in adore l'ultimo che era il penultimo in realtà che è il dottor Argenziano grazie Antonio Argenziano che appunto è come dice il programma componente del Consiglio italiano del Movimento europeo del Cime è una rete di organizzazioni che mobila dei cittadini e sostiene un'unione democratica federale allargata ora senza dedicare troppo tempo alla descrizione del Cime evidentemente che noi conosciamo bene e che è ben conosciuto da tutti gli europeisti chiederei appunto ad Antonio di Antonio Argenziano di entrare in media stress nella sua relazione che peraltro è anche collegata a quella del professor Adam in quanto è evoluzione delle istituzioni dell'Unione Europea in Europa che cambia immagino che ci presenterà delle proposte del Cime rispetto alle future elezioni europee rispetto a quello che ci aspettiamo dal nuovo Parlamento e da tutti i nuovi organi e istituzioni dell'Unione Europea a te Antonio grazie grazie mille mi scuso innanzitutto per il ritardo in realtà ero arrivato in orario ma ho avuto mezz'ora a girare ho avuto la bazzanità di venire in macchina quindi chiaramente sono stato punito dal karma vabbè comunque al di là di di questa cosa qui sì andiamo direttamente in media stress anche perché insomma immagino che moltissime insomma gran parte delle riflessioni che sono state fatte prima hanno già un po' toccato tutti i punti principali quindi cercherò di fare un pochino anche una un rapido di dare uno sguardo un po' generale e poi di scendere appunto nelle proposte concrete anche nei all'interno dei dibattiti che poi sono quelli di proprio di questi giorni allora si è parlato prima dei ruoli del Parlamento europeo del ruolo anche del Consiglio europeo eccetera io partirei proprio da una constatazione di fronte alle alle crisi sistemiche che abbiamo vissuto negli scorsi negli scorsi anni che sono sostanzialmente per esempio per la mia generazione è difficile ricordare il periodo pre-crisi o almeno è difficile farlo con una particolare argomentazione e sostanzialmente queste crisi che sono partite con la crisi economica e poi si sono ampliate da quelle legate al terrorismo alle migrazioni politica essere di difesa con le guerre in Ucraina in Siria in Libia eccetera eccetera fa riflettere perché sono effettivamente le questioni problematiche che si sono sviluppate attorno alle competenze che ha il Consiglio europeo o che comunque deve affrontare il Consiglio europeo all'unanimità o che il Consiglio europeo come ci veniva ricordato prima o per cui il Consiglio europeo come ci veniva ricordato prima sia arrogato il potere di decidere all'unanimità e quindi stavo parlando chiaramente delle questioni economico-sociali banalmente tutte le proposte di riforma che erano già state presentate addirittura alcune dalla Commissione Barroso e poi di nuovo e ampiamente dalla Commissione Juncker sono state bloccate le famose i documenti dei quattro presidenti e poi sono diventati cinque presidenti il completamento dell'unione bancaria stiamo parlando di questa cosa ormai da un sacco di anni e ci si è fermati da quel punto di vista tutti quanti dicono tutti quanti dico l'hanno detto anche diversi capi di Stato a partire dallo stesso Macron ma l'hanno detto anche diversi esponenti tedeschi tutti quanti si sono espressi rispetto all'incompletezza in particolare delle istituzioni della zona euro che regolano la zona euro ma una vera e propria riforma in questo senso ancora ancora latta nonostante tante promesse tanti tentativi di accordi tanto è vero che si è arrivati sostanzialmente che l'unica cosa che di fatto si è concretizzata è un accordo diciamo così semplicemente tra Francia e Germania e questo chiaramente va a ripercuotersi va a ripercuotersi soprattutto per quelle zone del sud Europa che hanno vissuto maggiormente la crisi e qui naturalmente un pensiero all'Italia è doppio c'è chiaramente la questione della politica estera di difesa il ruolo di seconda se non di terza fila che ha avuto l'Unione Europea rispetto alla crisi per esempio Siriana è davanti agli occhi di tutti i problemi che ancora permangono con la Libia sono davanti agli occhi di tutti ogni tanto ci dimentichiamo di quanto anche in Ucraina la situazione sia tutt'altro che risolta tra l'altro ritornando alla Libia ci si collega a forse uno dei temi che ha colpito di più l'immaginario dal punto di vista mediatico che è appunto questo discorso delle migrazioni come viene giustamente ricordato prima il Parlamento Europeo a fine 2017 aveva già approvato una riforma degli accordi di Dublino che prevedeva un superamento del principio del primo paese di arrivo e prevedeva delle sanzioni per i paesi che si rifiutavano di ospitare i migranti secondo un sistema di ricollocamenti obbligatori ebbene questa riforma è stata bloccata ancora una volta dal Consiglio Europeo sostanzialmente per dirla in slogan l'Unione Europea funziona lì dove a decidere l'Unione Europea funziona di meno lì dove a decidere sono gli stati per il principio russoiano se vogliamo che semplicemente la volontà generale non è fatta dalla somma delle volontà singole e questo qua è un principio politico così come parlare di democrazia e poi sostanzialmente affidare le principali questioni del nostro tempo le principali crisi del nostro tempo quindi le principali decisioni del nostro tempo a un organo che deve decidere l'unanimità chiaramente anche questa è una grande contraddizione quindi questo è un po' il panorama in cui ci muoviamo e poi fare un'ultima prima di andare nelle proposte fare anche un'ultima precisazione se vogliamo storica storicamente molti hanno sempre interpretato il processo di integrazione europea con varie chiavi quella che chiaramente ha avuto la meglio è stata quella non funzionalista dei piccoli passi quindi sostanzialmente il processo di integrazione europea è sempre andato avanti per contraddizioni si è cominciato dal dover risolvere il problema dell'industria bellica francese e tedesca sostanzialmente all'interno del panorama della guerra fredda e da lì si è continuato lì dove si poteva andare avanti si è andato avanti e così siamo arrivati a fare tutti i vari passi siamo arrivati sostanzialmente fino a Lisbona in qualche maniera con qualche difficoltà con qualche errore con qualche cosa fatta bene non è questo il momento di parlarne per oggi quel tipo di approccio deve essere messo fortemente in discussione non perché debba essere sbagliato a prescindere ma perché siamo davanti a dei tempi particolari per spiegare questo approccio funzionalista molti hanno utilizzato una categorizzazione del processo di integrazione europea e va avanti per crisi iniziativa e leadership quindi di fronte a una contraddizione a una crisi c'è qualche spinta che poi diciamo dà la possibilità a dei leader europei tendenzialmente ai leader istituzionali europei di fare passi avanti dal punto di vista istituzionale questa cosa qui però non funziona più per un semplice motivo perché fino ad oggi è sempre o meglio fino alla 2004-2005 a maggior ragione fino alla crisi economica c'era sempre l'assunto che tutti davano per scontato gli europei il popolo europeo sono a favore del processo di integrazione se ci sono delle lentezze sono dovute ai problemi istituzionali sono dovute alle dinamiche politiche sono dovute a tutti questi meccanismi oggi non è più così e oggi non è più così non solo perché l'Unione Europea viene criticata nei suoi organi e nelle sue istituzioni ma non è più così perché vengono criticate ed attaccate anche i principi su cui si è fondata l'Unione Europea perché adesso andare a parlare in giro di democrazia pace e libertà non è più pacifico scusate il gioco di parole come era qualche tempo fa e capita di andare a parlare anche in alcune scuole si parla ai ragazzi e si dice l'Unione Europea ci ha portato 70 anni di pace scusate la banalizzazione però insomma è sicuramente una delle cose che viene comunicata e si dice allora a noi della fase non ci interessa più nulla e noi non sappiamo più neanche apprezzare veramente l'accoglienza la diversità la solidarietà lo stesso significato di libertà oggi va tantissimo scusate le espressioni un po' aggergate però insomma va un sacco di moda il mito dell'uomo forte in cui sostanzialmente i principi democratici vengono sacrificati sull'altare dell'efficienza politica anche perché perché si è sviluppato anche questo questo sentimento al di là dei vari fenomeni contingenti perché poi troppo spesso quando si parla di Unione Europea ci si dimentica che l'Unione Europea poi è all'interno di un mondo che sta insomma vivendo delle trasformazioni incredibili basti pensare alle rivoluzioni tecnologiche e alla globalizzazione che non sono certo dei fenomeni nuovi dal punto di vista storico sono secoli che vanno avanti globalizzazione e rivoluzione tecnologica ma con questa portata dal punto di vista di dimensioni soprattutto di numeri di esseri umani coinvolti e con questa velocità mai mai in passato quindi questa è una grande novità ebbene in questa novità l'Unione Europea non è stata in grado effettivamente l'Unione Europea e gli stati anzi soprattutto gli stati che la compongono non sono stati in grado di rispondere a queste necessità quindi molto spesso agli elettori soprattutto agli elettori giovani che sapete noi giovani tendiamo ad essere poco pazienti più passa il tempo meno pazienti siamo vogliamo le cose subito Amazon ci manda la roba in un giorno perché il Parlamento Europeo può risolvere il problema in due giorni ecco no noi siamo tutti impazienti e però la cosa che ci viene detta da un sacco di anni è però si andrebbe riformata l'Unione ma non si può fare si andrebbe fatta questa riforma ma non si può fare si andrebbe fatto questo ma non si può fare poi arriva qualcuno che si chiami Macron che si chiami Parlamento Europeo propone una roadmap un programma eccetera eccetera e puntualmente questo programma viene smontato all'interno del Consiglio Europeo capite che non è questo il modo per far avvicinare le persone a questo progetto politico in una fase così delicata però questa è una fase delicata e come tutte le fasi delicate raccoglie delle insidie e delle opportunità e ora l'opportunità principale su cui vorrei concentrarmi è proprio questa dicotomia che è una dicotomia politica tra il Parlamento e il Consiglio detto che appunto il Consiglio dell'Unione sta venendo sempre di più un po' risucchiato dall'influenza del Consiglio europeo poi non entro in differenze giuridiche anche perché non mi compete io sono storico non sono giurista quindi poi mi bacchettate o mi corrigerete come diceva qualcuno ma c'è un problema politico chiaramente c'è anche la Commissione Europea di mezzo negli ultimi anni abbiamo visto un sacco di volte la Commissione e il Parlamento o attaccati o addirittura ignorati dal Parlamento e quindi quando si va a parlare con i cittadini con le persone che noi chiamiamo al voto perché questo qua è uno degli obiettivi di fondo di questa iniziativa e di tantissime altre iniziative che tutti quanti noi stiamo portando avanti in questi giorni in questi mesi dobbiamo dargli una prospettiva dobbiamo dare corpo istituzionale alle loro richieste perché se non c'è un corpo istituzionale se non c'è qualcuno a cui chiedere del cambiamento a cui chiedere che si faccia qualcosa per uscire da una situazione che è percepita come una situazione di crisi basta vedere gli ultimi dati di Eurobarometro l'Italia è uno dei paesi in cui l'Europa l'Unione Europea viene percepita peggio cioè sono i paesi di vicegrad in cui l'Europa è percepita meglio rispetto a come la percepiamo la percepiscono i cittadini italiani e soprattutto l'Italia è uno dei paesi in cui c'è meno fiducia nel futuro meno fiducia nel futuro quindi vuol dire che c'è poca fiducia nella capacità della politica in prima battuta delle istituzioni in seconda battuta di rispondere a queste esigenze allora c'è bisogno che però qualcuno si prenda in carico queste cose qui perché altrimenti è normale se non c'è nessuna istituzione europea a cui chiedere qualcosa e da cui aspettarsi qualcosa si finisce che le elezioni europee diventano semplicemente un sondaggio che ci avvicina alle prossime elezioni politiche che tanto saranno anche qui nel senso finisce la campagna per le europee comincerà la campagna delle politiche sappiamo come funziona soprattutto come funziona qui in Italia ed ecco il ruolo del Parlamento europeo ecco il ruolo che noi dobbiamo chiedere al Parlamento europeo perché il Parlamento europeo deve essere considerato e deve essere comunicato come un alleato in questo periodo in questo il prossimo Parlamento europeo al di là della composizione perché i sovranisti non saranno la maggioranza del Parlamento europeo a me non preoccupa chi saranno i sovranisti nel Parlamento europeo a me preoccupa chi saranno gli europeisti gli amanti dell'Europa chiamiamoli come vi pare io li chiamerei federalisti ma questo qua insomma è sulla dal discorso di oggi chi cioè qualcuno che mette una bella ma non so visto che vanno tanti visto che si parla sempre di social magari mette sui social una cosa io amo l'Europa e viva l'Europa e poi va lì nel Parlamento e magari alla prima occasione si fa eleggere nel Parlamento nazionale o si fa eleggere in regione oppure alla prima occasione si finisce sostanzialmente per ricadere nelle questioni della politica nazionale e no e no allora non preoccupiamoci tanto di quale sarà la forza dei sovranisti preoccupiamoci di quali saranno i contenuti degli europeisti qual è il disegno di Europa che deve emergere dal prossimo Parlamento europeo quale sarà la forza politica che il Parlamento sarà capace di arrogarsi perché ce l'ha detto il processo di integrazione europea e ci è stato confermato anche dall'intervento precedente non è tanto i poteri che il Parlamento ha ma è tanto i poteri che il Parlamento avrà o sarà capace di arrogarsi perché il Parlamento è l'organo che rappresenta e deve rappresentare il popolo europeo come collettività la rappresentanza dei singoli stati delle diversità dagli stati si lascerà appunto agli organi statali che poi siano governo o siano i parlamenti nazionali questo è un altro dibattito ma concentriamoci su questo ruolo che deve avere il Parlamento e in questo senso il Parlamento è chiamato necessariamente a riformare l'Unione e deve riformarla soprattutto tramite delle politiche che riescono ad arrivare al cuore del problema ovvero al cuore dei cittadini il Parlamento europeo deve essere capace di prendersi quella porzione di sovranità ora ci sono tantissime discussioni su che cosa voglia dire e che cosa non voglia dire sovranità per me quella che funziona di più soprattutto adesso è quella che aveva dato tempo fa Draghi che diceva sovrano è colui che ha la capacità di risolvere i problemi al prossimo Parlamento europeo deve essere chiesta questa volontà la volontà se non altro di risolvere i problemi è chiaro che alcuni poteri non ce li avrà però dovrà arrogarseli com'è che abbiamo l'Unione europea l'Unione europea ce l'abbiamo perché nel Parlamento europeo attorno al famoso Club del Coccodrillo di Spinelli eccetera si è creato un gruppo di consenso che ha sostanzialmente superato anche quelle che erano le possibilità del Parlamento di allora che era il primo Parlamento eletto per proporre una riforma poi quella riforma non era chiaramente quella che si aspettava Spinelli eccetera però quella riforma ha posto le basi per avere appunto l'Euro per avere tutti gli enormi passi avanti che sono stati fatti certamente tra il 1979 e il 2019 però ripeto questo deve essere la prospettiva quindi dal punto di vista innanzitutto emergenza climatica l'emergenza climatica è una dei penso delle proposte politiche che più mobilitano soprattutto le giovani generazioni ne avete avuto una prova quando era venerdì scorso poi c'è chiaramente la questione migratoria rilanciare la capacità del Parlamento europeo perché il Parlamento europeo aveva avuto la capacità di mettere d'accordo un'ampia maggioranza perché non è stato approvato quel 51% per il rotto della cuffia la riforma di Dublino è stata approvata con oltre il 70% allora vuol dire che c'erano deputati di ogni parte politica e di ogni partito che avevano trovato effettivamente un modo per cominciare a dotare le istituzioni europee degli strumenti per affrontare le crisi migratorie anche perché tutti se la prendono con l'Europa sulle migrazioni ma dal punto di vista giuridico l'Unione europea non ha gli strumenti per affrontare la questione si dice sempre è colpa dell'Europa è colpa degli stati che non danno all'Europa la possibilità di farlo questo qua era una piccola parentesi e poi sulle questioni economiche sulle questioni economiche c'è soprattutto il sud dell'Europa in cui chiaramente i livelli di disoccupazione e di disoccupazione giovanile sono preoccupanti ora che noi abbiamo delle sensibilità di destra o di sinistra è dovere degli organismi comunitari affrontare il tema c'è per esempio stato un ampissimo dibattito sull'assicurazione sull'identità di disoccupazione a livello europeo che venga portato avanti quel dibattito e a quel punto a quel punto si sarà cominciato a dare delle risposte ai cittadini perché poi il modo per comunicare meglio ai cittadini non è tanto informarli perché perdonatemi una piccola postilla che io vorrei sempre cercare di fare il problema dell'Europa non è che l'Unione Europea che i cittadini non sono abbastanza informati rispetto a come funzioni a come venga eletto il Parlamento europeo o almeno non è solo quello perché se andiamo a fare un sondaggio in giro c'è un sacco di gente che anche in Italia non conosce il nome del Presidente della Repubblica e non è in grado di spiegare in 5 minuti come venga eletto il Presidente del Consiglio non è tanto quello il problema e soprattutto ridursi alla semplice informazione rischia di dare ai cittadini un messaggio problematico rischia di dire guardate che l'Unione Europea funziona siete voi che non lo capite e però no non è vero perché i problemi in realtà sono qui che li tocchiamo li tocchiamo i problemi i problemi sono assolutamente reali ed è compito della politica affrontarli e quindi poi diciamo sia nel Movimento europeo sia anche nella gioventù federalista europea diciamo questo doppio cappello parliamo di processo costituente tutti quanti voi e anche io potremmo dire parlare di processo costituente è sicuramente prematuro in parte è vero però qualcuno deve pure cominciare a farlo facciamo un calcolo puramente politico ripeto non mi avventuro in ragionamenti giuridici che non mi competono mi avventuro però in quelli politici dal punto di vista politico se andiamo in giro e parliamo di l'Europa ha bisogno di riforme questa è una cosa che noi in Italia siamo sentiti dire da quanti anni io onestamente non ho ricordi di quando c'è bisogno di riforme adesso facciamo le riforme tutti dicono che dobbiamo fare le riforme però poi queste riforme non succedono mai qual è invece la cosa che almeno in Italia riesce ancora a risvegliare un minimo di immaginario è proprio quella la Costituzione ripartire dalle basi anche perché dobbiamo ridefinire su che cosa è fondata questa Unione europea perché poi nel Tatto di Lisbona c'è scritto che bisogna rispettare le diversità e però vediamo gli attacchi terroristici vediamo basti vedere gli studi di Amnesty sull'aumento dei termini violenti nelle campagne elettorali sono gli studi adesso tra l'altro dovrebbe uscire lo studio aggiornato nel 2018-19 oppure cioè questa è noi dobbiamo essere in grado di ancora una volta rispetto sulle questioni di valori della Costituzione ridare questo senso di appartenenza perché per esempio c'è scritto c'è scritto che bisogna affrontare le questioni legate alla disoccupazione però ai cittadini non arriva questa capacità dell'Unione di affrontare questi temi c'è scritto che bisogna affrontare le questioni legate alle emergenze climatiche e l'Europa se per questo è l'unico posto al mondo in cui questo problema viene posto e viene posto seriamente ma con i limiti chiaramente dei programmi europei allora bisogna ripartire come prima cosa come prima cosa prima ancora di entrare nei tecnicismi perché tanto i tecnicismi sono già lì pronti quanti proposte di riforma sono state fatte negli ultimi anni e vogliamo dire che il lavoro che è stato fatto da Schumann Monet prima Adenauer De Gasper eccetera passando per i lavori è stato fatto da Spinelli da Delors da Mitterrand Ecole eccetera tutto quel lavoro lì fino a arrivare a Prodi fino a arrivare a Giscar tutta quella roba lì tutto quello può essere tranquillamente ripreso il trattato di Lisbona sostanzialmente comprende tra il 70 e l'80% delle cose che erano già scritte nel trattato Spinelli nell'83 84 allora riprendiamo quelle cose lì riadattiamole però soprattutto dal punto di vista politico usciamo da questo impasto usciamo dal non possiamo fare le cose anche perché chi vuole distruggere l'Europa adesso proprio questa retorica sta usando gli altri non possono fare le cose e noi invece le cose le facciamo ci dicono che non possiamo uscire dall'euro ci dicono che non possiamo fare la riforma economica X o la riforma economica Y e noi la facciamo uguale e questa è uno dei punti di forza allora bisogna cominciare a disarmare chi ha questa retorica e soprattutto ad armare il campo di chi ha a cuore l'interesse dell'Unione Europea e chiudo perché l'Unione Europea non continuerà a sopravvivere se tutti quanti alzeremo gli scudi per difenderla ma l'Unione Europea continuerà a vivere e a proliferare se tutti quanti oltre a difenderla saremo anche in grado di riformarla e riformarla in quel senso che noi vogliamo dare che è il senso di coerenza anche rispetto alle origini del processo di integrazione europeo grazie grazie non so se ci sono domande per lui leggo nella sua appassionata relazione soprattutto una forte critica proprio all'Unione Europea che mi sembra che fra le linee si legga un eccesso di timidezza delle istituzioni europee degli europeisti dei parlamentari europei di tutti coloro che hanno la targa europea rispetto agli attacchi che vengono al processo di integrazione in un'ottica che vede ancora mi sembra questa contrapposizione stati da una parte Unione Europea dall'altra anche se noi sappiamo benissimo che l'Unione Europea è fatta dagli stati è fatta dai governi e quindi questa distinzione così netta non si può tracciare e non so se sia tatticamente consigliabile tracciare una distinzione così netta fra Stati dell'Unione Europea però queste sono riflessioni che ci porterebbero più avanti e ben al di là io non ho personalmente domande se non ci sono domande a questo punto grazie posso aggiungere una cosa su questa sua osservazione perché è vero però in realtà chi ha impostato la dialettica sul Stati contro l'Unione Europea sono i cosiddetti sovranisti o meglio sono coloro che hanno cominciato per primi ad andare al Consiglio Europeo e a rivendicare come vittorie proprie i risultati positivi e come colpa dell'Europa ce lo chiede l'Europa i risultati negativi tra l'altro sappiamo benissimo che non è stato per esempio in Italia l'ultimo governo a cominciare a usare questo tipo di dialettica e non è tanto un discorso di critica alle istituzioni o meglio la mia critica è una critica alla timidezza in generale di chi alle volte si nasconde dietro la bandiera europea invece di sventolarla con orgoglio indicando la strada verso cui si dovrebbe andare quello è il problema perché lì si lascia spazio invece a chi l'Europa la vuole distruggere e quello è un po' il diciamo la sfumatura un uomo forte europeo? no no un Parlamento forte europeo una società civile forte europea quello è il insomma va bene grazie 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 siamo quasi alla fine di questa lunga giornata grazie Antonio grazie a questo punto chiamerei nuovamente qui con me Maria De Laide Ranchino come dice responsabile di tutta rete dei CDE italiani e abbiamo anche con la anche la poetessa Massia Teofilo De Laide per alcune parole conclusive e poi abbiamo la lettura da parte della poetessa Marzia Teofilo di una poesia appositamente dedicata all'Unione Europea prego venga qui accanto a noi avevo predisposto delle piccole eseme proprio pochissime slide illustrative di che cosa fa la rete dei centri di documentazione europea spero che diciamo questo evento questo event di oggi sia stato il vostro un attimo che avrò no sbagliato volevo solo darvi qualche informazione su che cosa sono i centri di documentazione europea che poi oggi hanno realizzato questo evento chi siamo i centri di documentazione europea sono una rete informativa della Commissione europea e sono un punto chiave di informazione sulle istituzioni e sulle politiche dell'Unione Europea adesso va in scusate in Italia sono 52 centri su tutto il territorio nazionale e sono coordinati dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea se volete delle informazioni su quello che fa la rete dei centri e sugli indirizzi di questi 52 centri abbiamo il sito della rete italiana dei centri di documentazione europea che è cteita.it dove potete trovare tutte le informazioni e tutte le iniziative che la rete e i vari centri che sono praticamente ospitati in università centri di ricerca e da quest'anno praticamente sono stati aperti anche negli enti locali abbiamo appunto qui nel Lazio il comune di Bassiano e il comune di Latina che ospitano e quindi la rete dei CDE di Roma e del Lazio si è aperta anche ad altri colleghi di enti locali solitamente fino a qualche anno qua appunto i centri di documentazione erano soprattutto in centri di ricerca diciamo in università biblioteche universitarie e biblioteche di centri di ricerca appunto però l'Europa ha voluto aprirsi anche agli antilocali cioè ad essere più vicina al pubblico più vicina al cittadino e quindi ha dato la possibilità appunto di aprire questi centri anche in comuni in contesti più piccoli più vicini al cittadino la nostra rete ha trovato tutte le informazioni con tanti europei che nazionali nel nostro sito internet lavoriamo in rete come lo avete potuto vedere e questa diciamo l'evento di oggi è proprio la rappresentazione di come si lavora in rete e come siamo appunto lavoriamo in sinergia e riusciamo a diciamo a soddisfare le esigenze degli utenti che vengono a trovarci soprattutto perché siamo vicini al pubblico e diamo diciamo supporto non solo al mondo accademico ma anche al cittadino allo studente che vuole fare la sua tesi di laurea e cerchiamo appunto di dare più informazioni possibile e di pubblicizzare i nostri eventi le nostre iniziative i nostri convegni sull'Unione Europea ogni anno presentiamo dei progetti di rete in questi ultimi tre anni abbiamo fatto nel 2017 ricorrevano i 60 anni di Unione Europea quindi abbiamo fatto una serie di eventi della rete su questo argomento lo scorso anno ricorreva l'anno europeo del patrimonio culturale e anche qui tutta la rete si è mossa per fare degli eventi che riguardassero appunto questo hanno questo obiettivo appunto di mettere in luce questi argomenti particolari che vengono scelti da tutta la rete e quest'anno appunto è stata la primavera dell'Europa in vista delle elezioni del 2019 abbiamo realizzato in questa settimana che va dal 18 al 25 prossimo appunto lunedì prossimo una serie di eventi sia nell'università nei centri di cerca nei comuni nelle scuole proprio per avvicinare i cittadini al vuoto questa è appunto la locandina del nostro evento e volevo solo darvi alcune informazioni non so se si legge ma comunque in questa locandina che è siamo l'Europa Roma e nel Lazio trovate tutti i nostri riferimenti e recapiti per poterci contattare io qui ho semplicemente fatto una carrellata dei CDE che sono a Roma e nel Lazio partendo dal CDE dell'Agenzia della Poesione Mediteritoriale che sta in via Sicilia e Marina è la responsabile poi c'è il CDE del Consiglio Nazionale delle Ricerche dove ci sono io quindi mi trovate il CDE appunto ospitato da Roma 3 e poi il CDE della Biblioteca dell'Aggiunta Regionale della Regione Lazio il CDE della Lursa il CDE ospitato dall'ICCU l'Istituto Centrale per il Parlamento Unico delle Biblioteche Italiane il CDE Spinelli che è ospitato dalla Biblioteca della Sapienza della Facoltà di Economia il CDE della Scuola Nazionale dell'Amministrazione il CDE della SIOI Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e infine i due comuni di nuovi new entry il comune di Bassiano e il comune di Latina l'ultima slide che vi presento è questa è un sito che ha predisposto il Parlamento del Parlamento Europeo che è un portale dove potete trovare cosa fa l'Europa per noi quindi vi posizionate nella mia regione se vi interessate a sapere cosa fa nell'Azio dell'Unione Europea oppure che cosa fa per me l'Unione Europea che cosa può fare per il mio lavoro che cosa può fare per la mia vita quotidiana che cosa c'è diciamo le ultime novità in primo piano e quindi vi invito a consultarlo proprio per anche per curiosità personale si può vedere veramente ci sono piccole pillole piccoli riassunti abstract e anche delle informazioni veramente utili per capire che cosa fa l'Europa per te perché se ne dicono tante ci sono tante fake news che girano e l'Europa appunto è sempre maltrattata tra virgolette in questi ultimi tempi soprattutto e quindi ecco scoprire invece che l'Unione Europea è molto più vicina di quanto crediamo veramente importante quindi vi invito a consultarlo e a scoprire appunto cosa fa l'unione per noi vi ringrazio e diciamo in chiusura volevo far parlare sì 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 prego prego grazie grazie a te grazie a te per aver presentato la rete dei cipiè noi come momento celebrativo e di chiusura della nostra bella per il so giornata di cui io sono molto contento abbiamo pensato di invitare grazie all'intervento del cipiè della Russia di Milena la poetessa Marzia Teofilo un'antropologa brasiliana ma soprattutto una poetessa che ha vinto numerosi premi letterari più volte candidata al premio Nobel anche quest'anno che si occupa che ha molto a cuore la foresta amazzonica la conservazione della foresta amazzonica che si è occupata largamente nella lotta contro la deforestazione il sabbataggio dei popoli indigeni della foresta amazzonica e che ha voluto dedicare in questa giornata una poesia all'Europa sperando che questo sia di buon auspicio per le elezioni del Parlamento Europeo per qualsiasi sorte che vedrà la nostra bella Europa quindi lascerei alla poetessa che ringrazio di essere qui la lettura della candidata per il Nobel abbiamo detto la lettura di questa bella poesia e in chiusura del nostro evento grazie Europa dei popoli Europa dei popoli Europa il nome Europa ha origine greca e si chiama Mater Dea Lumba si chiama Europa bevi le piogge portate dal vento nuvole che hanno pascolato nei mari di continenti fiumi lontani polini schiavi trascinati dall'Africa soldati dall'America in Europa combattere Leonardo da Vinci con gli occhi rivolti al cielo e agli uccelli i segni per una macchina leggera librata volanti tepore fiori dolori per canzoni melodie pensieri profondi e sbocciati in Medio Oriente in Grecia e Magna Grecia Roma cui hanno bevuto Alemani Galli Iberici Siriani Turchi Tunisino Tunisini sostano e riportano in giro attorno e lungo agli argini a tratti del sapere si chiama Europa Europa dei popoli Europa dei popoli questo è un messaggio che ho fatto per l'UNESCO per la biodiversità 2010-2020 la biodiversità la varietà di specie viventi gli esseri umani e quelli che vivono negli invisibili le divinità e i miti si trasformano l'uno nell'altro anche la nostra cultura sparirà come le nostre parole la terra è un organismo vivente di per sé capace di generare la sua autodifesa la mia voce la mia opera la opera di tutti i guardiani della foresta come quella dell'UNESCO del RUVF sono generati da quella parte di autodifesa della natura la parte opposta che tende alla distruzione si nasconde dietro al falso sviluppo di un'economia che bada a un equilibrio possibile e nasconde dietro al falso sviluppo lasciando deserti e disastri insensabili insensabili la perdita della diversità genetica e la distruzione degli ambienti naturali sono frutto dell'ottosità contemporanea che le nuove generazioni non saranno disposti a perdonarci con la mia poesia cerco l'origine antica del nome degli alberi degli animali dei fiumi ascolto la mia memoria e fra i suoi miandri ricerco delle parole che avevano il sono e il significato delle cose detti dai popoli antichi della foresta scrivo queste parole e questi sogni e ad essi seguono sogni e sentimenti di estasi terrore a Bari noi sarvorish vivemo vivemos de chuva de orvalhos eternos e das neblinas dos rios e dos oceanos de vapores matutinos e delicadas névoas durante o dia o calor dos raios do sol dilata os nossos corpos sublunares que absorvem assim no profundo o delicadissimo orvalho noturno noi alberi viviamo di piogge di rugiate eterne delle brume dei fiumi degli oceani di matutini vapore e delicate nebbie durante il giorno il calore dei raggi del sole dilata i nostri corpi sublunari che assorbono così nel profondo la suavissima rugiada notturna acqua pensavi di dormire nel nido della terra ma così non fu sei spessa solida liquida sei viva ma non lasciavi non sorvivere senza di te acqua pensavi di dormire nel nido della terra ma così non fu grazie grazie a Marcia Teofilo per questa bella poesia che ha voluto dedicare all'Europa grazie per il tuo impegno abbiamo qui il direttore non so se vuoi dare un saluto conclusivo ottimo allora quindi ancora ringraziando tutti per la partecipazione ringraziando tutti i CDE di Roma e del Lazio ringraziando la poetessa Marcia Teofilo grazie ogni parola un essere ne faremo dono alla nostra biblioteca del dipartimento di questo bel volume vi saluto tutti e vi invito alle prossime attività dei centri di documentazione europea a breve e nel lungo periodo grazie a tutti e buon rientro a casa grazie